Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti Vincent Van Gogh di Giordano Bruno Guerri Vincent Van Gogh definì la sua vita come la discesa infinita è una bellissima definizione perché quel grande pittore ha vissuto la sua breve esistenza anno dopo anno in un modo sempre più dolente e doloroso eppure anno dopo anno la sua arte divenne sempre più potente, unica e meravigliosa Van Gogh fece esplodere la forma e il colore gettò il seme di quello che sarebbe diventato la pittura con gli espressionisti e addirittura con l'arte astratta è il padre della pittura moderna Era pazzo? Questo è uno degli argomenti di cui ci occuperemo io comunque vi anticipo che non lo credo affatto se era pazzo la sua è una formipartia molto speciale Vincent Van Gogh nacque il 30 marzo 1853 esattamente 134 anni dopo il 30 marzo 1987 uno dei suoi dipinti più famosi i girasoli, tutti l'abbiamo in mente venne venduto a un'asta di New York per 40 milioni di dollari ma lui era morto molto tempo prima disperato si uccise nel 1890 a 37 anni sconosciuto e poverissimo eppure è uno degli uomini a cui la sensibilità moderna cioè noi deve di più e la società moderna lo ripaga facendone una specie di santo laico buono, generoso, eroico fu però un essere disgraziato e che diffondeva intorno a sé infelicità eppure nonostante questo suo essere disgraziato nel doppio senso di colpito da disgrazie riportatore di disgrazie ci ha riempito di bellezza la sua è una vicenda straordinaria è la storia di un piccolo uomo che sfidò la società e la cultura del tempo e l'universo intero sicuro di vincere e vinse anche se vincere gli costava la vita una vita dissipata minuto dopo minuto in privazioni di ogni genere fino al sacrificio finale con una coerenza sostenuta solo da un'incrollabile fede in sé stesso la vita è breve per tutti e il problema sta nel farne qualcosa di valore scrissa nel 1885 e della sua vita prima ancora che della sua pittura fece un'opera d'arte proveremo dunque a raccontare a capire chi era davvero Vincent Van Gogh e perché la sua opera ci appassiona tanto Zundert dove nacque è all'estremo sud dell'Olanda a quei tempi aveva poco più di 100 abitanti ma era abbastanza famosa come stazione di sosta per i cavalli e le carrozze che andavano da Parigi al nord dell'Europa ci si erano fermati anche Napoleone e molti altri re poi la ferrovia l'aveva tagliata fuori oggi l'autostrada e la fama di Vincent l'hanno fatta rinascere e Zundert è un florido villaggio di 7500 abitanti i quali devono molto all'illustre concittadino per il turismo che vi porta anche se di Vincent e della sua famiglia rimane ben poco da un lato della strada principale attorno alla quale si raggruma il paese si riconosce subito la chiesa che era stata la parrocchia del padre di Vincent il quale era un severo ma gentile pastore protestante in una regione notiamo a maggioranza cattolica la casa natale è stata abbattuta nel 1903 e ora sulla nuova palazzina c'è una semplicissima targa gli abitanti di Zundert hanno le stesse facce larghe e piatte dei tessitori e dei mangiatori di patate tante volte dipinti da Van Gogh ma oggi sono rosse, grasse, lucide il viso affilato e spalviero di Vincent non ha niente a che farci nel giardino davanti alla chiesa dove il padre di Vincent faceva il pastore ci sono alcune tombe e su una di queste di pietra antica inclinata si legge Vincent Van Gogh 1852 lasciate che i pargoli vengono a me giacché a loro appartiene il regno di Dio Luca 186 non è la tomba di Vincent ma quella di suo fratello nato morto esattamente un anno prima di lui addirittura lo stesso giorno il nostro piccolo Vincent dunque passava davanti alla propria tomba ogni volta che andava in chiesa cioè spessissimo vista la professione del padre dunque non occorre essere Freud per capire che vedersi sotto gli occhi tutti i giorni una tomba con il proprio nome non può fare bene alla testa di un bambino Umberto Nagera psicanalista esperto in disturbi nervosi dell'infanzia ha dedicato a Vincent un saggio che parte proprio da quella pietra il suo studio sostiene che la sostituzione di un figlio morto con un altro subito dopo e per di più con lo stesso nome porta traumi gravissimi al sopravvissuto perché il bambino sa che non sarebbe nato senza quella morte e il senso di colpa lo tormenta per tutta la vita portandolo a una disperata voglia di espiazione probabilmente è quello che successe anche a Vincent Van Gogh ma la spiegazione clinica non ci soddisfa del tutto perché la disperazione di Van Gogh che lo portò fino al suicidio fu consapevole e lucida e dovuta anche ad altri motivi ma di certo quella pietra fu un drammatico memento mori per il piccolo Vincent romantico in un secolo romantico la morte fu la prima cosa che imparò e ci prese confidenza come accade in molte vite non comuni è incredibile come Vincent sia riuscito a diventare Van Gogh la sua era un'ottima famiglia orlandese anche se il nome significa Digok una cittadina della Westfalia tedesca dove ci sono tracce della famiglia fin dal Cinquecento i Van Gogh erano ammiragli alti prelati e soprattutto mercanti d'arte ma Theodorus il padre di Vincent come abbiamo detto era un semplice pastore protestante il più umile della famiglia mentre i suoi fratelli hanno posizioni socialmente migliori o addirittura ottime lui fa il prete di paese e pensa sì che avrebbe meritato di meglio ma che il signore ha voluto così e sereno era assegnato da lui il figlio che sarebbe diventato celebre ereditò una scarsissima capacità dialettica Van Gogh era un parlatore veramente modesto timido, imbarazzato, farfugliante e suo padre, il pastore era poco brillante nei sermoni una vera disgrazia per uno che fa quella professione e Van Gogh non ne ricevette neanche la stessa fede in Dio che in Vincent fu più tormentata e molto meno salda fino alla disperante crisi religiosa quanto alla mamma si chiamava Anna Cornelia era una pia donna di due anni maggiore del marito che scriveva bene lunghe lettere ai familiari come si usava all'epoca una capacità quella di scrivere che trasmise per fortuna a Vincent che era uno scrittore molto migliore che come oratore Anna Cornelia dette al primo genito Vincent cinque fratelli fra cui Teo di quattro anni più giovane lo incontreremo spesso in questa storia perché fu l'unico della famiglia a cui Vincent si sentì davvero legato e citeremo spesso perché sono un documento straordinario e preziosissimo e anche di bella lettura le lettere di Vincent a Teo che sono state pubblicate anche di recente dall'editore Guanda lettere a Teo di Vincent bambino invece sappiamo poco leggeva moltissimo e non stava molto volentieri con gli altri bambini forse anche perché lo prendevano in giro per i capelli rossi e per una certa area da vecchio che aveva fin da piccolo di Vincent bambino sappiamo poco tutti coloro che lo conobbero di persona a quell'epoca lo descrissero chiuso in se stesso e di carattere irritabile se non irascibile la sorella minore Elisabeth che scrisse un libro di memoria sul fratello lo descrive così di complessione più robusta che longilinea la schiena un po' curva per la cattiva abitudine di guardare sempre per terra i capelli rossicci tagliati corti sotto il cappello di paglia che faceva ombra sul suo strano viso non era la fisionomia di un ragazzo la fronte era già solcata leggermente da rughe le sopracciglie aggrottate per l'abitudine alla riflessione quasi si congiungevano in mezzo alla fronte sopra gli occhi piccoli e infossati ora azzurri e ora verdi a seconda che l'impressione provocata dalle cose d'intorno penetrava più o meno profondamente nella sua coscienza nonostante l'amore fraterno si vede che evidentemente il ragazzo non era proprio una bellezza Vincent non mostrò particolari propensioni alla pittura se non per un disegno fatto a undici anni è un disegno che è arrivato fino a noi perché la famiglia ne fu talmente fiera come spesso capita in famiglia da incorniciarlo in seguito però gli stessi genitori dimostreranno di avere ben poca comprensione per l'attività pittorica del figlio quel disegno raffigurava un podere con una tettoia e secondo alcuni critici esprime già un autentico dono di natura certo è che Vincent arriverà tardi alla pittura e dopo un durissimo lavoro di esercizi e di studi da autodidatta senza credere in se stesso fino al giorno in cui d'improvviso scoprì la meraviglia del suo genio fin da piccolo Vincent mostrò piuttosto di avere un'attenzione speciale verso la natura scrive ancora alla sorella Elizabeth mio fratello si allontanava dagli altri bambini zitto zitto lasciava il giardino passando da una porticina attraversava i campi e seguiva un sentiero che conduceva in campagna quindi si dirigeva verso il ruscello i bambini se ne accorgevano dalla bottiglia e dalla rete che portava con sé sapevano infatti che aveva un'abilità particolare nel catturare gli animali acquatici Elizabeth racconta anche che il fratello conosceva tutti i luoghi dove crescevano i fiori più rari e cercava sempre posti solitari dove non avrebbe incontrato mai un compaesano per poter spiare la vita di ogni specie di animali di insetti e soprattutto gli uccelli sul suo tormentato rapporto con la natura Vincent scriverà a Theo nel 1881 in piena attività pittorica la natura comincia sempre col mostrarsi refrattaria a chi vuol disegnare ma se si è profondamente intenzionati a farlo non ci si lascia sviare dalla sua ostilità al contrario essa stimola a vincere e in fondo il vero disegnatore e la natura sono d'accordo non di meno è certo che la natura è intangibile occorre afferrarla con mano ferma a quei tempi l'Olanda o meglio i Paesi Bassi era in un periodo di pace e di prosperità l'intera esistenza di Van Gogh si svolse sotto il regno di Guglielmo III re dal 1849 a 1890 benché tutto ciò interessasse pochissimo a Vincent sempre più sognatore al governo c'erano i liberali che dettero avvio all'industrializzazione e favorirono un grande sviluppo del commercio vera anima del carattere olandese anche grazie alle colonie conquistate nei secoli il nostro Van Gogh però non aveva nessuna propensione al commercio e al fare denaro anzi a undici anni nel 1864 i genitori decidono di metterlo in collegio in un paese a 30 chilometri da Zundert perché a scuola non rendeva molto come si sa accade a molti bambini che poi daranno grandi prove di sé pensano che il loro primo genito non possa imparare più niente da una scuola pubblica con un maestro che è troppo spesso ubriaco e temono che la vicinanza con gli altri bambini del villaggio per lo più di famiglie contadine possa avere una cattiva influenza su di lui nel collegio Vincent imparò piuttosto bene il francese e l'inglese e anche il tedesco ma dei due anni che trascorse in collegio non si sa altro come non si sa niente dei due anni successivi in un altro collegio comunque a 15 anni la famiglia decise di fargli abbandonare gli studi dove evidentemente proprio non brillava affatto a quell'età 15 anni raccomandato da uno zio mercante d'arte Vincent divenne il più giovane impiegato della Goupil a Laia la Goupil era una galleria d'arte internazionale di proprietà di uno zio di Van Gogh che si occupava soprattutto di artisti contemporanei neoclassici romantici francesi e olandesi fu proprio lì però che si sviluppò l'amore di Van Gogh per l'arte e fu lì che fece la prima conoscenza dei pittori in carne ed ossa Van Gogh visitò certamente anche gli importanti musei pubblici della città e prima ancora di compiere 19 anni la sua sete di conoscere lo portò a visitare Bruxelles Londra e Parigi era un uomo curiosissimo di tutto del mondo dell'arte gli piaceva enormemente soprattutto cambiare città vedere posti nuovi intanto anche il fratello Teo viene impiegato nella stessa ditta ma a Bruxelles e Vincent gli scrive entusiasta mi fa tanto piacere che siamo ora nello stesso ramo e nello stesso commercio in futuro dovremo scriverci regolarmente fu l'inizio di un epistolario che è divenuto la storia di una vita eccezionale e uno dei documenti scritti più straordinari della storia dell'arte il fratello minore di Vincent Van Gogh Teo è completamente diverso dal fratello è bello per bene ordinato e oculato il suo grande merito fu di avere intuito il genio di Vincent e di averlo aiutato economicamente anche se con molta parsimonia per tutta la vita e la sua mediocrità di piccolo benpensante risalta in tutta la vicenda al fratello che continuerà per tutta la vita il mestiere di mercante d'arte Vincent scriverà oltre 650 lettere nelle quali sembra che più che a un fratello si rivolga all'intera umanità esprimendo con precisione e sottigliezza i propri sentimenti e i propri pensieri Van Gogh era uno scrittore semplice ma efficace tanto che uno dei suoi maggiori studiosi Mer Shapiro ha definito quelle lettere un monumento d'autorivelazione degno di figurare accanto alle opere dei grandi scrittori russi maestri di confessioni Shapiro forse esagera con l'entusiasmo tipico dello studioso che ama l'oggetto dei suoi studi ma certo anche noi ci varremo spesso distrarci di quelle lettere infatti capite bene che la radio è uno strumento eccezionale ma non consente di mostrare i quadri purtroppo per fortuna però le opere di Van Gogh il suo stile inconfondibile ci sono impressi nella memoria per sempre non abbiamo neanche bisogno di vedere i quadri non c'è bisogno di averli sotto gli occhi per ricordare quel tratto speciale del pennello l'incanto e la vivezza dei colori il tormento di forme uniche e ripetibili nelle intenzioni della famiglia il lavoro di Vincent nella galleria Gupil dove l'avevano messo a lavorare grazie agli zii quel lavoro doveva servire da apprendistato il ragazzo poteva fare carriera come infatti sarebbe capitato a Teo che avrà una vita serena e borghese e al contrario di Vincent lasciò discendenti era suo bisnipote infatti e portava il suo stesso nome quel regista Teo Van Gogh che nel 2004 venne ucciso con otto colpi di pistola e poi sgozzato da un estremista islamico per un suo film sul mondo musulmano stranezza della genetica quel nipote per il suo carattere per la sua tempra artistica e per i suoi atteggiamenti anticonformisti era molto più simile a Vincent al prozio Vincent che al bisnondo Teo in negozio Vincent è serio gelante e paziente con i capricci di una clientela spesso insopportabile o inesperta o con gusti che Vincent non condivide affatto si sta formando infatti una propria sensibilità artistica proprio in quel negozio per favorire la sua carriera così i familiari gli fecero avere un trasferimento di sede importante un trasferimento nella sede centrale di Londra dove il giovane Van Gogh arriva a vent'anni e a vent'anni subito si innamora per la prima volta in vita sua non sarà l'ultima ma ogni volta Vincent si innamorerà perdutamente la ragazza si chiama Ursula Lawyer una ragazza semplice insieme alla madre gestisce un asilo infantile per arrotondare poi affittano una camera nella loro casa e Vincent è il loro inquilino felice scrive la vita è ricca oh questo tuo dono mio dio è innamoratissimo la adora e senza mai dichiararsi la considera addirittura già sua moglie è il segno di un ben strano carattere di una strana attitudine sentimentale si decide a dichiararsi solo dopo un anno e Ursula con grande sorpresa di Van Gogh gli spiega di essere già fidanzata con un pensionante precedente Vincent rimane annichilito ma insiste vuole che lo lasci per lui ma la ragazza naturalmente è irrevumibile probabilmente Ursula pensa che quell'olandese è troppo povero troppo giovane troppo brutto e con un futuro incerto davanti a sé Vincent ha un volto grifagno e lentigginoso le marcelle sfuggenti che fanno quasi paura le gambe corte le spalle larghissime e il busto spropositatamente lungo i capelli rossi non rassicurano affatto soprattutto per due occhi sempre spiritati però quel ragazzo ha un animo sensibilissimo e la delusione sentimentale lascerà in lui un segno incancellabile è lecito credere addirittura che il rifiuto abbia acuito in lui la tendenza malinconica e nevrotica e specialmente un complesso di inferiorità nei confronti delle donne non si riprenderà mai del tutto quando torna a casa per le vacanze i genitori lo trovano triste magro incupito e del tutto incapace di superare la delusione che lo macera come fosse una sconfitta definitiva di tutta la sua vita oggi diremmo che iniziò in quel momento una depressione da cui non si riprese più ma in realtà sotto questa depressione c'è ben altro c'è il tormento di un'anima incredibilmente sensibile tornato a Londra Vincent cambia casa e vive completamente solo senza uscire mai si chiude sempre di più in se stesso e si volge sempre di più alla religione che gli è stata instillata in famiglia e che lui coltiva con pressione crescente purtroppo ne risente il suo lavoro comincia a diventare veramente scorbutico critica gli acquisti dei clienti le opere che vende e dice che sono schifezze che sono brutte ovviamente la direzione della galleria non è per niente contenta ma il solito zio premuroso riesce a ottenergli un trasferimento a Parigi la Villumière il sogno degli artisti dell'ottocento si spera più modestamente che cambiare città riesca a far vincere a Vincent la delusione amorosa e a cambiare il suo comportamento professionale deluso infelice Van Gogh va a Parigi e ci sta quasi un anno come commesso nella galleria d'arte lì conobbe la pittura impressionista di cui sarebbe diventato maestro ma non gli piacque licenziato definitivamente dalla casa d'arte ritorna in Inghilterra in cerca di Ursula per stare vicino a Ursula Van Gogh insegna gratis in cambio solo di vita alloggio in un collegio di Ramsgate e così le sta vicino vicino per modo di dire perché deve fare decine di chilometri a piedi per vederla Van Gogh era un incredibile camminatore una delle cose più curiose della sua biografia si muoveva un po' per risparmiare ma molto perché gli piaceva sempre a piedi ed era capace di fare decine e decine e decine di chilometri al giorno senza mai staccarsi qui ogni tanto va a trovare questa Ursula ma lei proprio non lo vuole e cominciano qui le crisi mistiche di Van Gogh la passione religiosa come sostituto dell'amore poi la religione verrà a sua volta sostituita dall'arte Vincent fa penitenza mangia pane seco vuole diventare prete parla solo di Dio e a suo fratello Teo consiglia di distruggere tutti i libri tranne la Bibbia fallito il sogno di costruirsi una famiglia adesso pensa addirittura di diventare missionario a Teo scriverà anche non bisogna giudicare Dio da questo mondo perché è soltanto uno schizzo che gli è riuscito male e in un'altra lettera il miglior modo per amare Dio è amare molte cose lui però così bisognoso d'amore riuscì ad amarne pochissime in questo periodo non riesce ad amare neanche la pittura che pure lo attirava distinto oscuramente a Teo scrive in questi ultimi tempi ho disegnato di nuovo un po' ma nulla di speciale la voglia di disegnare che mi aveva preso in Inghilterra è di nuovo scomparsa ma forse è un capriccio che mi ritornerà un giorno o l'altro quante volte ho fatto dei disegni a Londra lungo il Tamigi quando la sera rientravo a casa e non valevano nulla se qualcuno mi avesse detto allora cos'era la prospettiva quanta fatica mi sarei risparmiato e quanto mi troverei avvantaggiato adesso passeranno ancora anni prima che decida di dedicarsi alla pittura anni tristissimi la famiglia è preoccupata per lui e gli trova un nuovo lavoro diverso Vincent si trasferisce a Dordrecht in Olanda a fare il commesso di libreria visto che gli piace tanto leggere ha 24 anni ormai ed è sempre più introverso e scostante con gli altri ma è fiero della sua diversità non dispiacerti di essere strano scrive al fratello vivi in disparte un insegnante che divideva con lui la camera d'affitto tale Görlitz lo descrive così era un ragazzo strano con una fisionomia altrettanto strana era forte con i capelli rossi e radi che gli stavano ritti in testa e un viso non bello con le lentigini la sua espressione si trasformava completamente quando si entusiasmava il che gli accadeva spesso a tavola pregava a lungo e si nutriva come un'eremita non mangiando carne e non prendendo mai salse il suo viso era cupo pensieroso profondamente serio e malinconico ma quando rideva lo faceva sinceramente con schiettezza e si illuminava tutto Vincent non dimostra alcun interesse per il nuovo lavoro invece di vendere libri preferisce tradurre la Bibbia in francese in tedesco in inglese su quattro colonne aggiungendovi il testo in olandese benché protestante ortodosso assisteva alle funzioni cattoliche alle funzioni luterane e a Gerlitz il suo il suo inquilino che se ne sorprende dice ma credete davvero che Dio non si possa trovare anche in queste altre chiese vive come una sceta e si concede soltanto un lusso che terrà per tutta la vita la pipa che fuma in continuazione preferirebbe le sigarette però costano troppo non se le può permettere di notte legge e disegna e la sua abitudine di inchiodare e disegna alla parete disturba proprio tantissimo il suo coinquilino è proprio Gerlitz che informa la famiglia di Vincent che il figlio non sta bene non sta affatto bene che bisogna fare qualcosa per lui si raduna il consiglio di famiglia che decide di assecondare i desideri di questo strano ragazzo e di fargli studiare teologia benché sia ormai troppo vecchio per entrare in seminario Vincent viene dunque trasferito di nuovo stavolta ad Amsterdam per prepararsi in due anni all'esame di stato necessario per accedere all'università e diventare sacerdote è il 1878 e ha 25 anni la famiglia in fondo è contenta che finalmente il primo genito imbocchi una strada e poi una strada così rassicurante come quella del sacerdozio se non che Vincent non vuole e non intende proprio in nessun modo studiare greco e latino nel suo furore missionario dice che proprio non gli occorrono per portare la parola del Signore ai poveri nelle strade e forse un po' anche ragione oltretutto è anche un oratore disastroso che non saprebbe convincere un pesce a nuotare il suo insegnante di latino e greco che si chiama Mendes da Costa uno spagnolo ce ne ha lasciato questo ricordo che vale la pena di leggere dalla camera dove studiavo al terzo piano lo vedevo attraversare prima il ponte poi la grande pianura senza giacca per una sorta di automortificazione teneva i libri sotto il braccio destro ben stretti e nella mano sinistra i bucaneve che aveva raccolto del primo mattino vicino al cimitero la testa era lievemente piegata in avanti di lato verso destra gli angoli della bocca abbassati davano al suo viso un'espressione di disperazione arrivato nella mia camera mi diceva con un tono strano profondamente malinconico Mendes non arrabbiarti ti ho portato ancora qualche fiore perché sei così buono con me abbiamo lasciato Van Gogh a 25 anni che ha fallito tutti i mestieri e anche la possibilità di diventare sacerdote perché ritiene che non gli occorra studiare greco e latino per insegnare la parola del Signore questo periodo per punirsi ma di che cosa mangiava pane secco quando dormiva nel letto metteva fra le lenzuola un bastone in modo da rompersi le ossa ma era più contento quando tornava a casa tardi forse lo faceva apposta per farsi chiudere fuori e dormire per terra voleva sacrificare la sua sofferenza a Dio perché aveva bisogno di giustificare la propria esistenza e solo quando scoprirà la pittura non avrà più bisogno di un Dio Van Gogh non era un masochista era piuttosto un sadico verso se stesso e continuerà sempre a farsi del male inutile una volta andando a dipingere nei campi camminava su una strada dalla parte del sole in una campagna caldissima e qualcuno gli chiese ma perché non ti sposi all'ombra e lui rispose voglio soffrire per l'arte qualcuno potrebbe interpretare tutto ciò come un segno di pazzia ma della pazzia parleremo visto che deve rinunciare a diventare sacerdote si iscrive a una più semplice scuola per evangelisti di Bruxelles una scuola che in tre anni forma i predicatori che andranno a portare la parola del Signore e che dà il titolo di evangelisti solo dopo tre mesi di corso è in questo periodo che scrive a Teo quando ero in Inghilterra feci domanda di poter lavorare come evangelista fra i minatori di carbone non lo sapevamo ma venne richiutato perché non aveva ancora 25 anni l'esperienza dimostra che coloro che vivono nell'oscurità nel centro della terra come ad esempio i minatori di carbone sono assai sensibili alle parole del Vangelo e credono in esse ebbene nel Belgio meridionale c'è una zona chiamata Borinage la cui popolazione è costituita unicamente da muratori è così volonteroso che dopo poco lo mandano in missione proprio nel Borinage sud del Belgio è il 1879 Marx era ancora vivo e ignoto ai più la rivoluzione industriale portava a uno sfruttamento sempre più spietato del lavoro umano e non era ancora nato un vero movimento operaio di tutto ciò Van Gogh non si interessa arriva nel villaggio minerario di Vars come quasi prete e con una gran voglia di fare alloggia finalmente in una dignitosa camera in affitto ha uno stipendio gli viene lavata la biancheria e a pane bianco tutti i giorni ma contemporaneamente scopre l'esistenza folle di chi vive solo per sopravvivere i minatori lavorano tredici ore al giorno e hanno da mangiare soltanto pane patate e formaggio abitano in baracche di legno col pavimento di terra battuta insieme ai figli alla moglie ai pochi conigli e magari a una capra fa parecchio freddo in Belgio in inverno e per riscaldare le baracche bisogna razzolare come galline sui fianchi di un'immensa piramide di detriti neri piruccando minuscoli avanzi di carbone Vincent sistema una capanna come una chiesa e pieno di sensi di colpa per tutta la miseria che vede intorno smette di lavarsi per sembrare come i minatori la faccia lucida di polvere nera e gli occhi immensi di bianco e stupefatti ma non è come loro per tutta la vita fingerà di essere un chiattagliolo un contadino un operaio e si compiace quando a volte lo scambiano per un fabbro ma è un intellettuale borghese sempre un giorno finalmente lo portano in miniera a 700 metri nel profondo della terra nei cunicoli di carbone dove gli uomini ingobbiti e i bambini che lavorano in miniera tutti neri e tutt'ossa lavorano di piccone nudi accucciati quasi al buio con lucignoli che rischiano ad ogni momento di far scoppiare il grisù con sostegni di galleria che non vengono riparati per risparmiare tempo e materiale vale la pena di ricordare che proprio in una miniera come quella nel Belgio un giorno del Novecento moriranno centinaia di minatori italiani emigrati per il grisù lì sotto ci sono sempre 40 gradi di temperatura gli uomini sudano nero respirano polvere di carbone e in genere muoiono giovanissimi di tisi e polmonite e consunzione Vincent disperato un giorno chiede al direttore come mai la società mineraria non è più buona e si sente rispondere che è buonissima se fosse cattiva aumenterebbe le paghe ridurrebbe gli orari gli utili non basterebbero più e dovrebbero chiudere lasciando morire di fame tutti quei poveri minatori Van Gogh inorridito si trasferisce in una baracca dà tutto il suo stipendio mangia gli avanzi mangia l'erba regala i vestiti smette anche di insegnare a leggere ai bambini preferisce andare a cercare anche lui un po' di scarti di carbone per le loro stufe se c'è qualche ustionato e ce ne sono spesso strappa la propria bancheria per farne bende con cera e olio d'oliva cura tutti regala il letto dorme sulla paglia porta su di sé il dolore e le sofferenze di tutto il villaggio di tutto il mondo quando gli ispettori della chiesa lo scoprono gli tolgono l'incarico perché ha svilitto la dignità sacerdotale e ha offeso Dio in qualsiasi organizzazione la prima regola è che bisogna salvaguardarne il prestigio alla vedova di un pastore Vincent confiderà nessuno mi ha capito mi prendono per matto perché voglio essere un cristiano autentico mi cacciano come un cane dicendo che do scandalo perché cerco di aiutare la miseria degli infelici non so cosa farò forse sono un fanullone un essere inutile a questo mondo d'ora in poi la frase più gentile che Van Gogh dirà dei sacerdoti è qualunque maiale è migliore di loro smetto ogni pratica religiosa ormai convinto che il mondo sia all'opera imperfetta di un distratto e assente e da quel momento ignora Dio agli uomini con l'arroganza e la disperazione di chi crede solo in se stesso di lì a poco scriverà a Teo se di qualcosa devo pentirmi è del periodo durante il quale nozioni mistiche e teologiche mi indussero a condurre una vita troppo appartata poco per volta ho compreso il mio errore quando ti svegli al mattino e non ti trovi solo quando nella prima luce dell'alba vedi una creatura accanto a te il mondo ti appare più buono assai più buono e cordiale dei diari religiosi e delle pareti di chiesa imbiancate di cui sono innamorati i cosiddetti uomini di Dio ma dovrà ancora aspettare molto prima di svegliarsi accanto a una donna appena Van Gogh smise di credere alla bontà dell'universo anche gli uomini gli appalvero come cose alberi e animali fu allora che cominciò a dipingere per dimostrare la brutalità dell'esistenza torna a vivere in una casa al caldo e si fa nutrire dalla carità dei suoi ex assistiti passa le giornate leggendo camminando un giorno pigramente estrae di tasca una battita la busta di una lettera e fa lo schizzo di un minatore che passa per strada fin da bambino Vincent non aveva mai saputo resistere all'impulso che lo spingeva a disegnare su un pezzetto di carta ma non aveva mai pensato di essere davvero bravo né tanto meno di farne una professione da quel giorno invece i disegni diventano per lui una freesia ne fa continuamente copiandoli e ricopiandoli gli restano appena dieci anni di vita per diventare Van Gogh il Van Gogh che conosciamo Teo ha cominciato a mandargli del denaro e diventa il confidente degli sforzi del fratello per diventare un artista leggiamo qualche brano di lettera fra il settembre del 1880 e il maggio del 1883 spero bene di arrivare a essere in grado di lavorare per illustrazioni di giornali o di libri e probabilmente arriverò pure a saper fare dei ritratti ma a condizione di lavorare moltissimo come si vede le sue ambizioni non sono granché ma naturalmente non vende niente di questi suoi primi disegni anzi le reazioni di chi li guarda sono piuttosto sgradevoli un giorno racconta che un signore guardando da dietro una sua opera d'improvviso ci sputa sopra un pezzo di tabacco per dispetto non c'è bisogno di prendersela tanto scrive Vincent a Teo quella gente non è cattiva solo non ne capiscano nulla e pensano probabilmente che io sia pazzo quando mi vedono fare un disegno con dei grandi ganci ed uncini che a loro non dicono nulla e adesso ci viene forse un po' di rimpianto a pensare a tutte le opere di Van Gogh che sono andate perdute vedremo anche come si tormenta per non essere ancora padrone della tecnica e si amareggia confrontando i propri disegni con quelli di pittori famosi eppure ci trova qualcosa qualcosa che gli altri non hanno un giorno prende coraggio e decide di mostrarle a un pittore che vive a ben 170 chilometri da lì cammina cinque giorni dormendo nei campi e cercando di convincere in vano i fornai ad accettare un disegno in cambio di una pagnotta quando finalmente arriva alla casa il pittore possiamo immaginare in quali condizioni di sporcizia e di lacerazione la casa gli sembra troppo di lusso per potersi azzardare a entrare così torna indietro a piedi con la febbre e convinto di essere un fallito degno di morire di fame ci prova pure a morire di fame ma dopo poco arriva suo padre per riportarlo in Olanda a Ephraim un altro piccolo paese di cui gli era stata affidata la parrocchia Vincent era in condizioni disperate gravissime quasi moribondo Vincent van Gogh torna dunque a vivere in una parrocchia insieme alla mamma ha tre sorelle ormai zittelle e un fratello molto più piccolo che morirà pazzo come una delle sorelle nei pochi mesi passati in quella parrocchia dall'aprile al dicembre dell'ottantuno van Gogh accrebbe a dismisura il proprio odio contro il clero non c'è gente più incredula dura di cuore mondana come gli uomini di chiesa dice non valgono un fico e ancora il sistema religioso delle chiese cristiane è orribile le lettere di quei giorni sono piene di disprezzo e di rabbia per tutto ciò che odora di religione in chiesa il cuore si indurisce fino a diventare di pietra e ancora trarrà i maggiori vantaggi leggendo Michelet che non la Bibbia Michelet era uno storico morto da poco dell'epoca molto popolare e molto amato da van Gogh per la sua visione mistica del popolo visto come protagonista e insieme vittima della storia continua a dipengere i suoi minatori e contadini che a tutti tutti sembrano orribili ma nei quali oggi vediamo il segno del genio per la misurata forza interpretativa delle cose e dei corpi della loro essenza più intima e segreta e finalmente anche lui se ne accorge in una lettera a Teo dell'estate dell'83 che i filologi indicano come la numero 309 manifesta finalmente la coscienza di avere capacità al di là di ogni norma Van Gogh scrive che gli restano ancora da 6 a 10 anni in realtà saranno esattamente 7 scrive anche che non gli importa se tutti lo sbeffeggiano quel poco tempo gli basterà per dimostrare di essere un grande pittore e tutti naturalmente lo prendono per pazzo per cinque anni non farà altro che esercitarsi martoriandosi per imparare molti hanno a cuore più la vita esteriore che quella interiore scrive e sono convinti di fare bene ad agire così la società ne è piena gente che lotta per mostrare la facciata invece di vivere una vita vera non sono cattivi sono solo sciocchi questa è la sua apoteosi dell'artista cioè di se stesso molto più spesso scriverà sapendo di mentire che la vera vita è quella tutta casa e bambini il suo irrisolvibile problema umano fu quello di non riuscire a conciliare il furore del genio con un briciolo di normalità da più di un secolo psicanalisti e psichiatri si esercitano su questo che per loro è un magnifico caso clinico si sono addirittura divisi in due scuole i francesi dicono che Van Gogh era epilettico e i tedeschi che era schizofrenico poi ci sono centinaia di altri più o meno studiosi ma spesso fantasiosi che hanno avanzato una quantità incredibile di ipotesi sofisticate abbiamo visto che la pazzia di Van Gogh e dico pazzia fra virgolette viene interpretata secondo due grandi scuole come o schizofrenia o come epilessia ma ci sono molte altre ipotesi ne elenco alcune crisi maniacale acuta con delirio diffuso stati crepuscolari episodici psicosi epilettoide demenza psicopatia psicosi degenerativa reazione schizomorfa di canna tumor cerebri predisposizione schizoide ed epilettoide attivata dalla lue schizofrenia fasica demenzia precops meningoncefalitis luetica psicosi da esaurimento psicosi atipica da costruzione eterogena di elementi a tendenza epilottica e schizoide psicosi allucinatorie fasiche schizofrenia paranoide nevrastenia colpo di sole cronico influenza del giallo epilessia psicomotoria dromomania eccitazione maniacale desiderio di castrazione omosessualità inconscia di tipo masochista e passivo intossicazione da essenza di trementina infine persino febbre gialla a giustificare tutto quel giallo nei dipinti invece Carl Jaspers nel saggio Strindberg e Van Gogh del 1922 intuisce che Vincent soffriva soprattutto di una sensibilità esasperata non per niente Jaspers era un filosofo esistenzialista ma era anche uno psichiatra e infatti tentò un compromesso per cui la schizofrenia ha aiutato il genio a rivelarsi ma io credo che il genio preesista alla schizofrenia e che sia talmente più forte da far diventare la malattia irrilevante incontreremo più avanti e ne parleremo diffusamente un altro genio Antonin Artaud che passò molto più tempo di Van Gogh in manicomio e che l'ha capito più di chiunque non a caso sempre a proposito di pazzie e di genio proprio mentre Van Gogh era legato su un letto di ferro perché si era appena tagliato mezzo orecchio a poche centinaia di chilometri Friedrich Nietzsche abbracciava un cavallo a Torino e veniva dichiarato pazzo e se i due si fossero potuti incontrare invece erano soli in balia della gente sana ma forse non sarebbero riusciti a dirsi niente le letture di Vincent non erano molto sofisticate certamente non leggeva Nietzsche leggeva Balzac Guide Mopassant Hugo Dode Lottì Dickens Igoncourt Zola scrittori irrispettabilissimi certo grandi scrittori ma scrittori allora di moda fra i piccoli borghessi dell'epoca invece Van Gogh non si accostò mai per esempio a Rimbaud a Mallarmé a Verlaine per citare soltanto i francesi a portata di mano o a Dostoevsky tradotto in francese e di cui conosceva l'esistenza di sicuro per avere letto delle recensioni per di più disprezzò Baudelaire definendolo un fesso e lo capì talmente poco da paragonarlo a uno scrittore così diverso come Musset Van Gogh non riuscì a capire una grandezza e una disperazione simile alla sua perché non si trattava di un pittore Van Gogh non si interessa neppure di politica guerra economia né riesce mai a incantare una donna o un uomo né a guadagnare un soldo la vita di Van Gogh così piena della sua arte per il resto fu desolata e vuota senza mai riuscire a guadagnarsi da vivere sempre mantenuta dal fratello e per tutta la vita pianse davanti all'impossibilità di avere una famiglia una moglie uno stipendio ma davvero se quella ragazza di Londra Ursula gli avesse detto di sì lui avrebbe abbandonato tutto per rifugiarsi al caldo fra i pannolini e le gonne per tutta la vita per tutta l'esistenza Van Gogh disquisì sulla vera vita e la falsa vita dove la vita vera sarebbe quella di famiglia con moglie figli lavoro e la vita falsa quella dell'artista che vive della propria arte per la propria arte come si può scegliere la falsa vita che si crede sia falsa che una vita di creazione è peggiore di una vita di procreazione la verità forse è che Van Gogh mentiva quando scriveva a Teo che la vita di famiglia era la vera vita scriveva così per farsi compatire ma non avrebbe mai cambiato una sola delle sue giornate disperate uno dei suoi quadri migliori per quella vita vera il suo vero guaio fu di non riuscire a unire le due metà della mela perché una metà quella dell'arte era troppo grande in lui e perché l'importanza della sua scoperta artistica era tale da annullare in un uomo carattorialmente debole e fragile come Van Gogh la possibilità di una vita normale la scoperta di Van Gogh secondo la mia personale interpretazione fu la scoperta della nausea dell'esistenza a partire dalla natura Vincent Van Gogh ha in comune con Kierkegaard Dostoevsky e Nietzsche l'esistenzialismo e il nechilismo che avrebbero avuto tanta parte nella cultura del novecento certo senza rendersene conto inconsciamente Jean-Paul Sartre scrisse nella nausea pubblicata per la prima volta nel 1938 quasi mezzo secolo dopo la morte di Vincent quella la dice tutto il rapporto ad essa era assurdo assurda il rapporto ai sassi ai cespugli d'erba gialla al fango secco all'albero al cielo assurda irriducibile niente nemmeno un delirio profondo e segreto della natura poteva spiegarla davanti a quella grossa zampa rugosa né l'ignoranza né il sapere avevano importanza il mondo delle spiegazioni e delle ragioni non è quello dell'esistenza quella radice esisteva e in un modo che io non potevo spiegarla Van Gogh 56 anni prima aveva scritto se si disegna un salice come se fosse un essere vivente e in definitiva lo è veramente tutto il resto segue con facilità basta concentrare un'attenzione su quell'unico albero finché non sia riusciti a infondergli la vita volevo esprimere qualcosa della lotta della vita sia in quella pallida e sottile figura di donna come pure nelle radici nere contorte e nodose o meglio visto che ho cercato di riprodurre fedelmente la natura come io la vedevo senza farci su della filosofia in tutti e due i casi involontariamente si vede qualcosa di quella lotta sia nella figura che nel paesaggio vorrei esprimere non una malinconia ma il dolore vero per Sartre lucidamente e per Van Gogh inconsciamente era la scoperta della nausea il disgusto di sé e di tutte le altre esistenze dell'universo che vivono facendosi la bietta confidenza della propria esistenza senza rendersi conto di essere di troppo gratuite Sartre continua a proposito della nausea che scaturisce dall'esistenza quando vi capita di rendervene conto vi si rivolta allo stomaco e tutto comincia a fluttuare i quadri di Van Gogh fluttuano Sartre forse non pensava a Van Gogh quando scrisse questo ma ha spiegato la sua pittura in una sola frase ero io la radice o meglio ero io io intero la coscienza della sua esistenza la nausea non mi ha lasciato e non credo che mi lascerà ma non la subisco più non è più una malattia né un accesso passeggero la nausea sono io stesso nei primi tempi Van Gogh non l'aveva capito anche se aveva detto che lo scopo dell'artista è penetrare profondamente alla natura la sua in realtà era un'idea romantica all'inizio la natura resiste sempre all'artista scrisse ma chi l'affronta seriamente non permette a questa resistenza di scoraggiarlo non si era ancora del suo conto che sono proprio le cose a tentare di rivelarsi di afferrarti ma che incontrano quasi sempre menti d'uomo incapaci di vedere come sono realmente finché non ne trovano uno così sensibile da penetrarle fino in fondo dopo qualche anno Vincent scrive non mi sento più impotente di fronte alla natura come un tempo in realtà sta affrontando contro di lei una lotta che gli costerà la vita Van Gogh non fu il cantore della bellezza della natura ma scoprì e raffigurò nelle sue opere che la natura ha un'anima e quest'anima può essere invidiosa meschina cattiva noiosa come tutte le anime senz'altro è un'anima brutale perché prima di tutto esiste e vuole esistere vive per vivere i germogli dei mandorli di Van Gogh sono come l'esplosione di una malattia cutanea e poi la pelle lebrosa degli olivi piagati le facce animalesche del dottor Gachet dello zuavo dell'italienna della sua maia desnuda i suoi girasoli non riescono a nascondere lo squallore del loro meccanismo pedisseguo vediamo nei quadri Van Gogh stelle malintenzionate e misteriose cipressi gobbi e infelici i campi violenti di Vincent Van Gogh sono il volto di una terra fine a se stessa e ai propri cicli le sue spighe di grano sono volgari in quell'ipertrofia mammaria di frutti non sono belli gli iris di Van Gogh con le foglie che somigliano a un serpente a una spada gli steli arroganti la bocca viola che grida la rabbia di un fiore che voleva essere velenoso per questo Van Gogh non era stato capito né amato perché aveva visto qualcosa che nessuno era stato capace di mostrare fino ad allora tanto meno nel suo secolo ancora intriso di classicismo e di romanticismo la natura viva che può essere ancora raccapricciante e cattiva era un'idea ancora troppo spiacevole per essere compresa in realtà Vincent ha orrore di sé come di ogni forma di vita e per questo si ucciderà scrive pochi mesi prima di spararsi dopo tutta una vita virile di ricerche di lotta a corpo con la natura voglio morire si uccide quando finalmente capisce lo dimostra nell'ultimo tuo ritratto che anche lui è come una radice continuiamo il nostro parallelo fra la nausea di Sartre e Van Gogh Antonio Roquentin il protagonista della nausea spera di avere scoperto un antidoto all'orrore di esistere mentre ascolta il miracolo della creazione in un disco di musica jazz e si dice allora è possibile giustificare la propria esistenza un pochino mi sento straordinariamente intimidito non che abbia molta speranza non potrei forse provare naturalmente non si tratterebbe di un motivo musicale dovrebbe essere un libro un libro che facesse vergognare le persone della loro esistenza se fossi sicuro di avere talento Van Gogh questo talento ce l'aveva ma non gli bastò a sopravvivere a se stesso il celebrato quadro I mangiatori di patate dipinto nel 1885 e considerato il suo primo capolavoro è ancora uno sforzo di raffigurazione non ancora di interpretazione è un soggetto rappresentato più o meno bene da un pittore non ancora l'anima del soggetto dei veri capolavori di Vincent una forza ignota e violenta esce dai colori e minaccia chi guarda come i cani dietro i gancelli sanguinari e impotenti prendiamo per esempio il paesaggio con erpice eratro del gennaio 1890 era una copia da un quadro di Jean-François Millet un pittore quasi contemporaneo di Van Gogh che lui amava molto per i suoi quadri raffiguranti contadini ma quello che Emilie era un paesaggio qui in Van Gogh diventa una bestia erpice aratro terra cielo alberi sterpi campi uccelli si fondono in un unico corpo forse la pelle del ventre di un dinosauro che respira piano quasi addormentato ma allerta basterebbe un niente un misterioso clic dell'universo perché quel corpo smisurato si alzi e schiacci tutto intorno a sé sei mesi dopo aver ripinto quel quadro Van Gogh si uccise scrisse in quei giorni quando sono nei campi mi sento sopraffatto da una sensazione di solitudine così angosciosa che sono riluttante ad andare fuori ma ci andava ci andava per mostrare quella cosa che lui vedeva orribile e ci è morto di paura e di dolore dal 1881 alla morte nel 90 Van Gogh si fa mantenere petulando in continuazione denaro in famiglia non ce ne stupiamo né ci scandalizziamo o lo rimproveriamo per questo Vincent era certo che per la sua famiglia fosse un investimento incredibilmente vantaggioso e comunque non gli importava proprio niente se fosse un investimento il suo bisogno di dipingere era tale da superare qualunque imbarazzo ignorare qualsiasi vergogna si compiace di far aspettare i creditori e rifiuta sistematicamente di pagare qualsiasi tassa davvero anarchico avrebbe potuto uccidere o rubare se qualcuno non gli avesse dato i soldi Elton dove l'hanno messo di nuovo in parrocchia era appena un po' più grande e ugualmente insignificante di Zundert la città natale negli otto mesi che ci stette Van Gogh cominciò a sfruttare sistematicamente e lucidamente la famiglia ben nutrito e ben pulito di segna rifugiato nel calore della famiglia che pure detesta Van Gogh che ha 27 anni lo ricordiamo si fa costruire uno sgabello pieghevole e gira ogni giorno per lande che allora erano quasi deserte indossa sempre un unico abito di vellutino nero una specie di giacca impermeabile cerata un berretto pure di incerato e da pescatore cose molto vistose secondo un suo gusto che gli verrà sempre rimproverato ma del resto era o non era un artista sotto braccio tiene una cartella piena di fogli da disegno e sulla schiena legata in qualche modo lo sgabello quando trova la scena che attira la sua attenzione fissa lo sgabello per terra e comincia a disegnare tenendo il foglio sulle ginocchia se qualcuno si ferma a sbirciare gli dice subito di andarsene forse si ricorda ancora di quel signore ad Amsterdam che gli sputò su un disegno dietro le spalle comunque per certo sa che i contadini vere bestie da Soma sfiniti dal lavoro lo prendono per pazzo e ridono di lui meglio di non averli ancora intorno comunque tenta ancora dei compromessi con la vita degli altri e si innamora si innamora di nuovo ha un disperato bisogno di amore è felice Vincent quando capita di rado sua cugina Kay e il figlioletto di quattro anni lo accompagnano in campagna a dipingere loro sono ammessi Kay di qualche anno più giovane di Vincent era figlia della sorella maggiore della madre di Vincent che aveva sposato anche lei un sacerdote Vincent l'aveva vista spesso quando studiava teologia ad Amsterdam ma allora era sposata e comunque lui era tutto preso dall'idea di diventare sacerdote ora è vedova purtroppo e lui si aggrappa ancora alla speranza dell'amore oltretutto è ora che diciamo che Vincent a 28 anni non ha ancora mai avuto un rapporto sessuale che è una donna non bella e qualsiasi per quanto in un disegno Vincent cerchi di aggraziarcela infatti è un mediocre disegno una foto ce la mostra col vito raggrignito il collo povero e la fronte gibbosa e breve ma lui è innamorato e tutto gli sembra più bello scrive a Teo ho imparato ho imparato a vedere un po' più chiaro nel mio cuore e in quello degli altri ho ricominciato ad amare gli uomini me compreso e sono riuscito a guarire il mio cuore e la mia anima che erano stati per così dire annientati disseccati e devastati da miserie di ogni genere via via che risalivo alla superficie e frequentavo di nuovo i miei simili la vita si ridestava in me fino a che non ho incontrato che è ho preso gusto alla vita sai e sono felice d'amare la mia vita e il mio amore sono tutt'uno da quando amo veramente il mio lavoro reca maggiormente l'impronta della realtà poi un giorno finalmente Vincent sempre lento in queste cose si dichiara ma ottiene in cambio uno sdegnato no mai chissà quante volte che aveva parlato con il padre la madre e il marito ormai defunto di quel preoccupante cugino come il più sciocco della famiglia infatti eccolo ancora lì a 28 anni senza arte né parte a schizzare disegni che non piacciono a nessuno per di più a spese dei genitori e del fratello più piccolo come affidargli il proprio bambino se avesse un lavoro come tutti allora se ne potrebbe riparlare ma che farsene di un artista agli inizi e senza speranza di successo come sembra per Vincent invece quell'innamoramento è un accesso di febbre prima del trapassa un'altra vita scrive a te o lettere da ragazzino si sente annientato vuole sciogliere il blocco di ghiaccio di quel rifiuto vuole essere lieto come una lodola in primavera pensa che grazie all'amore cito ancora farai più strada nel mondo sarai più sicuro di te stesso si convince che per lavorare e diventare un artista è necessario l'amore insomma a parte le citazioni da bacio perugina sembra che muoia se che non lo sposa quando lei torna ad Amsterdam le scrive lettere che non ricevono risposta e Vincent litiga con i genitori propri che sono d'accordo con quelli di che litiga col fratello con gli zii e finalmente un giorno di dicembre il rompe in casa dell'amata tutti sono a pranzo e lei appena lo sente entrare vociando si nasconde in un'altra stanza lo zio prete ripete a Vincent che deve smettere con quella storia che Ken non vuole vederlo né ora né mai cosa fa allora Vincent mette la mano sinistra sulla lampada a petrolio da notare la sinistra quella che non gli serve a dipingere e se la lascia scottare dicendo che vuole vederla solo per il tempo che riuscirà a tenere la mano sul fuoco quando si sente odore di bruciato gli zii inorriditi spengono la lampada e lo portano di forza in pensione non è il suo primo atto di autolesionismo e non sarà l'ultimo per spiegare a Theo il suo gesto e quello che accadde subito dopo Vincent gli scrive non potevo sopportarlo capisci tanto più che insinuavano che volevo forzarle la mano allora ho sentito morire il mio amore non è morto completamente né subito ma comunque abbastanza in fretta e un vuoto un vuoto immenso si è spalancato nel mio cuore la sera stessa Vincent va a cercare una prostituta ne incontra una non bella dice non giovane niente di speciale con le mani da operaia e le dà tutto il suo denaro per una notte insieme poi spiega a Theo mi rimprovererai come avevi detto lei e nessun'altra e ora vorresti andare da un'altra donna è irragionevole è contrario a ogni logica ed ecco la mia risposta caro Theo chi è il padrone la logica o io non c'è forse una certa dose di ragione e di coerenza nella mia illogicità comunque sia giusto e sbagliato quel dannato muro di chiesa è troppo freddo per me ho bisogno di una donna c'è molta confusione mentale in tutto ciò come vediamo ma anche una volontà precisa di avere una vita finalmente una vita normale che lui identifica nel rapporto con una donna una donna qualsiasi infatti non ebbe altre donne nella sua vita se non prostitute ma da quel giorno non se ne dispiacque più lui che era arrivato vergine a 28 anni prova cito affetto e amore per quelle donne che vengono condannate e maledette e disprezzate dagli uomini di chiesa dal pulpito io non le maledico né le condanno nemmeno le disprezzo spesso quando vagavo per le strade solo e abbandonato malaticcio e triste senza un soldo in tasca le guardavo e invidiavo gli uomini che potevano andare con loro e mi sembrava che quelle donne mi fossero sorelle dopo quella prima esperienza nelle sue lettere Vincent parla continuamente di prostitute il sesso e un contatto più assiduo con le donne gli diventano indispensabili però cerca anche una giustificazione perché gli sono rimasti i segni dell'educazione paterna dice che per motivi di igiene fisica e mentale bisogna fare l'amore è necessario per l'uomo che conduce un'esistenza fatta di tensione spirituale scrive assolutamente necessario se si vuole conservare il proprio equilibrio ne fa anche una questione utile alla pittura bisogna rassegnarci a scopare qualche volta se vogliamo lavorare bene alla nostra opera ma stabilisce che non bisogna farlo più spesso di una volta ogni 15 giorni dipingere e andare molto a donne dice non sono compatibili il cervello si esaurisce questa è la fregatura questo faccio io non è molto poetico ma in definitiva io sento che è il mio duvere subordinare la mia vita alla mia pittura non è un atteggiamento infrequente fra i personaggi che ho studiato anche Curse Malaparte che al contrario di Van Gogh aveva un grande successo con le donne era convinto che fare l'amore abbreveasse la vita e consumasse l'energia creativa quindi centellinava la sua vita sessuale Van Gogh dunque stabilisce questa cadenza periodica 15 giorni e poi va in cerca di giustificazioni sociali e intellettuali se la nostra fosse una società pura e ben regolata allora sì che sarebbero delle sedutrici ma ora mi sembra si possono considerare dame di carità la puttana la mia simpatia più che la mia compassione esiliata rifiuto della società come gli artisti e certamente nostra amica e sorella dopo il Natale del 1881 Vincent litiga furiosamente con suo padre tanto che a Theodorus il severo purissimo pastore scappò anche una bestemmia il motivo del litigio era che Van Gogh Vincent non voleva andare a messa per Vincent che nel suo cuore fu sempre un puro quella bestemmia detta dal padre per quel motivo fu la crisi definitiva di fiducia verso il padre stesso e verso gli uomini di chiese di qualsiasi chiesa per fortuna sua e di tutti venne scacciato di casa allora va a Laia 70 km più a nord e si mette sotto la protezione di un altro cugino Antoine Mauve che era un pittore allora abbastanza affermato ma di cui oggi resterebbe scarsa memoria se non fosse per questo suo rapporto con Van Gogh e per la parentela e perché gli regalò come a un bambino la sua prima scatola di colori a olio con tavolozza spatola trementina insomma tutto il cotaretto del pittore oh sono così felice di possedere una scatola di colori scrive Vincent proprio come un bambino e riesce con la forza che gli danno quei colori a mettere in piedi la sua prima vera casa una grande stanza con un soppalco che fa da camera da letto e la reda con mobili dice lui stile da poliziotto di villaggio ovvero con i più piccoli borghesi che riesce a trovare e finalmente Vincent incontra Sien a 29 anni Sien è la sola donna con la quale abbia avuto un rapporto stabile e abbastanza duraturo e la donna ressa celebre ed eterna con un disegno dell'aprile del 1882 che Vincent intitola Sorrow cioè dolore pena in inglese Van Gogh ormai capisce benissimo l'enorme potenza del suo disegno e scrive a Theo voglio fare dei disegni che vadano al cuore della gente al cuore delle cose Sorrow non è che un inizio ed è un disegno straordinario la donna Sien malamente segnata dalla vita è nuda i gomiti appoggiati alle ginocchia e il viso nascosto tra le braccia ha i capelli lunghi e radi grassi e sporchi che finiscono stenti a metà di una schiena ingobbita i piedi sono lunghi e volgari le cosce magre e flaccide troppo per una donna che ha solo 32 anni il ventre è gonfio per una maternità avanzata ma senza la pienezza soddisfatta delle pance incinte la sua è una maternità che esita a rivelarsi come se la pancia abituata alla fame si debba vergognare della pienezza i seni non sono grandi ma pendono come se lo fossero vuoti e pesanti la pelle di Sien ha il colore sbiadito e grigio della grafite di Sien bisogna dire che era francamente sgraziata la fronte larga e rugosa il naso lungo e stretto con narici fortemente alate mentre la bocca sdentata precipita verso un accenno di mento è un viso da faina spaventata chiuso dalle guance incavate e butterate dal vaiolo sappiamo anche che la sua voce è roca e gutturale per un'infezione non curata è un'ex prostituta con due figli e una madre a carico è troppo brutta e vecchia per i prostriboli e anche per i massapiede si arrangia facendo la lavandaia o le pulizie nei casini e certo se capita anche vendendosi di nuovo è alcolizzata appena può beve un intruglio di gine amaro fuma pessimi sigari e attacca a Vincent sifilide e blenorragia per di più è anche cattolica per di più intendo il fatto che Vincent era protestante insomma non è proprio la donna ideale per il figlio di un pastore protestante nella pruriginosa Olanda di fine ottocento ma Van Gogh ha talmente bisogno di dare e ricevere amore e ha talmente pietà per gli umili per i sofferenti che anche quella donna gli va bene anzi gli va bene proprio quella donna oltretutto poi la usa come modella va da sé iniziano con un rapporto fra pittore e modella poi diventano amanti Vincent lo confida con ritardo a Theo scrivendogli perché evidentemente se ne vergogna l'inverno scorso incontrai una donna incinta abbandonata dall'uomo il cui figlio ella ricava in seno una donna incinta che doveva andarsene per le strade d'inverno doveva guadagnarsi il pane tu capisci come presi questa donna come modella ed ho lavorato con lei tutto l'inverno non le potevo dare la paga intera di una modella ma ciò non mi impedì di pagare l'affitto e grazie a Dio finora sono riuscito a proteggere lei e la sua creatura dalla fame e dal freddo dividendo con lei il mio pane quando incontrai questa donna colpì la mia attenzione perché sembrava tanto malata la settimana scorsa abbiamo lasciato Vincent Van Gogh a Laia dove vive con un'ex prostituta Sien ha già un bambino piccolo e ne aspetta un altro da chissà chi non può più fare il suo antico mestiere perché non è mai stata bella e ora è anche distrutta dalle privazioni e dalle malattie Vincent l'ha nutrita e curata con il poco che ha e ora è felice perché per la prima volta ha una donna adora il neonato che Sien ha in grembo perché lui sa che non avrà mai un figlio dice non posso guardare quella culla senza sentirmi commosso perché l'uomo è pervaso da una sensazione profonda e possente quando è seduto accanto alla donna che ama vicino a una culla dove dorme un bambino è felice anche perché grazie alla tenerezza che gli dà Sien alla vita di famiglia una sua famiglia riesce finalmente a lavorare con furia Vincent ha 29 anni ed è sempre più convinto che gli resta poco da vivere in qualche modo misteriosamente lo sente lo sa al fratello Theo il suo unico confidente scrive in questi giorni mi considero come una persona che ha da portare a compimento qualcosa con amore entro pochi anni e questo lo devo fare con energia se vivrò più a lungo tant'è ma non ci faccio conto bisogna fare qualcosa in quei pochi anni e questo è il mio pensiero che domina tutti i miei progetti di lavoro appena ha iniziato a vivere con Sien ha perso subito però la protezione di due amici di famiglia che lo avevano aiutato e lo aiutavano ancora il primo è Joan Tersteg un mercante che gli aveva commissionato qualche disegno senza stimarlo affatto e per questo si sentiva in diritto di giudicarlo sei un potocco gli dice spesso comunque malato lo sei di corpo e di mente e lo saluta in questo modo il grande esperto d'arte disegna pure disegna pure tanto andrà tutto in fumo il secondo protettore che viene meno è Antoine Mauve il pittore già affermato Mauve gli aveva regalato da poco la sua prima scatola di colori i pennelli e la tavolozza lui aveva intuito che Van Gogh aveva qualche qualità ma voleva farlo studiare come un principiante e un giorno Vincent il rosso come sempre aveva gettato a terra spezzandolo il piede di gesso che Mauve voleva fargli riprodurre per esercitarsi nel disegno alla maniera classica Vincent giura a se stesso non disegnerò più modelli in gesso finché esisteranno piedi e mani di uomini vivi da disegnare Mauve diceva di Van Gogh è tre volte coglione la convivenza con Sien e il desiderio di Vincent di sposarla fecero traboccare il vaso di questi due signori che oltre a smettere di aiutarlo si adoperarono presso la famiglia e soprattutto presso Teo perché non gli mandassero altro denaro o addirittura lo facessero rinchiudere per di più a causa della gonorrea che Sien gli ha attaccato Vincent deve passare venti giorni in ospedale dove lo curano con dolorose iniezioni a base di allume come si faceva allora però contro tutti gli attacchi Vincent si difende con tutte le forze che gli restano la lotta di Vincent Van Gogh in quei mesi è ricostruibile attraverso le lettere a Teo un critico non deve occuparsi della vita di un artista scrive e poi io non voglio né la vostra stima né i vostri soldi lasciatemi in pace si appella alla generosità di Teo al fatto di avere salvato quella donna dalla strada dice anche che è una brava modella che si cura di lui e che gli vuole bene dice addirittura che la vuole sposare lui figlio di un pastore protestante lei prostituta e cattolica e ragazza madre come si direbbe oggi Vincent si rivolge a Teo ma anche a Terseg e a Mauve voi che apprezzate la buona educazione e la cultura quale di queste due cose è più educata raffinata virile l'abbandonare una donna o il sostenere una donna abbandonata è immorale gli rispondono tutti immorale ribatte Van Gogh che significa questa parola cosa sappiamo noi del bene e del male e poi io vi dico che conoscere una sola realtà rende idioti e non bisogna darsi pace finché non si conosce anche l'opposto Matteo ha le idee altrettanto chiare non è una donna che tu possa sposare Vin aiutala ma non la sposare Vincent mi è attaccata come una colomba domestica mi aiuta a dipingere se non la sposo tornerà alla vita di prima perderà il bambino Teo spezzerai il cuore di nostro padre e anche cattolica Vincent vada al diavolo chiunque voglia ostacolarmi non sono un criminale sono libero di sposarmi e poi quanto mi hai vestiti perché gli venia rimproverato il suo modo un po' straccione di vestire come fosse un proletario lui che viene dalla borghesia sono libero di vestirmi da operaio e voglio anche vivere da operaio Teo nostro padre ti farà dichiarare incapace di intendere si farà dare la tua tutela basterebbe che alcuni testimoni anche falsi sostenessero in tribunale che sei incapace di attendere le tue finanze ciò sarebbe sufficiente perché papà possa privarti dei tuoi diritti civili lo sai che già l'anno scorso pensava di mandarti in un ospedale psichiatrico Vincent non può non può non può e non mi importa rinego tutto lascio il mondo in cui sono nato che possiate andare tutti nel vostro inferno a questo punto Teo gli fa capire che non gli potrà più mandare denaro e Vincent comincia ad avere davvero paura senza quel denaro dovrà smettere di dipingere mai più dipingere Vincent cerca di convincerlo Teo tu sai che ho fatto grandi progressi lo sai quanto studio potrei guadagnare qualcosa se facessi quadretti come piace a loro ottimisti e sereni senza la misera della vita ma non correrò dietro agli intenditori o ai mercanti d'arte continuerò a dipingere cose dure e vere e chi lo desidera venga da me io ho fede nell'arte so quello che voglio dal mio lavoro e riuscirò ad ottenerlo anche a costo di rimetterci la vita ripeto anche a costo di rimetterci la vita e continua Vincent sono in tuo potere eppure non potrai costringermi a rinunciare a lei lo so che sto diventando come un cane e il futuro mi renderà ancora più brutto la povertà è il mio destino però sarò pittore e un giorno io vedrò la luce Teo ti annuncio che tutto quello che avrò lo dividerò con lei anche il tuo denaro e se non lo avrò pazienza non faccio male a nessuno capisci fai del male a te stesso rispose Teo a Teo che gli impropria di farsi del male con il suo comportamento Vincent risponde infuriato a me faccio male a me lo dicevate anche quando volevo sposare Chee lo dite sempre quando desidero una donna anch'io sento il bisogno di una famiglia di amicizie di affetto di rapporti cordiali non sono fatto di sasso o di ferro siete stati felici che abbia rinunciato a Chee e ora volete che rinunci anche a questa colomba sì una colomba sai che cosa mi ha detto mi ha detto lo so che non hai soldi ma se stai con me supporterò qualunque cosa qualunque cosa capisci una donna che è caduta debole sola viene spinta sotto le ruote del carro tu mi capisci un artista deve vivere nell'ambiente che desidera esprimere aiutami devo dipingere facci vivere facci dipingere se non continuo a cercare sono perduto siamo due infelici che portano insieme la croce e quel che sembrava insopportabile da soli diventa sopportabile in due Sien si annegò in un canale vent'anni dopo nel 1902 un giorno di novembre e il suo corpo fu buttato in una fossa comune chissà se prima di gettarsi in quell'acqua gelida pensò almeno un attimo a quello strano uomo rosso di pelo che aveva detto di amarla e giurava che non l'avrebbe abbandonata mai il comportamento di Van Gogh con Sien fu orribile a vederlo con gli occhi dell'uomo normale e fu orribile oggettivamente non c'è altro da dire il più bisognoso d'affetto e compagnia era lui ma quando Theo aveva deciso che non gli avrebbe dato più soldi Vincent tentò l'ultima resistenza la voglio sposare la voglio sposare scriveva siamo disposti a fuggire insieme anche se le possibilità di morte sono dieci a uno se non si ha denaro e mancano le forze ma preferiremmo la morte piuttosto che permettere che ci separino ma poi abbandona la famigliola e si giustifica parla male di Sien dice che è disonesta solo perché va a fare le pulizie nei cassini buona fondamentalmente buona ma donnaccia aveva concluso e scappò in campagna col mensile di Theo lasciando Siena all'aia e al suo destino di marciapiede certo che gli dispiace e ci si rode ma si tratta di scegliere se essere mantenuto a dipingere o avere famiglia fare un lavoro qualsiasi e non dipingere e Vincent non ha alcun dubbio lavori Theo e Sien se la gavi da sola lei che gli si è attaccata come l'ultima speranza della vita anche se non le dà abbastanza da mangiare anche se è un uomo così strano e la costringe a posare per giorni interi e se c'è da scegliere fra comprare matite o pane compra le matite lasciandola Vincent le dice se tu fossi nelle stesse condizioni di quando ti trovai ebbene troveressi un rifugio da me un rifugio nella tempesta fin quando avrò un tozzo di pane ed un tetto ma ora è altra cosa la tempesta è passata puoi rigar dritto anche senza di me penso beh devi cercare di farlo per parte mia anch'io devo trovarmi il giusto cammino ho da lavorare duro lo stesso fai tu ma la verità Van Gogh la scrive in una lettera alla fine della storia sono convinto di avere obblighi più diretti verso il mio lavoro che verso quella donna e che il primo non debba soffrire a causa di quest'ultima Vincent sa che se fosse rimasto con Sien davvero non avrebbe più potuto dipingere sa che gli resta poco tempo da vivere e allora sfrutta il fratello sopporta il padre e la madre che detesta sopporta tutto e tutti e di tutti approfitta pur di continuare la sua ricerca il suo lavoro la pittura vogliamo dargli torto per questo gli daremo torto se si fosse sbagliato se fosse stato un pittorello qualsiasi invece era Vincent Van Gogh e lui lo sapeva anche quando nessuno era risposto a dare un solo centesimo per una delle sue tele sapeva anche che soltanto la dedizione totale alla pittura poteva permettere l'esplosione in pochi anni di un genio invasato Vincent sa benissimo anche di essere un uomo insopportabile lo ammette sentite la descrizione che dà di sé proprio in questo periodo cosa sono io agli occhi della gran parte della gente una nullità un uomo eccentrico o sgradevole qualcuno che non ha posizione sociale né ne avrà mai una in breve l'infimo degli infimi ebbene anche se ciò fosse vero vorrei sempre che le mie opere mostrassero cosa c'è nel cuore di questo eccentrico di questo nessuno questo nessuno aveva il coraggio di scrivere al fratello che invece lavorava anche per mantenere lui che un pittore non deve fare lavori di nessun genere neanche la pittura su commissione ma deve pensare solo a creare forse è proprio nelle pene nell'oscuro e tenebroso lato della vita di un artista gli scrive che sta alla parte migliore di essa secondo me sono spesso ricco quanto un creso perché ho trovato nel mio lavoro qualcosa a cui dedicare tutto me stesso anima e corpo qualcosa che mi ispira e che dà un significato alla mia esistenza preferirei guadagnare 150 franchi come pittore piuttosto che 1500 franchi in un altro modo meglio crepare di passione che di noia c'è sempre questo richiamo alla morte in tutti i pensieri in tutte le lettere di Van Gogh e così nel settembre del 1883 a 30 anni e mezzo Vincent si trasferisce da solo in una campagna desolata e desolante la Drent nel nord dell'Olanda ci sono delle torbiere lì o almeno c'erano luoghi dove la gente lavora duramente proprio come piace a lui lo attira a raffigurare i lavoratori ma soprattutto riprende la sua lotta per affermare l'intima essenza della natura che nella Drent ha un aspetto particolarmente tragico cupo ho incontrato personaggi straordinari scrive Atteo ma una natura che possiede tanta nobiltà dignità gravità deve essere trattata con ponderatezza pazienza e un lungo lavoro non devo dunque accontentarsi di guardarla alla leggera ed eccolo il Van Gogh che osserva la natura e ne racconta i colori con forza di scrittore ma senza ancora avere il coraggio di dipingerli a olio dico con forza di scrittore perché adesso vi leggo un altro brano di una sua lettera che è particolarmente potente il muschio a tonalità di un verde dorato nel terreno tonalità rostrastre bluastre e grigiastre tutte tendenti al viola scuro al grigio il verde dei campi di grano ha dei toni di una purezza inesprimibile sui tronchi bagnati toni di nero che contrastavano con la pioggia dorata di foglie autunnali che vorticavano e si riunivano poi in ammassi foglie pendenti in sparsi bagliori dai pioppi dalle betulle dalle piante di mele e di limoncino il cielo era terzo luminoso non bianco ma di un color lilla difficile accogliersi bianco a bagliori rossi blu e gialli in cui tutto si rifletteva lo si sentiva dappertutto al di sopra di ogni cosa vaporoso si confondeva con la nebbiolina leggera sottostante fondeva tutto in una gemma di grigi delicati questi colori Vincent non riuscirà ancora a riprodurli ma manca poco nella Drent Vincent vive in un alberguccio dove viene guardato con sospetto perché le due figlie dei proprietari hanno paura di quell'uomo silenzioso e spiritato mal vestito sempre preso dai suoi pensieri misteriosi dipinge molto ma arriva il freddo il freddo del nord ed è sempre più difficile andare a lavorare nelle campagne per di più Teo anche lui si trova in difficoltà economiche e non può più mandargli quel poco denaro che inviava ogni mese al fratello allora Vincent prende la decisione che in assoluto gli pesa di più tornare a casa dopo due anni di assenza tornare da suo padre e da sua madre lascia la stanza d'albergo piena di disegni che gli albergatori cercano di regalare ma visto che nessuno li apprezza un giorno li usano per accendere la stufa oggi varrebbero una fortuna Vincent si riaffida alla famiglia che nel frattempo si è trasferita da Zundert in un paesino vicino chiamato Neunen con le tre sorelle e il fratello più piccolo ancora un ragazzino i genitori lo accolgono affettuosamente ma non nascondano affatto di disapprovare la sua vita e la sua dedizione totale alla pittura Vincent si sfoga con Teo sento cosa papà e mamma pensano a me per istinto non dico per intelligenza hanno lo stesso timore di accogliermi in casa che avrebbero se si trattasse di un grosso cagnaccio quello magari si metterebbe a correre per le stanze con le zampe bagnate sarebbe tanto rosso darebbe fastidio a tutti e abbaierebbe tanto forte in breve una bestiaccia va bene ma la bestia ha una storia umana ed è anche se è soltanto un cane ha un'anima umana e molto sensibile anche che gli fa sentire quel che pensa di lui la gente cosa che un cane normale non può fare io dato che ammetto di essere una sorta di cane li lascio stare in compenso in compenso di questa vita non certamente felice con la famiglia due anni di cibo tutti i giorni senza altro problema ma che luggia familiare gli servirono enormemente a migliorare il suo lavoro e a mandare anche qualche altro soldo a Sien non è così crudele Vincent un uomo generoso la povera donna infatti abbandonata ha probabilmente ripreso a prostituirsi ma questa generosità nei lavori di Vincent sono apprezzati dal fratello è in questo periodo che Vincent e Theo raggiungono un accordo in cambio del piccolo stipendio che riceveva Vincent avrebbe mandato a Theo tutti i suoi lavori che ne diventava proprietario con diritto assoluto di farne quel che voleva certo era una scommessa per Theo ma una scommessa vincente in cambio dell'equivalente di poche centinaia di euro al mese Theo riceveva opere che oggi valgono decine di milioni di euro l'una e ne ricevette centinaia finché Vincent fu in vita però Theo non riuscì a venderne neppure uno anzi secondo Vincent e forse ha ragione non ci provava affatto perché da buon mercante aspettò che le quotazioni crescessero ma c'è anche da dire che i disegni del primo periodo non erano del tipo che un buon borghese ama mettersi in salotto poveri contadini distrutti dalla fatica nel lavoro dei campi e nei boschi menze miserevoli paesaggi che dire triste è poco nidi minacciosi come se contenessero una malattia alberi contorti e che fanno paura campi brulli e tristissimi e poi Vincent non riesce ancora ad affrontare la tela i colori a olio incredibilmente ma non tanto Vincent ha paura della tela non ha idea di quanto possa paralizzare lo stare a fissare una tela vuota scrive è come se dicesse al pittore non sai fare nulla la tela ti sta a guardare come un idiota ed ipnotizza alcuni pittori a tal punto da farli diventare degli idioti essi stessi anche gli scrittori anche molti dei più geniali conoscono bene questa sensazione davanti alla pagina bianca e qualcuno ha anche scritto che l'arte è per l'1% ispirazione per il 99% sudore anche per Vincent nei primi anni è così finché non avrà acquistato la sicurezza e la tecnica necessarie perché il rapporto si rovesci 99% genio 1% fatica ma quando sarà arrivato a quel punto sarà già consumato nel corpo e nello spirito Vincent ha notato che raramente i pittori raffigurano gente che lavora e lui lo vuole fare né sicura che le sue immagini siano corrette dal punto di vista strettamente accademico se si fotografa uno zappatore dice indubbiamente allora non starebbe zappando bisogna dipingere le cose come si sentono è qui un'anticipazione come vedremo presto dell'espressionismo di cui lui fu il padre ed è alla fine del 1885 a 32 anni che dipinse i mangiatori di patate il suo primo quadro celebre a proposito del quale scrive ho cercato di sottolineare come questa gente che mangia patate al lume della lampada ha zappato la terra con le stesse mani che ora protende nel piatto e quindi parlo di lavoro manuale e di come essi si siano estamente guadagnati il cibo ho voluto far pensare a un modo di vivere completamente diverso dal nostro di noi esseri civili è chiaro che Van Gogh parteggia per quelli cosiddetti incivili i mangiatori di patate è il suo primo capolavoro e Vincent se ne rende conto d'accordo in questo con i critici successivi i quali però si accorgeranno della potenza di quel dipinto soltanto dopo la sua morte come gli accadeva spesso Van Gogh ha realizzato diverse versioni di questo quadro due disegni una ritografia un carboncino e tre oli impiegando parecchi mesi il più celebre di questi dipinti è oggi conservato ad Amsterdam al Risk Museum Vincent Van Gogh che vale assolutamente una visita mi raccomando una luce radente piove livida e fiocca sulle figure da una lanterna appesa il rito del pasto è quasi religioso in contrasto con la povertà dei cibi soltanto patate nient'altro che patate in un vassoio comune accompagnato da quello che sembra caffè ma sarà stata una cicoria l'ambiente è piccolo misero e disadorno forse una capanna reso con toni cromatici cupi e freddi dal bruno al grigio tanto che sembra che i contadini tre donne un uomo e una bambina siano fatti della stessa terra che ha prodotto le patate impressionano le mani grandiose nodose piagate dal lavoro dei campi i volti sono irregolari quasi caricaturali ma esprimono la fatica alla brutalità dell'esistenza a cui sono rassegnati in questo dipinto Van Gogh rivela in pieno la sua profonda condivisione del dolore dei più umili distrutti dalla fatica è una pittura disperata dove Van Gogh riversa la stessa fatica di vivere che ha nel proprio animo una fatica che nei contadini del quadro non urla e non si ribella ma si rassegna alle durezze della vita una vita con la quale si viene appatti o si muore e Vincent sceglierà per sé di darsi la morte nei due anni in cui Vincent Van Gogh torna a vivere in famiglia i fastidi maggiori gli vennero dal padre il più dolce degli uomini crudeli come lo chiamava Vincent oltre a non avere un lavoro e tutto il resto questo padre non gli perdona di leggere autori peccaminosi o anticlericali come Zola Hugo Michelet gli dice che si vergogna di lui e gli ripete continuamente tu mi uccidi tu avveleni la mia vita per liberarsene e oltraggiarlo visto che il padre è un pastore protestante Vincent affitta un piccolo studio niente meno che in casa del sagrestano cattolico e dorme quasi sempre lì oggi ci può far sorridere questa divisione cattolice protestanti ma più di un secolo fa era sentita come una cosa gravissima soprattutto in un paese religiosamente diviso come l'Olanda però i rapporti di Vincent con il clero cattolico non sono migliori il prete addirittura offre soldi a tessitori e contadini perché non possino per lui lo considera un pazzo pericoloso immorale e Vincent ormai non fa più nessuna distensione di clero definendo i sacerdoti di tutte le chiese materialisti senza cuore la corporazione più empia del consorzio sociale figuriamoci con che spirito stava in famiglia da suoi del resto va solo per mangiare ma non si siede a tavola con loro mette due sedie una di fronte all'altra con il piatto sulle ginocchia e intanto cucchiaiata dopo cucchiaiata studia qualche disegno in questo periodo fra l'altro si appassiona al lavoro dei tessitori e che almeno ha il vantaggio di svolgersi al caldo nelle casse sono molti dipinti su questo tema che ci ha lasciato fra i tessitori fra i contadini in tutto il paese Vincent comincia a passare per pazzo lo chiamano il piccolo imbrattatele o quel piccoletto pazzo e ridono del suo bevetto di pelo del suo buffo vestito lilla fiammato di giallo che effettivamente dovrà essere suggestivo del cavalletto che porta sempre sulla schiena più diventa bravo e più viene deriso questa è la sua sorte e l'odio di Vincent scoppia furibondo un giorno riprende a insultare Teo colpevole di averlo costretto a lasciare Sien di costringerlo a rimanere lì non dandogli denaro e di non vendergli neanche un quadro lo chiama papà numero due e svilisce quei due soldi che ogni tanto riceve in cambio di una moglie che non mi puoi dare di un bimbo che non mi puoi dare di un lavoro che non mi puoi dare a Teo suo benefattore in fondo e mercante d'arte scrive anche qualsiasi pittore è meglio del migliore dei mercanti d'arte Vincent si dispera per l'ovvio che gli manca ma scrive anche l'arte è gelosa esige da noi tutto il nostro tempo e poi non si deve reprimere il talento non importa per il bene di chi padre madre sorella fratello o moglie che siano Vincent però mente quando scrive da Neonen se non mi posso prendere una buona moglie me ne prenderò una cattiva meglio una cattiva che nulla mente perché proprio in quei giorni una buona donna si innamora di lui l'unica donna che si sia innamorata di Van Gogh in tutta la sua vita lo vuole addirittura sposare la signorina Margot Begeman è una vergine di 40 anni quasi 10 anni più di lui ma è carina bionda gentile è ricca è una bella casa Margot lo segue a passo a passo quando Vincent va a dipingere dei campi è felice di avere finalmente un uomo da adorare e ascolta in estasi i suoi discorsi sulla pittura e sulla vita parlano della tranquilla società di Neunen come di un ragazzo che distrugge i nidi per divertimento e ci ride sopra si sentono forti insieme rivoluzionari un giorno Vincent riceve da qualcuno una commissione per un quadro ben 20 fiorini ma scopre che è un trucco di Margot per dadi del denaro e non accetta orgogliosamente però parlano di sposarsi ma la famiglia di lei si oppone perché Vincent è piccolo brutto pittore e pazzo il patrimonio di Margot non deve andare a finire in quelle mani sarebbe uno scandalo il quieto paese di Neunen non lo sopporterebbe che la zitella rimanga zitella e il pittore pazzo rimanga pazzo un giorno Margot inghiotte strichnina mentre sono insieme nei campi la salvano per miracolo a quel punto se Vincent avesse voluto fare il testardo come sempre chi gliel'avrebbe rifiutata in moglie ma ora ora che ha trovato una donna che lo ama e che potrebbe sistemarlo si ritira si ritira prudentemente e si permette anche di dire proprio lui che aveva pensato di sposare Sien che Margot è sciupata come un violino di Cremona restaurato male il fatto è che rivuole la sua libertà per correre di nuovo libero verso la pittura prima di rinunciare del tutto a Margot Vincent vuole però qualcosa in cambio il mio fratello che ormai vive a Parigi gli scrive una lettera furibonda perché pensa che non lo voglia con sé in quella che era la capitale dell'arte mondiale soprattutto per la pittura non lo vuole gli dice perché tu sei proprio un signore per bene mentre io sono la pecora nera del cattivo carattere e propone una separazione definitiva fra loro la rottura appena Teo protesta però e ribadisce tutto il suo affetto Vincent pone delle condizioni precise Teo lo manterrà con poco ma lo manterrà senza tentare di condizionare né il suo modo di vita né la sua pittura poi quasi a perfezionare il contratto gli spedisce la prima cassa di tele con l'iscrizione V1 così si libera dell'ultima tentazione matrimoniale e si assicura l'esistenza per quanto grama quanto a Margot Vincent scrive a Teo poiché prevedevo quel che sarebbe accaduto cioè la fine drammatica della loro quasi storia d'amore l'ho sempre rispettata da un certo punto di vista perché la società non la ritenesse disonorata più volte l'avrei potuta avere il mio potere se solo avessi voluto potrà dunque continuare a occupare il suo posto nella società e lui comunque potrà andare a Parigi prima di andare a Parigi però va a Anversa in Belgio per frequentare un'accademia di pittura parte e quella santa donna di sua madre vende i mobili di Vincent a un falegname già che c'è gli chiede di prendersi anche tutti i suoi quadri le tele e i disegni che il peggiore dei suoi figli ha lasciato lì a ingombrare e a far polvere i quadri vengono distrutti i disegni venduti da un rigattiere per 5 o 10 centesimi l'uno e oggi sono tutti perduti dopo essersi trasferito ad Anversa Vincent non tornerà mai più in Olanda benché fosse il suo paese lo odiava tanto da preferire di scrivere le sue lettere in francese sull'Olanda scriverà parole di fuoco bollandola come una terra di commercianti gretti in ricordo degli osti e degli affittacamere forse che gli avevano avvelenato la vita all'Aia e non lo dimenticò mai un bottegaio lo aveva picchiato duramente perché non pagava un piccolo debito Olanda oggi si vanta di lui come di uno dei più grandi dei suoi figli e giustamente ma di certo Vincent non avrebbe amato sapere che la maggior parte dei suoi quadri benché presenti nelle più importanti gallerie di tutto il mondo siano soprattutto nel suo paese natale arricchendone il prestigio e il turismo né che si sia svolta ad Amsterdam la grande irripetibile mostra per il centenario della sua morte nel 1990 fu una mostra storica che portò milioni di visitatori e venne sfruttata commercialmente in tutti i modi con riproduzioni dei tormentati e drammaticissimi dipinti di Van Gogh sulle magliette sugli ombrelli sulle bottiglie di vino sulle borse sulle spille in tutto il cerpame del consumo più consumistico è meno sensibile all'arte forse io credo di sì non sarebbe felice delle masse che lo adorano con più di un secolo di ritardo spesso in modo superficiale fraintendendolo di certo disprezzerebbe chi compra i suoi quadri per decine di milioni di euro per poi incorniciarli quasi sempre in cornici dorate lui che voleva solo cornici di legno grezzo però è arrivata ad Anversa ultima tappa prima della Francia ad Anversa Vincent litiga subito con i maestri dell'accademia che agli esami indovinate un po' lo respingono all'unanimità rimandandolo ai corsi inferiori con i ragazzini di 12 anni in due mesi mangia soltanto due pasti caldi e per il resto nient'altro che pane ma non gli importa e vada soprattutto ad andare a puttane a bere e a comprare tele e colori ai denti tutti rovinati e siccome le tecniche dentistiche dell'epoca non andavano molto per rizzettire si fa mettere dieci denti d'acciaio proprio davanti d'ora in poi dunque immaginiamolo con un sorriso molto ferroso del resto era una cosa abbastanza comune allora di sé in questo periodo scrive al fratello evitando con cura di raccontargli le proprie abitudini alcoliche e sessuali le mie avventure si limitano a diventare rapidamente un vecchietto rugoso sai con una barba dura tanti denti finti e così via ma che importa ho una professione sporca e dura e se non fossi quel che sono non dipingerei tutto è sempre e solo finalizzato la pittura ora che anche lui è così segnato della vita come la povera gente che dipingeva prima disegna a carboncino i suoi primi autoritratti i primi di una lunghissima serie dove sembra un topo arrogante e infelice ma ormai si sente pronto per Parigi e senza avvertire Teo che non lo vuole con sé in quella città e cerca di rinviare parte per la Ville Lumière è il marzo del 1886 Vincent Van Gogh ha 33 anni e gliene restano da vivere 4 più 4 mesi ma la sua arte sta per esplodere finalmente Parigi nel 1886 era una delle metropoli più grandi del mondo molto più grandi di adesso in proporzione a parte le sue bellezze antiche a partire dal 1850 Napoleone III aveva realizzato una grande ristrutturazione urbanistica della città che acquistò un aspetto maestoso grazie alla costruzione di ampi boulevard e parchi e che la dotò anche cosa non da poco di un sistema moderno di fognature quando Napoleone III perse la guerra contro la Prussia la Francia diventò repubblicana e detta inizio a quella che verrà chiamata la belle époque un lungo periodo di pace splendore e allegrie proprio mentre Vincent è a Parigi però la Francia rischia di cadere sotto una dittatura di destra ad opera del ministro della guerra Georges Boulanger per fortuna la vittoria elettorale dei repubblicani la evita Boulanger fugge in Belgio e si uccide di tutto ciò Van Gogh non si cura davvero proprio per niente del resto lo attira poco anche la grande frenesia che c'è in città per preparare l'esposizione universale prevista per il 1889 centesimo anniversario della rivoluzione francese ma almeno Vincent vide crescere giorno dopo giorno la tour Eiffel costruita fra il 1887 e il 1889 diventerà e resterà per 40 anni il più alto edificio del mondo ma alla sua conclusione Van Gogh aveva già lasciato Parigi lasciando la tour Eiffel ancora mozza quel che gli interessa di più naturalmente è il mondo della pittura quella celebrata nei musei che visita appassionatamente studiando quadre e quadre soprattutto Rembrandt Rubens e quella che si sta facendo largo nelle mostre e nelle gallerie nelle mille gallerie di Parigi lo stile e il gusto dominanti dell'epoca sono ancora quelli dell'impressionismo un movimento che era nato in Francia nella seconda metà dell'ottocento e che durò fino ai primi anni del novecento le caratteristiche dell'impressionismo erano l'interesse rivolto al colore piuttosto che al disegno e la prevalenza della soggettività dell'artista delle sue emozioni che non vanno nascoste o camuffate bensì impresse manifestate nella tela poi secondo gli impressionisti l'opera d'arte deve essere giudicata per se stessa non per la sua corrispondenza a canoni e principi generali o a interessi sociali e politici l'impressionismo era stato anche stimolato dall'arte orientale in particolare da quella giapponese che rappresentava scene di semplice vita quotidiana già Baudelaire alcuni anni prima aveva distribuito agli amici delle stampe giapponesi che divennero presto una moda e furono acquistate e apprezzate anche dai pittori impressionisti pure Van Gogh ne fu affascinato riproducendole come sfondo in alcuni suoi quadri altre novità importanti erano venute dalle scoperte della scienza e della tecnica come la macchina fotografica o da studi come le leggi sull'accostamento dei colori di Eugène Chevrol il quale suggeriva di accostare i colori senza mescolarli in modo tale da ottenere non superfici uniformi ma vibranti e vive è uno dei pochi casi in cui una teoria artistica fatta a tavolino viene applicata poi dai pittori i primi veri e grandi impressionisti furono Edgar Degas Alfred Sisley Pierre-Auguste Renoir Paul Cézanne Camille Pissarro e Claude Monet il termine impressionismo si deve proprio a un'opera di Monet Impression Soleil Levant un critico adottò il termine impressionismo con un'accezione negativa per indicare l'apparente incompletezza delle opere quasi prive di disegno e di contorni netti ma poi gli stessi impressionisti ne fecero una vera bandiera del movimento le caratteristiche della pittura impressionista erano i contrasti di luce e ombre i colori forti vividi che fissavano sulla tela le sensazioni del pittore di fronte a quello che vedeva il colore stesso era usato in modo rivoluzionario i toni chiari contrastano con le ombre complementari gli alberi prendono tinte insolite come l'azzurro il nero viene quasi escluso preferendo le sfumature del blu più scuro o del marrone fondamentale era dipingere en plein air ovvero al di fuori delle pareti di uno studio a contatto con il mondo il nostro Vincent Van Gogh compì una svolta proprio grazie agli impressionisti dai quali prese molto soprattutto la festosità la forza del colore però se ne discostò subito e anzi fu proprio lui una volta acquisito rapidamente l'impressionismo a essere il precursore e forse l'inventore della scuola che superò l'impressionismo e che viene chiamato l'espressionismo che sarebbe nato ufficialmente solo all'inizio del novecento dieci anni dopo la morte di Van Gogh ma che lui germinò dal nulla e allora in questa piccola chiacchierata sulla pittura parliamo pure dell'espressionismo anche se Van Gogh lo ripetiamo deve essere considerato fuori da tutte le scuole Van Gogh è Van Gogh e basta gli espressionisti privilegiano esasperando la propria interpretazione emotiva della realtà piuttosto che quello che si vede realmente un cipresso dipinto da Van Gogh è riconoscibile immediatamente come un cipresso ma è riconoscibile soprattutto come un cipresso di Van Gogh perché è l'interpretazione personale che Van Gogh dà del cipresso l'impressionismo insomma rappresentava una specie di moto dall'esterno all'interno cioè era la realtà oggettiva a imprimersi nella coscienza dell'artista l'espressionismo invece inverte la direzione dall'interno all'esterno dall'anima dell'artista direttamente nella realtà senza mediazioni ricordiamo che tra i maggiori esponenti dell'espressionismo ci saranno grandi pittori tutti possiamo considerarli figliotti di Van Gogh come Edvard Munch Oscar Kokoska Egon Schiele ma torniamo al nostro Vincent che appena arriva a Parigi va a vivere con il fratello Theo vissero insieme per quasi due anni due anni lunghissimi in Rue Lepic 54 proprio dietro il Moulin Rouge che però ancora non c'era sarebbe stato costruito di lì a poco il loro palazzo è sempre lì bianco e borghese doveva esserlo ancora di più oltre cento anni fa quando Montmartre dava sulla campagna dove lavoravano mulini a vento e ciminiere dalla sua finestra al terzo piano Vincent vede il paesaggio che dipingerà tante volte Parigi incorniciata tra due palazzi fino a Notre Dame e alle colline di Medon e di Saint Claude Teo che deve lavorare e fare il bravo uomo perde quasi completamente la testa avendo in casa quel fratello litigioso sporco testardo e rompiscatole anzi egoista e spietato come dice Teo ogni volta gli viene un accidente quando dalla finestra lo vede rientrare a casa la schiena piegata nella salita con qualche amico sgangherato ubriaco o magari che parla da solo come gli capita spesso Vincent poi è capace di discutere per ore e ore e ore di pittura e se Teo tenta di dormire Vincent gli piazza una sedia accanto al letto e continua a parlare 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 nessuno va più a trovare i due fratelli per paura di incontrare Vincent però a Parigi Van Gogh impara tutto quello che aveva da imparare dagli altri pittori dipinge moltissimi capolavori e inizia la straordinaria serie degli autoritratti che in totale comprenderanno sette disegni e trentasette dipinti in quattro anni quindi quarantaquattro autoritratti dove possiamo vedere quarantaquattro Van Gogh diversi a testimonianza di quanto era complessa la sua anima che sembra così semplice su questi autoritratti bisogna che ci soffermiamo un po' perché sono il Van Gogh di Van Gogh a Parigi Vincent ne dipinge una decina a olio dove si raffigura molto per bene da buon pittore che cerca clienti poi all'improvviso in quattro o cinque mesi fra l'estate e l'autunno dell'ottantasette si dipinge almeno venti volte e sono veramente venti persone diverse che in comune hanno solo il pelo rosso e un'esplosione di pennellate che partono dal centro degli occhi e schizzano a raggera non sembra solo una tecnica pittorica ma la raffigurazione del Big Bang di una testa che si espande nell'universo a cercare i molti di se stesso e a svergognarli tutti eccolo in uno invidioso e crudele gli occhi di un altro mondo in un altro ha la tavolozza in mano e l'aria da Michelangelo Nordico la bocca vezzosa piena di disgusto in un altro si prende in giro con la pipetta in bocca il cappello di paglia e la mantellina da pittore della Domenica con l'espressione di chi non potrà mai riuscire a capire niente nell'autoritratto dove si raffigura come un cinese sembra l'adepto di una setta fanatica la bocca pronta a sgozzare con un morso alla gola gli occhi sono duri sotto un osso sopraccigliare sporgente il naso piccolo i capelli corti c'è anche un autoritratto senza barba dove mostra la mascella non dritta ma incavata debole un po' vile e l'aspetto è quello di un martire involontario ora si è tagliato l'orecchio è il viso fasciato sotto il berretto di pelo nero sembra non capire chi è ma chiede pietà dopo il taglio nell'orecchio passano otto mesi gli ultimi ritratti se li fa in manicomio settembre 1889 nel primo è un buon enfant stupito che lo si guardi il secondo è quello famosissimo azzurro azzurri lo sfondo gli occhi il vestito dove lo sfondo dell'infinito i capelli sono vivi e lui è un cipresso che non sente il vento l'ultimo autoritratto di Van Gogh è pochissimo noto forse anche perché è conservato al museo d'arte moderna di Oslo in Norvegia ma più probabilmente anche perché è di una rara sgradevolezza Van Gogh si raffigura con il viso di un sadico analfabeta assassino scoperto mentre squarta il cadavere della sua ultima vittima e se ne frega perché tanto sa che quello che voleva fare l'ha fatto e anche in carcere ci sarà qualcuno da straziare se stesso per esempio di autoritratto in autoritratto le spalle scendono si fanno più deboli inclinate dalla robustezza pigolosa dei primi alla frana dell'ultimo dove le spalle quasi scompaiono in rovina ma le pennellate vanno dal basso in alto come a dire che il corpo cede ma a lui nessuno può più impedire di salire o almeno così mi piace di pensare ma torniamo a Parigi nel 1886 tutta la Parigi di Van Gogh è nel raggio di 500 metri dietro l'angolo di Rue Lepic c'è lo studio di Toulouse L'Otrecht in Boulevard Montmartre se si va a destra si incontrano gli studi di Seurat e di Signac se si va a sinistra al numero 66 il Café Le Tambouren che per oggi non esiste più la proprietaria era Agostina Segatori detta L'Italien ed era di origine italiana come dimostra il nome Agostina ha 45 anni e grassoccia ha la faccia gonfia di chi beve forte ma era stata bella faceva la modella e aveva posato anche per Corot e per Manet poi ha aperto un caffè per artisti ma lo frequentano solo pittori squattrinati e scrittori in cerca di fama modelle che all'occorrenza arrotondano gli introiti come possono grazie al legame con la Segatori Van Gogh potrà esporne il Café Le Tambouren insieme a Toulouse-Lautrec Emile Bernard e Paul Gauguin non pittori ancora pienamente affermati ma certamente più noti di lui insieme formano il cosiddetto gruppo degli impressionisti del Petit Boulevard in contrapposizione agli impressionisti del Grand Boulevard Monet Serrat eccetera che esponevano nell'importante galleria gestita proprio dal fratello di Vincent Teo ad Agostina piacciono i pittori e ci va a letto volentieri va a letto anche con Vincent che in omaggio per gratitudine le porta a quadri raffiguranti i fiori per arredare il caffè e le fa anche un ritratto bellissimo la dipinge con un ridicolo cappellino rosso stanchissima di una notte da ubriachi ma anche questa storia gli dura poco ora che ha un amore senza problemi e che ha finalmente la sua pittura Vincent lo chiude sbrigativamente ci mancherebbe solo di sistemarsi continua a utilizzare Agostina per esporre quadri nel locale finché un giorno accade un fantaccio Vincent è particolarmente rascibile e noioso la Segatori lo fa sbattere fuori dal suo nuovo amante un garzone giovane e robusto Vincent si prende anche una bicchierata in faccia parecchi pugni e viene scaraventato a calci sul massapiede ma l'unica cosa che gli interessa è riavere i suoi quadri non gli importa niente di lei e del bambino che la donna ha appena abortito e che forse era suo entra di notte nel caffè come un ladro e ruba si riprende i suoi quadri sul boulevard del cliché c'è la casa di Toulouse Lotharque e la casa studio di Degas e Riffontaine là vicino c'è anche lo studio di Renoir Renoir e Cézanne non amavano affatto la pittura di Vincent e un giorno Cézanne gli disse in faccia dopo aver esaminato a lungo i suoi quadri la sua mi sembra una pittura da pazzo povero Vincent lui che adorava tanto Cézanne e lo indicava come un maestro ma di certo avrà pensato che Cézanne si sbagliava e l'avrà compatito oggi alcuni dicono che Cézanne è più grande di Van Gogh ma non c'è dubbio che il fulmine geniale è Vincent che in due anni ha già imparato e superato l'impressionismo all'angolo di Rue Laval dove Vincent e Theo abitarono i primi mesi c'era il negozio di Pertanguy che era un anarchico entusiasta incolto appassionato degli impressionisti tanto che dava loro i colori a credito o in cambio di quadri nel 1886 Van Gogh inizia a frequentare la sua bottega di articoli per belle arti Pissarro era stato cliente di Pertanguy per molti anni e aveva convinto gli amici a comprare i colori da questo vecchio negoziante che in gioventù era stato un rivoluzionario un soldato della comune Jean-François Tanguy è il primo a esporre i quadri di Van Gogh nella sua bottega e Van Gogh gli fece ben due ritratti Bernardo un altro pittore molto giovane racconta come nacque l'idea di ritrarre Tanguy Vincent veniva spesso a trovarmi nel mio atelier costruito in legno nel giardino dei miei genitori ad Asniar fu là che ci venne in mente di fare i ritratti di Tanguy Vincent si accinse anche a farmi un ritratto ma dopo aver litigato con mio padre che non voleva che lui continuasse a darmi consigli circa il mio futuro e possiamo ben immaginare che consigli dava Van Gogh continuava Bernard si arrabbiò al punto di piantare lì il mio ritratto e di portare via in compiuto quello di Tanguy mettendoselo sotto il braccio che non era ancora asciutto Tanguy aveva una particolare venerazione per Van Gogh e così fisò un prezzo altissimo per il suo ritratto in modo da essere sicuro che non l'avrebbe mai venduto e così fu e il quadro venne comprato solo dopo la sua morte dal grande scultore François Rodin infatti per fortuna lo possiamo amminare ancora oggi nel museo Rodin di Parigi forse Tanguy teneva davvero a quel ritratto al punto da non volerlo vendere ma c'è altro da considerare nella sua vetrina furono esposti decine e decine di Van Gogh in quella retrobottega ne erano stati depositati ancora di più ma mai mai che papà Tanguy sia riuscito a venderne uno un Cézanne sì magari o un Monet a 50 franchi quelli piccoli a 100 quelli grandi ma un Van Gogh proprio mai Vincent aveva avuto anche l'idea di esporre i suoi quadri in un ristorante popolare per avvicinare la gente all'arte ma anche lì non ne aveva venduto neppure uno se li riportò tutti via su un carretto e sì che se ne potevano acquistare una dozzina per 5.000 euro di oggi ad avere il fiuto dell'arte pare di vederli gli impressionisti poveri e quelli già affermati intorno ai tavoli di un bistrò o del caffè dell'italien Van Gogh indossa quasi sempre la casacca azzurra degli operai che lavorano lo zinco e d'inverno un impossibile giubbotto di montone senza maniche intorno ai tavoli del bistrò c'è lui anche Thain con la faccia da pugile cattivo e un cappello floscio dalla cupola altissima da spazzagamino accanto a lui Emil Bernard un ragazzo di vent'anni bello e sprezzante c'è Armand Guilamain che sembra un piccolo bulldog e c'è anche la grande barba di Monet tutti lo trattano con rispetto perché Theo riesce a vendergli decine di tele e sta diventando famoso ci sono anche i due pissarrò padre e figlio entrambi pittori il padre Camilla diventerà famoso il figlio Lucien non ce la farà c'è anche Georges Seurat che ha negli occhi la nostalgia di chi è destinato a morire giovane ha 29 anni e gliene restano 3 Paul Signac è quasi sempre ubriaco c'è anche Gauguin con un bevetto di astracan e una palandrana bru lo rincontreremo e ne parleremo a lungo lui e Van Gogh sono i soli che hanno abbandonato ogni apparenza di vita normale famiglia affetti denaro per darsi completamente alla pittura gli altri li temono Renoir sembra un ingegnere capitato in mezzo a un gruppo di muratori presuntuosi Degas così damerino così antipatico sorride dall'alto della sua antica porghiesia parigina poi comincia a fare dell'ironia sui pittori del petit boulevard come Vincent a parte l'arte e le donne spesso discutono accaritamente sulla costruzione della torre Eiffel che a alcuni sembra meravigliosa ad altri orribile quando venne costruita si era stabilito che dopo vent'anni sarebbe stata smontata ma ormai a quel punto era diventata il simbolo della città e i parigini non l'avrebbero mai permesso quanto a Vincent lui dice che non gli importa proprio un bel niente la torre Eiffel bella o brutta che rimanga o che venga demolita Parigi resterà comunque una città insana Vincent odia la città e ama la campagna ha una voce qualunque un po' stridula e l'accento olandese la rende buffa come capita anche ai tedeschi quando parlano lingue più dolci infatti una curiosità è che Van Gogh nei suoi quadri si firmava semplicemente Vincent a chi gli chiedeva come mai non si firmasse per intero diceva ma il mio cognome nessuno sa come pronunciarlo mentre Vincent è leggibile in tutto il mondo un altro piccolo indizio per capire di quanto fosse sicuro del suo immancabile successo universale dice di Parigi Parigi è triste si respira all'area di un ospedale la gente cerca solo di godere ci si lascia un pezzo di vita bisogna andarsene alla svelta Parigi è un mare pieno di buone cose ma è anche un mare di merda così dice sempre Gauguin racconta di Panama e della Martinica dove è stato a lungo e dove vuole tornare della meraviglia dei colori della bellezza della gente della vita a buon mercato delle donne è il paradiso dei pittori entra Toulouse Lautrec con le sue gambe da nano e il suo testone poco più alto dei tavoli Henri-Marie Raymond de Toulouse Lautrec aveva poco più di vent'anni e veniva da una famiglia antica quanto nobile che risaliva addirittura a mille anni prima all'epoca di Carlo Magno fin da piccolo soffriva di scusatemi una parola difficilissima picnodisostosi una malattia ossea ereditaria dovuta al fatto che i genitori erano cugini di primo grado a 13 anni si ruppe il femore sinistro l'anno dopo quello destro e le gambe non gli crebbero più grazie alle sue ricchezze Toulouse Lautrec ebbe i migliori maestri e nel 1886 anno dell'arrivo a Parigi Van Gogh aprì un russuoso atelier proprio a Parigi era un frequentatore che di rassiduo e poco di bordelli e caffè Chantin e aveva sempre un suo tavolo personale al Moulin Rouge dove peraltro venivano ospitate le sue opere fu proprio il manifesto che Toulouse Lautrec dipinse per il Moulin Rouge che lo resse famosissimo ancora molto giovane e bisogna dire che senz'altro fu il grafico più geniale della sua epoca nel 1890 anno della morte di Van Gogh Toulouse Lautrec ebbe l'incarico di dipingere il salotto del miglior postribolo di Parigi e si sa il lavoro e una dura necessità si trasferì a vivere lì i suoi quadri oggi ci raccontano come nessun altro la vita frenetica e allegra dei più lussuosi bordelli parigini proprio quelli che Vincent non poteva mai frequentare Toulouse Lautrec come Vincent e del resto beveva alcol come fosse acqua in una vita senza misura e con il passare degli anni era sempre più spesso depresso nevrotico irascibile e con manie di persecuzione però continuò a bere finché un colpo poplettico non gli procurava una semiparalisi e infine lo uccise a 37 anni proprio come Vincent ma lui almeno si era goduto la vita Vincent lo annoia con quelle manie da missionario della pittura anche se gli è grato per avergli fatto conoscere la pittura giapponese anche Gauguin fa paura a Toulouse Lautrec con quel corpaccione da gigante che anche lui vorrebbe avere o quanto lo vorrebbe avere e invece è un nano ubriacone che solo le puttane non prendono in giro perché paga bene ha sempre addosso odore di donne deve essere uscito da un bordello e oltre al vino e all'alcol beve sempre l'assenzio dunque bisognerà parlarne di questo assenzio che in quegli anni bevevano in molti bevevano tutti soprattutto gli artisti Gauguin Alain Poe Picasso Verlè Rimbaud Monet Baudelaire Wilder Lautrec Modigliani Hemingway solo per citarne alcuni e naturalmente il nostro Van Gogh L'assenzio è un liquore ad altissima gradazione alcolica può superare addirittura i 70 gradi ha un colore verde e viene ottenuto dall'Artemisia absinthium una pianta che cresce spontaneamente in quasi tutta l'Europa ma soprattutto in Italia dove la chiamiamo Artemisia maggiore o romana le sue proprietà officinali erano note fino dall'antichità infatti se ne parla in un papiro egiziano del 1600 a.C. e ci sono diversi riferimenti anche nelle sacre scritture secondo Plinio e Putarco nel 150 a.C. lo utilizzavano come insetticida per i campi mentre Lucrezio scrisse alcuni canti su questa bevanda che all'epoca non era ancora alcolica se ne parla anche in una raccolta tedesca rinascimentale sulle proprietà medicamentose si diceva che veniva consigliato alle persone di cattivo caratter per renderle più dolce tuttavia in sé è talmente amaro che nelle sacre scritture simboleggia i dolori della vita e si usava a dire di qualcosa che è amaro come l'assenzio oggi diremmo è amaro come il fiele parlavamo dell'assenzio però ancora come tisana come infuso non ancora come liquore grande vizio della Francia dell'ottocento e non solo della Francia come liquore l'assenzio si diffuse verso il 1830 quando tornarono in patria le truppe francesi che avevano conquistato l'Algeria si vociferava che l'assenzio diluito in acqua li aveva preservati dal tifo dal colera dalle santerie e persino dalla malaria naturalmente mischiandolo con alcol ma era una leggenda in Francia la strana bevanda dal gusto amaro di anice diventò subito una moda quasi un rito sociale la chiamavano le perille verte il pericolo verde o anche la fe verte la fata verde con riferimento al colore della bevanda e all'atmosfera magica in cui si perdevano le persone che lo consumavano il suo uso aumentò enormemente in Francia fra il 1880 e il 1890 proprio gli anni di Van Gogh dopo che una malattia delle viti aveva fatto crollare la produzione di vino l'assenzio costava poco e conteneva molto alcol al suo fascino poi contribuiva anche il rito della preparazione su un bicchiere apposito contenente l'assenzio veniva posto un cucchiaio forato su cui si posava una zolletta di zucchero sopra la zolletta veniva versata delicatamente goccia a goccia dell'acqua ghiacciata in modo da provocare lo scioglimento dello zucchero e la diluizione del liquore il rapporto da 1 a 3 a 1 a 5 si è poi scoperto che l'assenzio conteneva tuione una neurotossina con effetti simili a quelli dell'ashish ma capace di provocare uno stato di euforia accompagnato da un'apparente lucidità ma anche da allucinazioni convulsioni e persino delirio lo scrittore Emil Zola ne descrisse con una frase sola gli effetti devastanti sulle classi sociali più umili e la piaga sociale che ne derivava scrisse Zola finisce sempre con uomini ubriachi e ragazze incinte il poeta Ernest Dobson invece è morto a 33 anni a causa dell'alcolismo in una lettera scritta a un suo amico commentava così l'assenzio in realtà è un errore invaghirsi dell'assenzio io stamattina mi sono svegliato con i nervi a fior di pelle e un alito pestilenziale capisco che l'assenzio aumenta l'acidità è estremamente nocivo per la pelle non ho mai avuto un aspetto così vizioso come questa mattina l'assenzio venne proibito in Francia nel 1915 un po' per i danni sociali che provocava un po' per proteggere la produzione di vino oggi è tornato legale con norme e limiti prescritti dalla comunità europea ma attenzione berne molto fa male come fa male tutto l'alcol e ancora di più perché è una gradazione altissima abbiamo detto 70 75 gradi quindi niente assenzio e ricordate che Van Gogh quando si tagliò mezzo orecchio era anche perché aveva bevuto tracannato parecchio assenzio ma torniamo a Toulouse Lothrack e a Van Gogh un giorno Toulouse Lothrack velocissimo al bar schizza il profilo di Vincent Toulouse Lothrack pittore di cabaret dipinge Van Gogh molto realistico la mascella serrata i capelli mal tagliati rasati sulla nuca la barba dura e caprina le labbra sottili lo sguardo puntuto e severo la testa è retta su un corpo che invece si protende tutto in avanti pronto a scattare i gomiti appoggiati sul tavolo e le mani unite davanti al bicchiere immancabile di assenzio Vincent come sempre fa sibilare l'aria fra i denti e sembra un serpente velenoso pronto ad affrontare un animale gigantesco anche Lucien Pissarot Gauguin e Bacon dipingeranno straordinari ritratti di Vincent ma cogliendone solo un aspetto della personalità invece con tratti velocissimi di blu e arancio Toulouse Lothrack ne afferra l'intera personalità un uomo inflessibile stizzoso e violento convinto delle sue idee fino alla maniacalità Emile Bernarda ci ha lasciato di Van Gogh anche una testimonianza scritta che vale la pena di leggere rosso di capelli barbetta caprina baffi incolti nuca rasata sguardo d'aquila e labbra taglienti quasi parlassero di media statura attacchiato ma non troppo il gesto vivace l'andatura a scatti questo era Van Gogh sempre con la pipa una tela o una stampa o un cartone acceso nel discorrere eternamente intento a spiegare e sviluppare idee poco portato alla polemica anche questo era lui e quanti sogni oh quanti sogni esposizioni gigantesche falasteri filantropici per artisti fondazioni di collettività nel mezzogiorno e altrove occupazione di luoghi pubblici per la famosa rieducazione delle masse che hanno pure conosciuto l'arte in passato a Toulouse o Treck Vincent non è molto simpatico proprio perché con la scusa che è ricco gli chiede sempre di organizzare una casa di lavoro per pittori una comunità una delle idee fisse di Vincent infatti era proprio fondare una società cooperativa che dividesse in parti uguali i ricavati di tutte le opere vendute dal gruppo di pittori una comune un'idea romantica sempre basata sull'idea che un artista deve poter lavorare senza preoccupazioni materiali è una delle frasi preferite di Van Gogh il suo non è più soltanto un progetto con interessi economici proprio lui il genio isolato Van Gogh ha in mente più che una scuola un lavoro collettivo espone le sue idee anche a Theo il mercante d'arte in una lettera sono sempre più convinto che i quadri che bisognerebbe fare perché la pittura attuale fosse completamente se stessa e salisse ad un'altezza pare alle cime serene raggiunte dagli scultori greci dei musicisti tedeschi e dei romanzieri francesi la punteggiatura di Van Gogh non è un gran che sto leggendo con difficoltà proprio per questo superano le possibilità di un individuo isolato essi saranno probabilmente creati da gruppi di uomini che si metteranno insieme per realizzare un'idea comune questo ha un'orchestrazione superba di colori ma manca di idee un'altro sovrabbonda di concezioni nuove tristi o deliziose ma non sa esprimerle eccetera eccetera insomma bisogna mettersi tutti insieme un'idea romantica infattibile come capita non soltanto agli artisti ognuno credeva di essere più bravo degli altri e quindi queste idee di Van Gogh non piacevano affatto cercando di togliere il suo ritorno Toulouse L'Otrecht comincia a magnificargli i colori del sud della Francia e Vincent si convince così che non c'è bisogno di andare in Martinica per trovare il sole De La Croix e Monticelli hanno inventato il colore in Nord Africa e nel sud della Francia e anche lui andrà al sud Adolfo Monticelli o Monticelli era ormai francese col suo bastone di canna il cappello di paglia la grande barba bianca era morto da pochissimo a 62 anni mezzo paralizzato e pazzo per colpa dell'assenzio nel 1886 a Marsiglia correva voce che si fosse ucciso Vincent avrebbe tanto voluto conoscerlo lo considerava il suo unico maestro e si che non è poi un pittore oggi così conosciuto nel 1888 scrive che sentiva di essere suo figlio e suo fratello scrive anche che Monticelli sognava sole amore e gioia ma era sempre tormentato dalla povertà insomma si identifica attribuisce all'altro i propri guai e i propri meriti e viceversa Monticelli oltretutto era un ex prete Vincent ricordiamo era tentato di diventare prete ma i suoi quadri li vendeva bene e badava parecchio a divertirsi ma Vincent cerca un esempio non importa morire o risuscitare scrive quando al nostro posto risorge un uomo vivo che continua la nostra opera che riprende la stessa causa che continua lo stesso lavoro conduce la stessa vita muore della stessa morte questi sono i discorsi che fa al caffè fra i bevitori di assenzio ma lo sfotte l'amico Bernardo e come farai per esempio a sentire la musica di Wagner nel sud Van Gogh infatti era appassionatissimo di Wagner non ti è piaciuto tanto ieri il concerto sembrava che l'avessi fatta tu quella musica Wagner è un grande musicista a voce a Vincent non ho sentito nient'altro che suoni nella mia anima e niente mi toglierà quel ricordo la sua sonorità è impressionante la musica di Wagner sa riprendere la scala cromatica i suoi bassi sono come il blu di Prussia i suoi oboi sono verde scuro i tamburi il locra scuro i violini sono di giallo cadmio vivo ah un Wagner della pittura ecco quello che ci vorrebbe ma ci sarà così conclude Perentorio e guarda tutti con area di sfida naturalmente è lui sente di essere Wagner della pittura Vincent riprende sapete perché vado via da Parigi sapete perché perché chiedono tutti in coro perché non ne posso più di voi siete dei grandi pittori ma come uomini mi disgustate in realtà Van Gogh ha imparato molto dagli impressionisti o meglio ha imparato una cosa sola ma fondamentale ha imparato a schiarire i suoi dipinti che fino allora erano tutti di toni cupi scuri opprimenti è come se a Parigi d'improvviso avesse scoperto il colore e vuole andare al sole del sud per permettere a quei colori di esprimere tutta la loro forza a Parigi Vincent è andato anche a scuola dove almeno contrariamente a quello che gli era successo ad Anversa non gli rimproverano una sua abitudine che si rafforzerà dipinto dopo dipinto ovvero quella di dipingere spesso con le dita invece che con i pennelli a un maestro che gliel'aveva rimproverato Vincent aveva risposto gridando che importa potrei usare anche i calcagni dal momento che funziona e che c'è l'effetto se si guarda le sue quadri a vicino soprattutto nell'ultimo periodo è facile notare i colpi di pollice di Vincent che danno un effetto di vitalità fisica carnale a Anversa Vincent aveva avuto questa esperienza tremenda cioè una commissione di ben 25 insegnanti aveva deciso di retrocederlo nelle classi addirittura fra i ragazzini di 12 anni lui che aveva già dipinto un capolavoro come i mangiatori di patate ma che non era stato capito a Parigi dunque preferì frequentare lo studio privato di un pittore Fernand Cormont dove avevano studiato anche Gauguin e Toulouse Lothrec proprio Toulouse Lothrec aveva definito Cormont come l'uomo più brutto e più magro di Parigi di certo però non era un grande pittore anche se aveva ottenuto una fama discreta con grandi composizioni di carattere preistorico ma era un maestro gentile e paziente che erano doti assolutamente indispensabili in una classe come la sua che comprendeva una sessantina di aspiranti pittori alcuni dei quali sarebbero diventati maestri veri e celebrati in tutto il mondo per ottenere disciplina difficile da avere Cormont aveva fatto scrivere caratteri immensi su un'intera parete dello studio gli allievi non parlano che quando è il loro turno e il loro turno non viene mai altri tempi pensate che risultati otterrebbe oggi una frase del genere nelle nostre scuole in quel grande salone c'era un odore dolciastro e nauseante di colori di polvere di fumo di tabacco di pipa di chiuso lasciato libero però Vincent al contrario del solito non dà mai in escandescenze anzi fra tutti è quello che si concentra e che lavora di più non si accorge neppure che tutti ridono di lui per come è concentrato e serio mentre studia e riproduce i modelli decine per lezione rimase alla scuola di Cormont solo per due mesi di più non gli occorreva nonostante provasse cito disprezzo per la povera perfezione accademica in cui l'arte vi è spesso meno come riferì a Toulouse trek la sua tecnica si era affinata enormemente nei due anni parigini dipinse un quinto della sua produzione totale almeno duecento quadri anche nel carattere Vincent era diventato più sicuro di sé sempre pronto alle discussioni più accese si era anche rimesso fisicamente perché il fratello lo faceva mangiare con regolarità e non aveva più quell'aria malata e malnutrita di sempre anche i suoi rapporti con le donne erano diventati più sereni benché fossero limitati praticamente solo a quelli con le prostitute a parte il rapporto tempestoso con Agostina Segatori Vincent in una delle rarissime lettere che scrisse alla sorella Guillo Mett scrisse per quel che mi riguarda continuo ad avere avventure amorose impossibili e assai poco decorose da cui esco regolarmente con vergogna e danno ma non per questo quelle donne cessano di essere profondamente giustificate ai miei occhi anche Teo scrive alla sorella a proposito di Vincent e sono tutt'altre parole la mia vita è quasi insopportabile nessuno vuol più venire da me perché Vincent non va in cerca che di litigare inoltre è così disordinato che la nostra casa è tutt'altro che accogliente spero che andrà ad abitare da solo in qualche posto ne ho già parlato ma se gli dicessi che deve andarsene questo diventerebbe subito un motivo per restare non gliene voglio ma chiedo una cosa che non mi faccia del male ora restando me ne fa e soffro di vederlo ancora qui si direbbe che due persone diverse coesistano in lui l'una mirabilmente dotata simpatica e dolce l'altra egoista e spietata esse si danno il cambio così che ora lo si sente ragionare in un altro modo ora in un altro ancora con argomenti pro e contro contro se stesso è un peccato che ci sia in lui questo conflitto perché rende la vita difficile non soltanto agli altri ma anche a se stesso soprattutto lo rendeva difficile proprio a Teo che lo incoraggia ad andare verso il sud per liberarsene Teo Van Gogh incoraggia il fratello Vincent ad andarsene a dipingere al sud con la scusa che vedere tutti quei colori farà bene la sua pittura ma in realtà per liberarsene perché è una presenza incombrante e è curioso questo mercante d'arte abilissimo Teo che intuisce la grandezza possibile del fratello ma non capisce che è già grande scrive ho la certezza che è artista e quel che fa ora può anche non essere valido talvolta ma senza dubbio potrà servirgli più avanti e può essere che allora divenca sublime e sarebbe una vergogna distoglierlo da una continuità di studio per quanto manchi di senso pratico se diventerà bravo verrà pure il giorno in cui comincerà a vendere sono assolutamente deciso a continuare come ha fatto finora ma spero tanto che in un modo o nell'altro cambierà casa e Vincent parte al nord non lo trattiene più niente oltretutto suo padre nel frattempo è morto stroncato da un attacco cardiaco mentre stava per entrare in chiesa i compaesani olandesi attribuirono subito quella morte improvvisa e in età ancora giovane ai dolori che gli dava il figlio primogenito l'imbrattatele pazzo come lo chiamavano l'unica commemorazione che Vincent fece del padre è un quadro con la sua sedia vuota la sua pipa e la borsa del tabacco appoggiate sopra come a indicarne la scomparsa il vuoto di lì a non molto a darlo Vincent dipingerà anche la propria sedia una semplice sedia di paglia vuota con sopra appoggiata la pipa il tabacco è l'annuncio della propria morte ormai vicina del resto l'ossessione della morte l'aveva già preso parecchio tempo prima quando scriveva al fratello se non mi curerò e aspetterò troppo tempo morirò o quel che è peggio diventerò pazzo ma non si curò mai anzi aveva già scherzato con la morte dipingendo uno strano quadro un teschio con una sigaretta in bocca è un dipinto non drammatico e neppure angoscioso ma piuttosto pieno di ironia e di umorismo per questo alcuni critici che sono degli specialisti nell'attribuire agli autori intenzioni e significati strani hanno addirittura preso quel teschio con la sigaretta in bocca come un'anticipazione del surrealismo per quanto Vincent fosse all'avanguardia secondo me più modestamente quando Vincent dipinse quell'opera aveva soltanto voglia di giocare uno dei suoi rarissimi momenti di gioco quanto la morte scrive anche al fratello in una delle pochissime lettere che abbiamo del periodo parigino visto che vivevano insieme è meglio farsi del buon sangue che suicidarsi questa è l'intenzione la realtà sarà tutt'altra così Vincent lascia Theo molto depresso in cattiva salute e quasi alcolizzato a forza di farmi la guardia deve essere proprio stato un grande sollievo per Theo Van Gogh vedere partire il fratello Vincent presa un treno di terza classe separarla 750 chilometri a sud di Parigi dove non conosceva nessuno era il 20 febbraio 1888 e Vincent fu assolutamente stupefatto di trovare la neve dove era andato a cercare il sole ma non mancò di prendere subito tela e colori per raffigurare quel paesaggio insolito il brutto tempo passò presto in Provenza gli alberi da frutto fioriscono con grande anticipo i mandorli riparati dai venti più forti fioriscono già in gennaio e Vincent potrà realizzare una bagliante sequenza di variazioni cromatiche con gli albicocchi i ciliegi i mandorli i meli i peschi e i susini in fiore lavoro furiosamente scrisse dopo poco a Theo perché gli alberi sono in fiore e i fruttetti di Provenza hanno un'allegria folle il 20 aprile aveva già dipinto una dozzina di fruttetti ma dobbiamo parlare un po' di Arles è una città del sud della Francia che oggi ha poco più di 50.000 abitanti ma a quei tempi era molto meno popolata si trova sulle rive del fiume Rodano proprio dove inizia il delta alle porte della romanticissima Camarga oggi metaturistica e quindi molto vicino al mare è una città dalla storia antichissima popolata fin dal primo millennio avanti Cristo da popolazioni liguri e poi colonizzata dai romani come tutta la Francia meridionale era importante perché si trova proprio all'incrocio tra la via fra Italia e Spagna e la valle del Rodano che unisce il nord del sud della Francia per il suo clima era stata anche una delle residenze preferite dell'imperatore Costantino e capitale di un regno nel medioevo dopodiché ebbe un'esistenza tranquilla e ricca e oggi ancora oggi è una città molto visitata dal turismo per il suo clima i suoi palazzi magnifici di ogni epoca le rovine romane che sono state anche iscritte fra il patrimonio dell'umanità dell'UNESCO c'è anche addirittura un affidato romano che è una copia un po' più piccola del Colosseo molto ben conservata comunque vale la pena di visitarla una curiosità di Arles è che lì visse l'intera esistenza Jean Calment chi è Jean Calment? è una donna è l'individuo che detiene il record di longevità umana legalmente provata dagli atti dello Stato civile era nata nel 1875 e morì nel 1997 a 122 anni 5 mesi e 14 giorni aveva dunque una tredicina d'anni quando Vincent girava per le strade di Arles e ancora per il centenario di Van Gogh se lo ricordava ai giornalisti che la intervistavano disse che Vincent era sporco malvestito e sgradevole ma Vincent che ebbe una vita così breve quella vecchia sarebbe stata simpatica e allora visto che purtroppo in questa serie di alle 8 della sera parliamo sempre di gente morta giovanissima permettetemi di fare una piccola digressione per ricordare questa donna che a 85 anni cominciò a tirare di scherma e che a 100 andava ancora in bicicletta a 114 anni fece anche una piccola apparizione in un film su Van Gogh era innamorata del vino e smise di fumare a 117 anni non per la salute ma soltanto perché ormai era quasi cieca e si vergognava a chiedere l'accendino che gli accendessero le sigarette di sé diceva ho una sola ruga e ci sono seduta sopra il giorno del suo 120esimo compleanno le fu chiesto come prevedeva il suo futuro e lei rispose molto breve la cosa più buffa è che quando compi i 90 anni un avvocato che ne aveva 47 comprò la sua casa accettando di pagarle una somma mensile fino alla sua morte l'avvocato fece in tempo a morire e così anche la sua vedova prima che la casa finalmente si liberasse a Darla oggi c'è anche un edificio chiamato spazio Van Gogh ed è proprio l'edificio più giusto quasi un atto di giustizia perché quell'edificio è l'ex ospedale dove Vincent venne rinchiuso e legato a un letto di ferro come parzo tornando a quei tempi Vincent si sistemò in un albergo vicino alla stazione all'ultimo piano nelle stanze meno care da dove si vedevano le gradinate dell'arena romana che lui non dipinse mai a testimonianza di come gli importasse poco delle glorie antiche di quella città odierà gli abitanti di Arla non meno di quanto amerà il sole del sud perché quei bravi cittadini lo tormenteranno a non finire per il suo aspetto buffo e per quel gesto drammatico quanto innocente di tagliarsi in mezzo orecchio molti di quei buoni cittadini firmeranno una petizione al sindaco per farlo rinchiudere il manicomio ma soprattutto saranno loro a sbeffeggiarlo continuamente per i suoi capelli i suoi buffi vestiti e soprattutto per la sua pittura che proprio non piaceva Vincent ormai aveva dimenticato i pericoli della provincia comunque a lui interessava soltanto vedere come la campagna assolata nel pieno delle sue forze circondasse quel piccolo formicaio di paese fino a schiacciarlo era venuto a sfidare il sole in realtà però il sole della provenza non è così forte come lo raffigura Van Gogh e i colori di quella terra non sono così vivaci come quelli dei suoi quadri Vincent esasperò il tutto perché voleva raffigurare la forza e la violenza della natura nel pieno della sua potenza Van Gogh sembra ripetere dentro di sé le parole dello Zaratustra di Nietzsche che però non conosceva sole quale sarebbe la tua bellezza se non avessi coloro che illumini infatti non si ritrova un'esplosione di vita simile nei numerosi arlesiani che Vincent dipinse che sono tutti spenti mosci tristi squaglidi gli arlesiani l'hanno ricambiato sfruttando le possibilità turistiche dell'incidente e gli hanno fatto un monumentino ai giardini una faccia di bronzo spiritata la bocca aperta quasi da idiota anche a Dover dove morì Van Gogh il monumento rigorosamente in bronzo vada soprattutto a mettere in risalto che si trattava di uno tipo per strano e che quindi i cittadini rispettabili e bravi del luogo non sono tanto condannabili sebbero per lui una certa rifidenza Arles era anche possibile assistere alle corride data la sua vicinanza con la Spagna e Vincent va a vederne una nonostante il suo immenso smisurato amore per gli animali Allaia per esempio aveva dipinto dal vero un vecchio ronzino con l'intento palese di denunciare la crudeltà degli uomini nel quadro che dipinge sulla corrida poi Vincent sembra addirittura assumere il punto di vista del toro la sagoma dell'animale definita con poche pennellate di un grigio molto cupo si distacca contro lo sfondo giallo-arancio dell'arena il toro fissa stupefatto la folla che urla in delirio e allo stesso tempo guarda con sorpresa e dolore anche lo spettatore del quadro ma il protagonista è la folla che urla felice dello spettacolo sanguinoso urla leva le braccia in alto sventola i cappelli in una vera esibizione della propria mancanza di sensibilità rispetto alla compostezza sofferente della bestia che sta per essere uccisa il punto di vista del pittore invece è rappresentato da alcune donne e da un bambino che distolgono lo sguardo dalla scena Avvin sente i colori il clima il sole il lavoro fanno molto bene e si sente sempre meglio Al fratello scrive mi sembra che a intervalli il sangue abbia più o meno intenzione di rimettersi a circolare contrariamente a quanto accadeva negli ultimi tempi a Parigi non ne potevo veramente più però continua a bere forte fortissimo vino assenzio e cognac che porta sempre con sé in una fiaschetta quando va a dipingere dando una sorzata ogni tanto spessissimo anche a digiuno mangia quasi niente i pasti i suoi pasti se si possono chiamare così se li preparava da sé pane spesso secco e un pezzo di formaggio scaldava il caffè su una stufetta e gli capitava di non mangiare carne anche per un mese e mezzo un po' per risparmiare un po' perché gli sembrava un lusso eccessivo uno spreco una volta in Olanda un conoscente lo aveva invitato a pranzo al ristorante ma si accorse subito che davanti alla tavola imbandita il suo ospite prendeva soltanto pane e formaggio gli disse di servirse anche di burro e di prosciutto tanto avrebbero pagato la stessa cifra ma Vincent rispose se lo facessi mi vizierei troppo lo stesso gentile signore lo invitò a casa della propria madre si chiamava citiamolo Antoine Kessemakers era un pittore dilettante dunque lo invitò a casa della madre e Vincent si sorprese enormemente che tutto quel ben di Dio sulla tavola fosse stato preparato per lui pensate pretese e ottenne il solito pezzo di pane con formaggio ad Arles Vincent non incontrò nessuno di così gentile in compenso però trova anche un allievo con un cambio merce Vincent gli dà lezioni di pittura e l'altro posa per lui come modello si tratta di un sottotenente degli suavi di nome Mie che peraltro non apprezzava affatto i quadri di Van Gogh il suo maestro Vincent scrive al fratello di solito non gli piace quello che faccio ma se almeno posasse meglio mi farebbe tanto piacere e avrebbe un ritratto più raffinato di quelli che posso fargli ora benché gli elementi siano belli con il suo volto pallido opaco e il capì rosso contro lo sfondo smeraldo Mie è passato alla storia solo per quel ritratto ma ancora cinquant'anni dopo quando venne rintracciato da un critico e Van Gogh era già considerato da decenni un gigante della pittura lui continuava a non apprezzare il maestro né come uomo né tantomeno come pittore ecco cosa disse era uno strano era uno strano uomo la testa un po' calda come un soldato ma non lo era nessuna disposizione per l'arte militare nessuna un artista certo un artista che disegnava in un modo più che rispettabile ma a quel ragazzo che aveva gusto e talento per il disegno diventava normale appena toccava i pennelli come si metteva a dipingere mi allontanavo o rifiutavo di dare qualsiasi giudizio oppure litigavamo non aveva un carattere facile e quando si infuriava sembrava matto beh possiamo forse dare anche ragione a Van Gogh che questo signore non trovasse all'altezza la sua pittura però gli rimproverava sempre di avere una fede eccessiva nel suo talento una fede un po' cieca e un orgoglio smisurato peraltro la sua salute non sembrava buona si lamentava dello stomaco ma nell'insieme conclude era un buon compagno una persona non cattiva per forza di cose Vincent faceva ritratti soprattutto a gente semplice che avendo molto tempo libero era disposta a posare per lui per esempio una certa madame Ginoux dopo averle fatto il ritratto Vincent le disse madame Ginoux il vostro ritratto un giorno sarà a Louvre non è a Louvre ma al museo di stato Van Gogh ad Amsterdam e madame Ginoux poteva ben risparmiarsi la sua risalta di allora Vincent ad Arles soffriva di dover spendere per l'albergo buona parte del suo piccolo stipendio mensile che gli dava Teo e si mise presto a cercare casa la trovò il primo maggio 1888 in una piazza all'ingresso della città mandando a Teo alcuni disegni del palazzo Vincent gli scrive ebbene ho affittato oggi l'ala destra di questa costruzione che comprende quattro locali o piuttosto due camere e due stanzini di fuori è dipinta di giallo mentre dentro le pareti sono sbiancate a calce in pieno sole l'ho affittata per 15 franchi al mese ora il mio desiderio sarebbe di ammobiliare una camera quella al primo piano per poter ridormire diventerà poi lo studio il diposito per tutto il tempo del mio soggiorno qui nel mezzogiorno così sarò finalmente indipendente dalle beghe delle locande che costano care e mi deprimono spero di essere capitato bene questa volta tu capisci giallo fuori bianco dentro in pieno sole finalmente vedrò le mie tele in un interno luminoso il pavimento è a mattoni rossi e fuori il giardino della piazza comincia dunque ad apparire il giallo come protagonista sia delle opere sia della vita di Van Gogh un giallo che farà la sua prima esplosione nel quadro dell'estate 1888 intitolato la mietitura quando a Vincent rimangono solo due anni di vita quel giallo poi riproposto in tantissimi quadri è diventato quasi il simbolo di Van Gogh il giallo Van Gogh è un giallo così violento così singolare così eccessivo che ne sono state date le spiegazioni più varie persino una chimico medica che fa risalire il giallo Van Gogh ha una percezione anomala che avrebbe avuto di questo colore a causa dell'assunzione di digitale un farmaco che veniva usata sui tempi per contrastare gli attacchi epilettici si dice che questo farmaco può produrre una intossicazione tale da compromettere le normali percezioni sensoriali provocando xantopsia cioè un disturbo visivo caratterizzato dalla visione gialla degli oggetti bianchi e dalla visione violetta degli oggetti scuri ora è vero che corpo e psiche sono interripendenti l'uno dall'altro tanto che un altro grande pittore Vasili Kandinsky scrisse non dobbiamo ingannarci pensare che riceviamo la pittura attraverso l'occhio no la riceviamo a nostra insaputa attraverso tutti e cinque i nostri sensi e come potrebbe essere altrimenti la spiegazione chimico-medica però non ci convince affatto anche perché Van Gogh cominciò a usare quel giallo prima di venire curato per l'epilessia il giallo dei campi di Van Gogh è lo stesso giallo accecante di chi guarda dritto il sole nel pieno della sua luce è il sole che si trasferisce sulla terra nelle spighe di grano con una forza e una brutalità che affascinano noi come affascinavano Van Gogh i contadini che mietano sono come travolti da quella forza è una forza che assume i movimenti delle onde del mare è la scoperta della disperata volontà di vivere della natura che Van Gogh esprime con quel suo giallo allucinato Vincent chiede continuamente a Teo colori e tela non mangia quasi niente e spende solo per dose enormi di cattivo caffè assenzio tabacco pessimo e donne da due franchi il suo è un delirio creativo che non ha niente a che vedere con Arla è il frutto di otto anni di studio in cui ha bruciato tutte le tappe della pittura tutto gli è noto e niente lo può più fermare se fosse morto in quell'ottobre sarebbe già Van Gogh per il resto dei secoli e lo sa ha passato otto anni a supplicare Teo di vendergli qualche quadro e ora per tutto l'inverno lo ossessiona con suppliche e minacce addirittura perché tenga nascosti i suoi quadri comincia a scrivergli che non è il momento di vendere poi lo prega di non metterli in mostra addirittura di non farli vedere neanche agli amici gliene manda sempre meno spesso di nuovi con la scusa che devono asciugare almeno un anno al caldo del sud e infine timoroso che Teo disubbidisca gli chiede di rimandarglieli perché deve fare dei ritocchi rifiuta anche di esporre un quadro nella importantissima galleria Goupil che sarebbe la grande rivincita di tutta la sua vita perché Vincent ha iniziato a lavorare lì come commesso da ragazzino anzi richiede addirittura quelli che sono stati affidati a papà Tanguy spiega che non se la sente di affrontare i giudizi sprezzanti e ciechi dei contemporanei ma si irrita moltissimo quando il Mercurio de France una rivista importante pubblica un articolo molto benevolo su di lui il primo sa in definitiva che è troppo presto per capirlo davvero e poi non gli piace affatto che i suoi quadri possano essere venduti a poche centinaia di franchi perché tale sarebbe stata la sua valutazione del resto neanche Teo con tutta la sua buona volontà sarebbe disposto a credergli se Vincent gli spiegasse che un giorno verranno venduti più dei Rembrandt quindi è inutile spiegarglielo in otto mesi dal 20 febbraio al 20 ottobre Vincent dipinge molti dei suoi maggiori capolavori gli escono da sotto le dita con la massima naturalezza fa anche due quadri al giorno lavora a 12 ore di fila con una lucidità ed un accecamento da innamorato dice a volte lavora anche di notte sia nelle strade sia in casa ma di notte si dedica soprattutto ai girasoli perché reclinano presto e devo farli in un colpo solo per vederci mette in testa un incredibile cappello di paglia sul quale ha fissato una decina di candele e sembra lui stesso un girasole in fiamme adotta la stessa tecnica anche per strada per uno dei suoi quadri più famosi quello che raffigura all'esterno di un caffè illuminato da una lampada a gas oltre a mettersi il solito cappello adornato di candele accese orna di candele anche la tela sopra e ai lati e si mette a dipingere in mezzo alla strada possiamo benissimo immaginare lo stupore e il divertimento degli abitanti di Arles peraltro già abituati parecchio alle stranezze di quello straniero i cittadini di Arles fanno proprio come chi se uno indica le stelle con un dito guarda il dito invece delle stelle così si soffermano a guardare il cappello fiammeggiante invece del quadro e non si accorgono neppure che le stelle del cielo sulla tela di quel pittore sono diventate vive pulsanti minacciose è una prefigurazione del suo celeberrimo la notte stellata e Vincent racconta così le stelle a Teo il cielo di un blu cupo era macchiato da un blu più cupo del blu fondamentale di un cobalto intenso e da nuvole di un blu più chiaro come il biancore azzurro della via Lattea sul fondo blu le stelle splendevano chiare adamantine come pietre preziose più che da noi come opali smeraldi lapislazoli rubini zaffiri ogni stella di Van Gogh ha la sua faccia la sua personalità che la rende diversa da ogni altra come se fossero esseri umani non so voi ma da quando conosco la storia di Van Gogh ho molto rispetto per i pittori che vediamo spesso dipingere per strada e per quanto spesso mi sembrino mediocre sto ben attento a esprimere un giudizio Vincent dipinse anche l'interno di un caffè con il biliardo al centro un altro quadro famosissimo a proposito del quale scrive a Teo infine con grande gioia del proprietario del postino che ho già ritratto dei vagabondi notturni e di me stesso per tre notti ho vegliato dipingendo e coricandomi durante la giornata spesso ho l'impressione che la notte sia ben più viva e intensamente colorata del giorno ho cercato di esprimere con il verde e il rosso le terribili passioni umane la sala è rosso sangue e giallo sordo un biliardo verde al centro quattro lampade giallo limone con un alone arancio e verde ovunque è uno scontro è un'antitesi dei verdi e dei rossi più diversi nei piccoli personaggi addormentati nella sala vuota è triste viola e blu il rosso sangue e il verde giallo del biliardo contrastano con il piccolo verde tenero Luigi XV del banco su cui c'è un mazzo di rose le vesti bianche del padrone che veglia in un angolo di questa fornace diventano giallo limone e verde pallido luminoso sembra di vederlo anche se lo abbiamo tutti molto ben presente Vincent aggiunge anche una notazione sociologica come gli piaceva ho cercato di dire che il caffè è un luogo dove ci si può rovinare o diventare matti commettere dei crimini è un'atmosfera da fornace infernale di zolfo pallido che esprime come la potenza tenebrosa di una trappola e tuttavia sotto un'apparenza di gaiezza su questo quadro Vilma Torselli studiosa appassionata di Van Gogh ha scritto che le regole prospettiche ben note a Van Gogh abile e colto disegnatore sono volontariamente trasgredite con l'effetto di destabilizzazione delle normali percezioni spaziali rende così i suoi interni sottilmente angoscianti il protagonista muto e immobile della scena è il tavolo da biliardo che occupa il centro della composizione e i personaggi sono del tutto irrilevanti il quadro anche lui diventa un animale un essere animato vivo l'atmosfera densa inquinata di fumo di calore di vapori di alcol disegna attorno alle lampade un alone pesante dalla forma globulare che non ha nulla della levità della luce degli impressionisti suoi contemporanei è un contorno solido denso che ricorda da vicino gli astri rotanti dei celebri cieli stellati dove lo spazio ha una consistenza una corposità e un vigore e diventa materia insomma Vincent ormai non osservava più le cose come erano ma metteva a contatto la propria anima con la loro parlava alle cose riusciva a trarre da loro la loro più intima essenza è una cosa che gli riesce meno con gli uomini con gli uomini che lui chiama bipedi il resto è ricambiato come abbiamo visto venne preso a benvolere soltanto da una famiglia quella dell'impiegato le poste Joseph Roulin e li ritrae tutti più volte anche una neonata così questi signori ci sono rimasti per l'eternità Vincent conobbe e fece quasi amicizia con un poeta pittore belga Eugène Boc un signore che abitavano lontano darla e che gli fu presentato da Theo perché Theo temeva a ragione che la troppa solitudine facesse male a Vincent Vincent infatti ne fu felice anche perché scrisse del nuovo amico non mi stupirebbe che fosse buono Boc e Van Gogh fecero insieme grandi passeggiate nella regione come ricordiamo Van Gogh era un camminatore strepitoso e Vincent confidò a Theo vorrei fare il ritratto di un artista amico che sogna grandi sogni che lavora come il lusignolo canta perché così è la sua natura glielo fece il ritratto su uno sfondo di stelle parlanti e oggi quel ritratto è a Louvre però Boc riparte poco dopo e Vincent rimane di nuovo solo e non può proprio rinunciare alla speranza di un affetto di una compagnia niente donne per carità ma qualche altro pittore cui succhiare amicizia tecniche e esperienze con il quale avere un calore umano che tanto gli manca riprende l'idea di creare una comunità di artisti e arreda con amore da sposa le quattro stanze della casa gialla la casa di piazza Lamartin che ha affittato voglio che sia la casa della luce aveva detto alle pareti appende trenta quadri suoi fatti apposta e dà inizio a lungo assedio a Gauguin che sta nel freddo della Normandia anche Gauguin ha calpestato chiunque per poter dipingere ma ha conosciuto la vita era nato a Parigi cinque anni prima di Van Gogh e morì tredici anni dopo nelle isole Marchesi morì dunque giovane a cinquantacinque anni ma comunque a diciotto anni in più di Van Gogh quanto alla vita privata anche in quella era l'opposto di Vincent Gauguin infatti aveva sposato una bambinaia danese ed ebbe ben cinque figli era figlio di un giornalista e la sua fu una vita avventurosa fin dalla nascita la famiglia si trasferì in Perù quando Paul aveva soltanto un anno e suo padre morì durante il viaggio Paul tornò in Francia a sette anni a Orléans ma abbandonò prestissimo gli studi per fare il mozzo sulle navi mercantili poi partecipò sempre come marinaio sulle navi da guerra al conflitto fra Francia e Prussia dopo di che si mise a lavorare a Parigi in un'agenzia di cambio e diventò anche un uomo d'affari molto abile che però perse tutto per un crollo in borsa intanto per sua e nostra fortuna aveva già cominciato a dipingere ed era stato subito apprezzato dalla critica così decise di darsi all'arte e cominciò a frequentare gli stessi caffè e gli stessi pittori squattrinati che frequentava Vincent si colobbero in quel modo la moglie di Gauguin però non condivideva affatto la sua scelta e tornò dalla madre in Danimarca con i figli senza per questo dare un grosso dispiacere a Gauguin che non ne poteva già più della vita in famiglia anzi sempre voglioso di avventure a un certo punto parte insieme a un amico e va in Martinica dove torna un anno dopo più povero di prima eppure malato il fatto però è che la sua pittura piace molto a Theo Van Gogh che espone i suoi quadri nella sua importantissima galleria dove si guarda bene da esporre quelli del fratello Vincent Gauguin era molto pieno di sé e non stimava Van Gogh né come uomo né come pittore in un volume di memorie scriverà uno dei suoi motivi di collera era di essere costretto a riconoscermi una grande intelligenza Gauguin fu certamente un grande pittore ma certamente non comparabile con Van Gogh che ha cambiato il corso stesso della pittura determinando negli sviluppi successivi Vincent ammira e vuole aiutare Gauguin al fratello Theo scrive ah fai molto bene a pensare a Gauguin le sue negre sono piene di alta poesia e tutto ciò che la sua mano fa è dolce triste e stupefacente non lo si capisce ancora e lui soffre molto del fatto di non riuscire a vendere come tanti altri veri poeti ma Van Gogh venne ricambiato molto molto male da Gauguin dopo la morte di Vincent alcuni amici volevano organizzare una mostra per onorarlo e Gauguin si oppose con tutte le sue forze dicendo è veramente troppo poco politico esporre le opere di un folle forse Vincent era attirato proprio da quell'egoismo che permette a Gauguin di divorare la vita forse pensa anche che con la sua passione per il sole e i viaggi sia il compagno più idoneo per vivere con lui nel sud e poi sa che l'amico è in difficoltà economica in Normandia e lo vuole aiutare per tutta l'estate e l'autunno Vincent gli scrive supplicandolo di venire a darla magnificandogli la bellezza del posto della casa di quanto risparmieranno e di quanto si potranno aiutare è anche geloso che stia in Normandia con Emile Bernard ma Gauguin con Bernard ci sta benissimo il ragazzo è giovane e sveglio mentre quell'olandese rosso e fanatico laggiù è un vero rompiscatole Vincent scrive anche a suo fratello Teo tutto sommato potremmo vivere in due nel nuovo studio e mi piacerebbe molto chissà che Gauguin non venga nel mezzogiorno allora potremmo cucinare in casa e ancora se Gauguin vuole venire qui dovremo comprare assolutamente i due letti o i due materassi e con lo stesso denaro che spendo da solo potremmo vivere in due è un po' un Van Gogh che chioccia e che però ha bisogno a sua volta di una chioccia ed è disposto a sacrificarsi più di quanto non faccia già pur di avere accanto l'amico Gauguin si rassegna soltanto quando anche Teo comincia a pregarlo Teo è il mercante che lo segue meglio e ha già venduto qualcosa di suo quindi Gauguin spera di guadagnarci e parte a malincuore a spese di Teo il 23 ottobre 1888 arriva a darla e immediatamente il disordine che trova nella casa gialla lo mette di malumore è peggio di quel che credesse la sera stessa vanno in uno dei bordelli più popolari frequentato solo da poveracci e da algerini della legione straniera gli zuavi con i loro ridicoli pantaloni rossi e i baffi cattivi l'arrivo di Gauguin fa grande impressione alle ragazze è un uomo allegro un bellissimo uomo e piace così finisce che trattano peggio il brutto olandese e sì che fino allora i bordelli mettevano grandissima allegria a Van Gogh che appena arrivato si era premurato riscrivere a Teo domenica ho visto qui un bordello senza contare gli altri giorni una grande stanza dipinta a calce azzurrata come una scuola di villaggio una buona cinquantina di militari in rosso e di civili in nero con le facce di un magnifico giallo e arancione le donne in blu chiaro in rosso tutto ciò che c'è di colore più puro e sfacciato il tutto visto con una luce gialla molto meno lugubre delle amministrazioni con sorelle di Parigi lo splen qui non è di casa già dopo due mesi l'arrivo di Gauguin Vincent scrive a Teo temo che Gauguin sia un po' deluso della buona città di Arles della piccola casa gialla dove lavoriamo e soprattutto di me Gauguin è fortissimo è un grande creatore ma proprio per questo ha bisogno di pace potrebbe trovarla altrove se non qui aspetto che prenda una decisione con assoluta serenità in realtà non è affatto sereno teme moltissimo che l'amico quello che ormai considera il suo unico amico lo abbandoni certamente poi Gauguin si porta a letto anche la piccola Raquel la ragazza preferita di Vincent di lei non si sa niente ma ce la possiamo immaginare piccola giovane bruna coi denti bianchi pronti alla risata e dolce materna paziente con Vincent che passa più tempo a parlarle che a fare quello per cui paga comunque se una volta teorizzava che non bisogna disperdere il seme più spesso di due volte al mese ora smette di conservare il suo prezioso seme per investirlo in pittura ha capito di essere in Van Gogh e si può dilapidare anche in questo senso appena può è al casino dove scrive di solito perdo velocemente e completamente la bussola ci spende molto più di quanto potrebbe e fa la cressa nei lunghi e dettagliati elenchi delle uscite che manda a teo per dimostrargli che non spreca neppure un franco Vincent è in paradiso Gauguin cucina e cucina anche bene da marinaio lui invece fa le faccende di casa per il resto dipingono tutto il giorno e imparano l'uno dall'altro e pazienza se Gauguin si lamenta che Arler non gli piace che era meglio la Normandia e che appena avrà un po' di soldi ripartirà per la Martinica incanta Vincent con i suoi racconti di viaggio delle donne e dei colori che ci sono là Vincent lo ascolta in adorazione e scrive a Teo ciò che Gauguin mi racconta dei tropici veramente mi incanta quali cose si potrebbero fare laggiù mi rincresce solo di non avere dieci o vent'anni di meno perché allora ci andrei certamente da notarsi che aveva appena trentacinque anni ma sa che gliene restano pochi e continua intanto è più che mai improbabile che io lasci la terra e mi metta in mare e così la piccola casetta gialla qui ad Arl resterà una stazione intermedia fra l'Africa i tropici e la gente del nord Gauguin non ricambia i suoi sogni come Mauve come Cézanne non capisce la sua pittura pensa che Van Gogh sia solo un buon pazzo di buona volontà sbuffa e si annoia quando Vincent inizia le sue meticolose disquisizioni sulla pittura sulle società di pittori sulla letteratura contemporanea e quando Vincent si scalda troppo gli dice oui Brigadier che equivale a sì cretino e lo mette a tecere forse Vincent è anche innamorato di Gauguin forse si tratta di una vicenda omosessuale mai espressa questa teoria è stata anche più volte avanzata se fu così purtroppo mai espressa direi perché se invece fosse sbocciata forse Vincent si sarebbe tormentato di più nei suoi sensi di colpa ma proprio per questo si sarebbe distratto dalla strada che lo avrebbe portato 18 mesi dopo a spararsi in una buca di letame a questo punto Gauguin gli fa l'estremo oltraggio un ritratto guardatelo il Van Gogh di Gauguin mentre dipinge un mazzo di girasoli secchi è il ritratto di un demente la mascella prognatica il naso rosso d'alcol gli occhi semi chiusi che lasciano passare solo il betismo abbandonato su una sedia con quel braccio molle che tiene con garbo eccessivo un pennello sottilissimo quando Vincent lo vede si infuria sono io quello ma sono io pazzo urla straziato dal dolore con l'ira dell'innamorato che scopre il suo amore parlare male di lui al mondo ostile appena tre mesi prima Van Gogh ha dipinto proprio per Gauguin e gliel'ha regalato il proprio autoritratto giapponese dove si mostra come un bonzo semplice adoratore del buddaterno e fra tutti i numerosissimi autoritratti di Van Gogh è quello dove si tratta meglio dove appare bello forte sicuro di sé le labbra sprezzanti gli occhi pronti a qualsiasi sfida è il quadro che un innamorato dà al proprio amore raffigurandosi al meglio Vincent non ha mai fatto un ritratto a un amico anche se in tutte le lettere si lamenta di non avere soldi per pagare modelli e si riduce a raffigurare chi trova il postino l'oste la contadina il disoccupato lo zuavo il neonato il medico ma pensate non fece mai un ritratto di Teo né di Gauguin né delle sorelle solo un viso della madre dopo che era morta ripreso pari pari da una fotografia e colorato una cosa abbastanza scolastica il fatto è che Van Gogh non faceva ritratti agli amici per non ferirli perché sentiva che avrebbe mostrato loro non solo come li vedeva lui ma come erano veramente così Van Gogh soffre enormemente quando scopre che il suo idolo Gauguin vede di lui la parte peggiore quella che c'è certo che sente di avere ma che sa anche che bisogna mischiare con l'altra quella buona generosa geniale per avere intero Van Gogh Gauguin non ne poteva più aveva già comunicato a Teo che si era ben guardato da dirlo a Vincent che voleva tornare caro signor Van Gogh le sarò grato se vorrà mandarmi il denaro per i quadri venduti a conti fatti devo assolutamente tornare a Parigi Vincent ed io non possiamo proprio vivere a fianco a fianco senza disturbarci a vicenda a causa dell'incompatibilità d'umore ed ecco poco prima di Natale la tragedia Natale 1888 Vincent Vincent non parla mangiano poi come al solito escono per bere un'assenza Vincent nel caffè sorseggia il suo quando d'improvviso apparentemente senza motivo scaglia il becchiere verso Gauguin cercando in vano di colpirlo in faccia Gauguin non reagisce lo riporta tranquillamente a casa ma il giorno dopo annuncia che se ne andrà possiamo immaginare le suppliche di van Gogh la sua disperazione fra l'altro ad aggravare il suo dolore e le sue preoccupazioni ha saputo da pochissimo che Theo si è fidanzato ufficialmente questo significa che una donna verrà a prendere il posto privilegiato che ha nel cuore del fratello Vincent teme soprattutto che Theo d'ora in poi destinerà alla propria famiglia i soldi che servono alla sua pittura lo sfinimento di quei mesi di creazione inesausta fece il resto Gauguin convinto dalle suppliche disperate di Vincent decide di rimanere ancora però una notte si sveglia di colpo e scopre Vincent accanto al suo letto che lo guarda fisso muto con occhi terribili ed è un bello spavento un altro giorno ancora Vincent gli mostra il ritaglio di un giornale con un grosso titolo senza dargli nessuna spiegazione l'assassino è fuggito Gauguin non ha più dubbi e come possiamo dargli torto partirà il giorno di Natale la sera prima però va a fare una passeggiata da solo probabilmente per l'ultima visita al bordello ecco il seguito nel racconto fatto dallo stesso Gauguin nelle sue memorie arrivata la sera dopo aver cenato senti il bisogno di uscire solo a prendere aria nel profumo dei lauri fioriti avevo già quasi attraversato Place Victor Hugo quando senti dietro di me un breve passo ben noto rapido e irregolare mi voltai proprio nell'attimo in cui Vincent si stava avventando su di me con un rasoio aperto in mano lo sguardo che gli lanciai dovette essere ben eloquente perché si fermò e abbassata la testa tornò di corsa verso casa non abbiamo la versione di Vincent comunque possiamo tenere buona questa di Gauguin certo è che Vincent torna effettivamente a casa e Gauguin con molta prudenza giustificata va a dormire in albergo arrivato a casa Vincent si mette davanti allo specchio e con un colpo netto si taglia quasi metà dell'orecchio sinistro la parte inferiore non proprio tutto ma non soltanto il lobo un terzo dell'orecchio con un taglio trasversale compresa la cartilagine dovette fargli un male tremendo e il sangue uscì copiosissimo perché ci sono un sacco di vene nell'orecchio fu ovviamente una cosa impressionante di cui abbiamo un documento dell'epoca perché la notizia venne pubblicata su un giornale locale le forum repubblichenna ecco qui il testo di questa notizia ola di cronaca nera che anche oggi ci stupirebbe e ci farebbe raccapriccio domenica scorsa alle ore undici e mezzo di sera un uomo di nome Vincent Vogog scritto proprio così sbagliato pittore di origine olandese si è presentato alla casa di tolleranza numero uno ha chiesto di una donna di nome Rachel e le ha consegnato puntini un orecchio un suo orecchio dicendole conservate questo oggetto gelosamente poi è scomparso informata dell'accaduto che non poteva attribuirsi se non ad un povero alienato la polizia si è recata l'indomani mattina a casa dell'individuo che ha trovato disteso a letto e che non dava ormai quasi più segno di vita l'infelice è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale io credo che Vincent voleva sacrificare Gauguin sgozzarlo impotente mentre gli dava di spalle non fare una rissa era un sacrificio umano quello che voleva per fargli spiare il fallimento di una solidarietà fra due grandi che avrebbe potuto produrre meraviglie infinite o forse anche solo per amore solo per amore ma lui era debole Van Gogh e si limitò a un gesto simbolico e ironico Gauguin è il torero che l'ha sconfitto bisogna offrire l'orecchio alla bella dama come si fa nelle corride un gesto per scaricare tutta l'elettricità e la stanchezza che gli premeva sul cuore per fare uscire un po' di sangue a questo episodio ha dedicato un libro bellissimo Georges Bataille e non a caso i libri di questo scrittore francese sono sempre centrati sulla ricerca degli stati estremi in cui dolore e gioia estasi erotica estasi mistica coincidono il libro si intitola La mutilazione sacrificale e l'orecchio reciso di Vincent Van Gogh è del 1930 purtroppo non ha traduzioni recenti e contiene tesi molto forti ieri abbiamo accennato al libro di Georges Bataille La mutilazione sacrificale e l'orecchio reciso di Vincent Van Gogh è un libro molto forte dalle tesi decise Bataille sostiene che non si possono limitare gli uomini come Van Gogh alle tradizioni etniche culturali e geografiche dell'epoca e del luogo in cui vivono aggiunge che in alcune popolazioni si usa sacrificare un dito amputandoselo e chi è pazzo in Europa può essere santo in India e viceversa cose che conosciamo bene del resto dice Bataille molti popoli usano ancora tagliare un pezzo di pene ai loro figli appena nati se Vincent invece di un pezzo d'orecchio continua Bataille si fosse tagliato il prepuzio probabilmente non sarebbe finito il manicomio come dargli torto il taglio dell'orecchio fu una tale manifestazione di forza che gli psichiatri non possono neanche avvicinarsi a capirla e poi dice Bataille quell'idea di fasciarsela meglio incartare il pezzetto di carne e portarlo alla piccola Raquel la sua prostituta preferita dicendole conservalo con cura così ti ricorderai di me quale migliore oltraggio la società che considera quelle donne come luogo per depositare gli escrementi che farle omaggio di un pezzo così nobile come il suo orecchio e quale migliore oltraggio a Raquel sempre secondo Bataille che aveva accolto il sesso del traditore di Gauguin come imporle quel pezzo di carne morta Anassarco d'Abdera pestato vivo in un mortaio senza più un osso intero si troncò coi denti la lingua e la sputò in faccia al tiranno Nico Creone Zenone e Delea fece lo stesso con De Milo ma erano faccende di filosofi contro tiranni e per questo vengono considerate eroiche e stimabili come se la libertà di pensiero fosse un bene più prezioso della libertà di tagliarsi un orecchio per polemizzare con un amico divenuto nemico questa è la tesi di Bataille certo suggestiva ma anche molto forzata Van Gogh comunque dopo la ferita viene portato in ospedale mentre Gauguin torna subito al nord Gauguin partì il giorno di Natale del 1888 e in proposito Vincent scrisse a Theo facendo un'ardita disamina niente impedisce di vedere in lui la piccola tigre buona parte dell'impressionismo in quanto il suo eccrisamento d'Arles si potrebbe paragonare al ritorno dall'Egitto del suddetto piccolo caporale che come lui ritornando a Parigi lasciava sempre gli eserciti nei guai una lettera ironica anche un po' sprezzante come si vede ma Gauguin scrive ancora parole amichevoli e affettuose approfitto della prima uscita dall'ospedale per mandarle due parole di amicizia sincera e profonda non assicura che sta bene e aggiunge la prego di stare tranquillo anche lei perché in definitiva fra i migliori non esiste alcuna disgrazia da allora Gauguin andò avanti e indietro tra la Francia e le isole più esotiche ebbe numerose compagne altrettanto esotiche fece figli prese la sifilide diventò alcolizzato e nel 1898 otto anni dopo Vincent tenterà anche lui il suicidio senza riuscirci morì nel 1903 avendo il modo e il tempo di assistere al successo del rivale che aveva così sottostimato nell'ospedale di Hall Vincent viene curato per la ferita e subito dopo chiuso nella cella dei pericolosi incatenato a un letto di ferro murato alle pareti e al pavimento nella cella di Van Gogh un minuscolo finestrino inferriato e quasi all'altezza del soffitto deve provvedere al suo immenso bisogno di luce cerca di piangere ma non ce la fa neanche quando finalmente arriva Teo al quale ammannisce tanto per punirlo alcune lunghissime divagazioni filosofico teologiche che però Teo non ha avuto il garbo di tramandarci lamentandosene soltanto Vincent viene curato da un giovane medico il dottor Ray e Vincent per gratitudine gli fa un ritratto Ray lo rifiuta dice che non ci si riconosce forse capisce o intuisce che non si tratta esattamente di un omaggio la cannagione trasparente e sana i capelli ordinati la barbetta vezzosa e una boccuccia una boccuccia rosa molle arrogante che fa il paio con gli occhi investigativi da giudice spietato è il ritratto della predunzione dei medici verso un povero pazzo Ray accetta di portare il quadro a casa solo perché il malato insiste ma lo usa per tapparci una finestra nel solaio con il vetro rotto lo venderà dieci anni dopo quando gli giunge voce che la follia dei tempi e la degenerazione dell'arte stanno portando fama a quel povero mentecatto del suo ex paziente lo vende anche a basso prezzo adesso l'unico ricordo che resta della rispettabilissima vita del dottor Ray e della sua lunga salute è appeso a una parete del museo Puskin di Mosca il 7 gennaio 1889 Vincent può tornare a casa ma è proprio ora che inizia il tormento vero l'intero paese lo tiene sott'occhio e qualsiasi suo gesto anche il più banale sembra la conferma della sua pericolosità un artesiano di nome Julian molti anni di dopo rilasciò questa testimonianza che vale la pena di leggere eravamo una banda di giovanotti fra i 16 e i 20 anni e come imbecilli ci divertivamo a gridare ingiuria a quell'uomo che passava solitario e silenzioso con una grossa camicia indosso e quei cappelli di paglia a buon mercato che si potevano comprare dappertutto ma lui li ornava con un nastro azzurro o giallo mi ricordo e con quanta vergogna ora di avergli gettato dei torsoli di cavolo che volete noi eravamo giovani lui era strano andava in campagna a dipingere con la pipa fra i denti il grosso corpo un po' incurvato e quello sguardo da folle aveva sempre l'aria di fuggire e non osava guardare nessuno e forse proprio per questo lo tormentavamo con le nostre ingiure non dava mai scandalo neppure quando aveva bevuto il che gli accadeva molto spesso soltanto ci spaventammo molto tutti dopo la sua mutilazione perché capimmo che era veramente matto ho pensato spesso a lui era una creatura dolce un essere desideroso d'essere amato e noi lo lasciamo alla sua terribile solitudine di genio al suo isolamento terrificante questo è il famoso senno di poi poco dopo un gruppo di bravi cittadini di Arles scrive al sindaco una petizione perché faccia rinchiudere quel pazzo pericoloso ma anche senza il loro intervento il 9 febbraio 1889 Vincent dovette essere di nuovo ricoverato in ospedale estenuato dall'insonnia e dalle allucinazioni il dottore I attribuì quella ricaduta al terrore che Vincent aveva di una nuova crisi nervosa ma più probabilmente Van Gogh aveva paura dei cittadini di Arles si sfoga anche con il sacerdote del carcere se la polizia proteggesse la mia libertà impedendo ai bambini e anche agli adulti di circondare la mia casa e di scalare in ferriare come hanno fatto come fossi un animale strano sarei rimasto più calmo in ogni caso non ho fatto male a nessuno ma Vincent sta per essere ricoverato in un manicomio i medici di allora non erano capaci di capire che l'eccesso di creatività può sfondare le fragili difese della convenzione sociale e sboccare in atteggiamenti anormali Van Gogh e Nietzsche potevano uscire da qualsiasi schema senza per questo essere pazzi semplicemente il loro cervello divorava se stesso e le convenzioni inadeguate che erano del tutto inadeguate appunto a loro sentire la vita ma ammettiamo pure che lo si voglia giudicare per i suoi comportamenti oltre che per la sua pittura ebbene ci piacciono vero i gialli di Vincent allora sentite cosa dice il 24 marzo 1889 con una semplicità commovente al dottor rei dall'aria sana e dall'erable rosa che lo rimprovera di avere bevuto troppo alcol lo ammetto ma per raggiungere l'alta nota gialla che ho raggiunto quest'estate ho dovuto montarmi un poco ma come spiegarlo a gente che si tocca continuamente il fegato e si guarda la lingua e le macchie della pelle per vedere se sta bene se potrà vivere dieci anni di più come spiegarlo a chi non se la sente di mettersi in gioco per cercare qualcosa che non si sa neanche bene cos'è dice Vincent mi stanno tormentando che ho fumato bevuto e va bene ma con tutta la loro sobrietà non fanno che causarmi nuove miserie qualsiasi cosa qualsiasi affronto anche il manicomio e la derisione purché lo lasciano dipingere per il tempo che gli resta è lui stesso che in maggio dopo cinque mesi di libertà chiede di essere ricoverato nel manicomio di Saint Paul de Musol vicino a Saint-Rémy 25 chilometri da Arles e a questo punto facciamo entrare nel nostro racconto Antoine Nartaud forse l'uomo che è riuscito a entrare in maggiore intimità con Van Gogh anche se nacque quando Vincent era già morto e anche lui morì pazzo ma io d'ora in poi dirò sempre pazzo fra virgolette eccolo il magro esperitato Artaud con i suoi lunghi capelli anarchici un giorno scoprì Van Gogh in una mostra e scrisse furiosamente su di lui un breve saggio Van Gogh il suicidato della società era il 1947 il libro è l'opera più Van Goghiana mai scritta su Van Gogh Artaud sarebbe morto come vedremo un anno dopo Antoine Marie Joseph Artaud nacque a Marsiglia nel 1896 sei anni dopo la morte di Van Gogh all'età di quattro anni soffrì di un attacco grave di meningite e da allora in poi soffrì anche di nevragia balbuzze ed episodi di depressione grave passò lunghi anni dell'adolescenza e della prima giovinezza in sanatorio dove fra l'altro un medico gli prescrisse dell'oppio da cui divenne ben presto dipendente fra gli altri vizi Artaud fu uno straordinario inventore e innovatore sperimentatore teatrale promulgò quello che definì il teatro della crudeltà per crudeltà non intendeva sadismo o causare dolore a qualcuno ma piuttosto una violenta fisica determinazione a scuotere la falsa realtà che si stende come ronzuolo sulle nostre percezioni come diceva come Van Gogh Artaud aveva una concezione pessimistica del mondo e della vita ma credeva che il teatro potesse cambiare qualcosa distogliendo il pubblico dalla quotidianità per mettere in moto le emozioni e l'anima degli spettatori utilizzava quindi anche il grottesco l'orrendo e il dolore per aggredire il pubblico e di qui la definizione di teatro della crudeltà è la stessa cosa che anche Vincent Van Gogh faceva inconsciamente con i suoi quadri mostrando la realtà di una natura violenta ed egoista a 30 anni Artoven è internato in diversi istituti per malattie psichiatriche e subì ben 51 cadute in coma da elettroshock nel 48 morì da solo seduto di fronte al letto con una scarpa in mano forse per una dose letale di un farmaco come aveva detto l'anno prima però aveva scoperto Van Gogh e aveva scritto Van Gogh il suicidato della società che oggi è facilmente reperibile e pubblicato da Adelphi Artaud è convinto che cito nessuno nessuno ha mai scritto dipinto scolpito modellato costruito inventato se non per uscire letteralmente dall'inferno così interpreta come nessuno prima di lui la pittura di Van Gogh e allo stesso tempo denuncia le repressioni di una società ipocrita che soffoca e diverso e bolla come pazzo l'individuo che vuole emanciparsi da un sistema che lo rifiuta sentite l'inizio del suo libro parliamo pure della buona salute mentale di Van Gogh il quale in tutta la sua vita si è fatto cuocere solo una mano e non ha fatto altro per il resto che mozzarsi una volta all'orecchio sinistro in un mondo in cui si mangia ogni giorno vagina cotta in salsa verde ossesso di neonato flagellato e aizzato alla rabbia colto così com'è all'uscita del sesso materno e questa non è un'immagine ma un fatto abbondantemente e quotidianamente ripetuto e coltivato sulla terra intera ed è così per quanto delirante possa sembrare tale affermazione che la vita presente si mantiene nella sua vecchia atmosfera di stupro anarchia disordine delirio sregolatezza pazia cronica inerzia borghese anomalia psichica perché non l'uomo ma il mondo è diventato una normale si mantiene in un'atmosfera di voluta disonestà e di esimia furfanteria di lurido disprezzo per tutto ciò che mostra di avere razza di rivendicazione di un ordine fondato internamente sul compiersi di una primitiva ingiustizia di crimine organizzato insomma le cose vanno male perché la coscienza malata ha un interesse capitale in quest'epoca a non venire fuori dalla propria malattia è così che una coscienza tarata ha inventato la psichiatria per difendersi dalle investigazioni di certe lucide menti superiori le cui facoltà divinatorie la infastidivano van gogh suicidato della società dunque con in più una profezia di artò un giorno la pittura di van gogh armata di colore e di buona salute ritornerà per gettare all'aria la polvere del mondo sigmund freud sosteneva che gli artisti sono alleati preziosi per gli studi psicoanalitici perché diceva nelle conoscenze dello spirito essi sorpassano di gran lunga noi comuni mortali perché attingono a fonti che non sono ancora state aperte dalla scienza è d'accordo in questo con artò e forse è altrettanto vero che nessuno meglio di un matto può capire un altro matto stiamo esaminando i rapporti fra due matti cosiddetti matti van gogh e artò e su questi rapporti ci sono molti studi ma trovo molto interessante in particolare quello di uno studioso di filosofia Valentino Bellucci che ha scritto artò van gogh e le immagini divoranti del 2005 lo trovate su internet per fortuna abbiamo questo strumento straordinario di conoscenza scrive dunque Bellucci artò e van gogh si occuparono di immagini le divorarono o ne furono divorati questa domanda però ne presuppone un'altra fu la follia a utilizzare il loro genio o avvenne il contrario avvicinandosi all'opera di questi due autori si ha come l'impressione che essi siano andati oltre la follia attraverso la follia stessa leggiamo ora in proposito questa lettera di van gogh mi siedo con una tavola bianca di fronte al luogo che mi colpisce guardo quel che mi sta dinanzi e mi dico questa tavola vuota deve diventare qualcosa torno insoddisfatto la metto via e quando mi sono riposato un po' vado a guardarla con una specie di timore allora sono ancora insoddisfatto perché ho ancora troppo chiara in mente quella scena magnifica per poter essere soddisfatto di quello che ne ho tirato fuori ma trovo che nel mio lavoro c'è in fondo un eco di quello che mi ha colpito vedo che la natura mi ha detto qualcosa mi ha rivolto la parola e che io l'ho trascritta in stenografia van gogh dunque sa di aver colto qualcosa da avere addirittura stenografato l'enigma della natura le visioni allucinatori di van gogh in realtà sono il residuo di una visione ben più potente e per primo se ne accorse Hugo von Hofmastal il grande intellettuale austriaco quando scrisse a proposito dei dipinti di van gogh era una creatura ogni albero ogni striscia di campo giallo o verdastro ogni siepe ogni sentiero tagliato nella collina pietrosa una creatura la brocca di stagno la scodella di terra il tavolo la roza sedia mi si levava incontro come rinata dallo spaventoso caos della non vita dal baratro dell'irrealtà così che io sentii no seppi che ognuna di quelle cose di quelle creature era nata mi sentivo come uno che dopo una interminabile vertigene sente terraferma sotto i piedi e intorno a lui infuria una tempesta nel cui furore egli vorrebbe gridare e urlare di gioia questo è l'effetto che in quadri van gogh fanno a Hofmastal Artaud col suo teatro tentava la stessa impresa colpire fino al midollo l'esistenza degli altri non ci rivolgiamo allo spirito ai sensi degli spettatori dice ma a tutta la loro esistenza alla loro e alla nostra giochiamo la nostra vita nello spettacolo che si svolge sulla scena e fu proprio il desiderio di colpire tutta l'esistenza degli altri ad avvicinare Artaud e van gogh infatti a ton nota sempre parlando di van gogh che dipingeva non già delle linee e delle forme ma cose della natura inerte come fossero in preda delle convulsioni e con il suo colpo di maglio proprio con il suo colpo di maglio van gogh non smette di colpire tutte le forme della natura e degli oggetti graffiati dal chiodo di van gogh i paesaggi mostrano la loro carne ostile la collera delle loro viscere sventrate che è una strana forza ignota sta però metamorfizzando come si vede sono interpretazioni ben diverse da quelle tradizionali e classiche di un van gogh cantore della natura van gogh ha ferito la carne delle cose le ha fatte sanguinare artò conclude così la sua investigazione in medesimazione con il pittore van gogh è di tutti i pittori quello che ci spoglia più a fondo e fino alla trama aveva dunque ragione si può vivere per l'infinito non saziarsi che di infinito c'è abbastanza infinito sulla terra e nelle sfere di che saziare mille grandi geni e se van gogh non ha potuto appagare il suo desiderio così da irradiarne la sua esistenza intera e perché la società glielo ha proibito l'umanità continuava artò non vuole darsi il fastidio di vivere ha preferito sempre accontentarsi di esistere comunque la si pensi trovo commovente l'incontro di queste due menti che hanno cercato di vivere oltre le possibilità umane e che nello sforzo sono cadute visitare il manicomio di Saint-Rémy è deludente per chi ha in mente i dipinti corrispondenti di van gogh dell'ingresso dei portici degli interni del giardino la realtà sembra un falso tanta è la forza della pittura di van gogh il manicomio era un antichissimo monastero trasformato in manicomio nel settecento possiamo benissimo immaginare il confort di cui godevano si fa per dire i malati io credo che Vincent in realtà si fece ricoverare perché aveva una terribile paura che con il finanzamento il prossimo matrimonio e l'imminente bambino il fratello Teo non gli avrebbe mandato più un franco sul suo finanzamento il matrimonio Vincent aveva scritto a te ho lettere incoraggianti da buon fratello maggiore come per esempio questa ora la cosa principale è che il tuo matrimonio non vada per le lunghe sposandoti tu renderai la mamma tranquilla e felice e farai quello che è necessario alla tua sistemazione nella vita e nel commercio sarai apprezzato dalla società alla quale appartieni ma certo credo che da me tuo fratello tu non vorrai delle felicitazioni banali e l'assicurazione che sarai di colpo trasportato in un paradiso ma con tua moglie cesserai di essere solo è questo che auguro a te e anche a nostra sorella sorella che era e rimarrà zittella quello che Vincent pensava veramente però è facilmente delucibile da una lettera di poco successiva che scrisse non alla famiglia ma al pittore Paul Signac per il fatto che mio fratello non abbia ancora risposto alla sua lettera sono indotto a credere che non sia colpa sua anch'io sono senza sue notizie da una quindicina di giorni è in Olanda dove in questi giorni si deve sposare ora non negando assolutamente i vantaggi di un matrimonio una volta concluso e una volta sistemati tranquillamente a casa nostra i funesti festeggiamenti dei ricevimenti con felicitazioni deplorabili per entrambe le due famiglie eccetera 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 cioè Vincent non ama questo matrimonio è una cosa che lo turba profondamente anche se lo nasconde a Teo dopo il matrimonio Vincent manda poche righe acide alla sorella Guillemin lui è contento delle sue esperienze matrimoniali e si è molto tranquillizzato lui si fa poche illusioni poiché ha la forza di accettare le cose così come sono senza pronunciarsi né sul bene né sul male nella qualcosa va benissimo perché che ne sappiamo noi di ciò che facciamo in realtà Vincent sa benissimo cosa vuole fare lui altro che matrimonio vuole dipingere ha paura che Teo sposato non gli dia più soldi ma sa anche che non potrà rifiutarsi di pagare la retta del manicomio scrive se fossi cattolico mi farei monaco scrive a Teo oppure minaccia addirittura di arruolarsi nella legione straniera che in quel momento sta combattendo nelle lontane terre d'Arabia io non sarai infelice o scontento se da qui a poco mi potessi arruolare nella legione straniera per 5 anni accettano fino a 40 anni credo fisicamente la mia salute va meglio di prima e credo che fare il servizio militare forse mi farà meglio di qualsiasi altra cosa non dico che si debba o si possa farlo senza riflettere ma bisogna pensare che qualsiasi cosa facciamo non sarà mai adatta come questa soluzione sarebbe stato interessante vedere Van Gogh nella regione straniera dipingere il deserto ma comunque era un blef non ha nessunissima intenzione di arruolarsi il manicomio va molto meglio perché il problema della vita quotidiana è risolto senza tante complicazioni così finge di essere pazzo per Teo lo prende in giro per convincersene basta leggere la lettera che Vincent scrive a Arnold Koenig un pittore olandese quanto alla causa e alla conseguenza di questa mia indisposizione penso sarà saggio da parte mia lasciare la soluzione di questi problemi alle discussioni casuali dei catechisti olandesi voglio dire se sono pazzo o non sono pazzo se sono stato pazzo e quindi ancora lo sono in alcune mie fantasie di tipo puramente plastico e se così non è se già fossi pazzo prima di allora e se lo sono al momento attuale o se lo sarò da ora in avanti Teo invece deve continuare a credere che è un pazzo non pericoloso gli scrive lasciatemi continuare tranquillamente il mio lavoro e se sarà quello di un pazzo tanto peggio penso di accettare semplicemente la mia figura di pazzo così come Degas ha assunto la figura di un notario e ancora comincio a considerare la pazzia una malattia come un'altra e ad accettarla ogni tanto però per sovrapprezzo minaccia Teo che invece vorrebbe godersi la luna di miele con la sua bella sposa olandese se fossi senza il tuo appoggio mi lascerebbero andare al suicidio senza rimorsi e benché io sia vile finirei per andarci è proprio dopo questa lettera minacciosa minatoria che Teo si decide a pagargli il ricovero in manicomio trattamento di lusso due stanze invece di una mezzo litro di vino a pasto invece di un quartino Vincent parte felice per il manicomio di Saint-Rémy anche se certamente il luogo non è dei più accoglienti scrive a Teo benché qui di continuo si sentano grida e urla terribili come di bestie in un serraglio le persone di qui si conoscono molto bene fra loro e si aiutano le une con le altre quando lavoro in giardino vengono tutte a vedere e sono più discreti ed educati nel non disturbarmi che ad esempio i bravi cittadini di Arla a Teo Vincent non risparmia ringraziamenti a me dipingere è costato che ora la mia carcassa è sfinita e il mio cervello completamente tocco a te è costato soltanto mettiamo una quindicina di migliaia di franchi che mi hai anticipato lo prende in giro insomma perché si rende conto che per Teo era stato davvero un gran buon affare a St. Remy il cibo sa di muffa e poiché a base dell'alimentazione ci sono lenticchie piselli fagioli uno dei passatempi principali dei ricoverati è esibirsi in anarchici concerti di peti intorno alla stufa di solito Vincent osserva i malati con tenerezza e in una delle sue lettere paragona la grande sala comune a una sala d'attesa di terza classe di qualche paese stagnante tanto più che ci sono alcuni distinti alienati che portano sempre il cappello come al mare e che figurano fra i passeggeri a volte ritrae anche dei vecchi disperati ma il più angoscioso dei quadri che fa all'interno del manicomio è la ronda dei prigionieri famosissimo ripreso da Gustave Doré quello dove ci sono dei carcerati che girano in tondo per l'ora d'aria all'interno delle mura altissime di una prigione la figura in primo piano è l'osservatore con una desolazione apatica e senza dubbio lo stesso Van Gogh tra i pazzi Vincent trova quella solidarietà che non aveva fra i sani una sopportazione vicendevole un'attenzione che nessuno si faccia male durante le crisi e Vincent arriva alla conclusione che morire pazzo non è peggio che morire di sifilide o di tisi da lì a decidere che morire giovane non è peggio che morire vecchio ci vuole molto poco Vincent scrive la vita la vita è visibile per intero da noi o non ne conosciamo invece prima della morte che è un emisfero i pittori per non parlare che di loro sia pur morti e sepolti parlano alla generazione successiva o a molte generazioni successive con le proprie opere questo è tutto o c'è anche dell'altro nell'esistenza dell'artista forse la morte non è l'atto più difficile io dichiaro di non saperne proprio nulla ma sempre la vista delle stelle mi fa sognare semplicemente come semplicemente come è sottolineato mi fanno sognare i puntini neri che nella carta geografica indicano città e paesi perché mi dico i punti luminosi del firmamento dovrebbero essere meno accessibili dei punti neri sulla carta della Francia se prendiamo il treno per recarci a Tarascona o a Rouen prendiamo la morte per raggiungere una stella qui che certamente è vero in questo discorso è che da vivi sottolineato non possiamo recarci su una stella proprio come da morti non possiamo prendere il treno è il periodo della notte stellata la seconda che dipinge dopo quella fatta a Arla ed è la più famosa nella prima notte stellata le stelle palpitavano nella calma del firmamento ma erano immobili nella notte stellata di Saint-Rémy le stelle si muovono non hanno più quell'aria viva ma tranquilla sono come parte di una corrente celeste moltissimi critici hanno cercato di spiegare il mistero della notte stellata di Van Gogh nei modi più vari e fantasiosi e spesso si sono rifatti alla malattia come se solo un pazzo potesse dare un'interpretazione così nuova così viva così unica di un fenomeno al quale l'uomo assiste all'alba dei secoli di certo quando Van Gogh dipinse quelle stelle in processione veramente vive e fluttuanti accadde qualche cosa di terribile nella testa del povero Vincent quella notte riuscì a scoprire qualche segreto troppo grande del traffico dell'universo la comunione fra il cipresso e il roteare pazzo delle stelle è un complotto che nessun uomo doveva sapere e lui ne fu schiantato forse ci può aiutare a capire una lettera che Vincent aveva scritto della sorella poco prima a proposito della scoperta che aveva appena fatto di Walt Whitman il grandioso poeta americano che si ha detto per inciso è anche il mio preferito e fra poco approfitterò per declamare alcuni suoi versi Whitman sarebbe morto tre anni dopo per fortuna vecchio a differenza di Van Gogh ecco la lettera di Vincent hai già letto le poesie americane di Whitman sottolineato Teo deve averle e ti esorto a leggerle perché sono veramente belle prima di tutto e poi gli inglesi ne parlano molto adesso egli vede nel futuro e anche nel presente un mondo di salute di amore fisico ampio e schietto d'amicizia di lavoro con il grande filmamento stellato qualcosa che infine non si può chiamare che Dio e l'eternità tutto rimesso a posto al di sopra del mondo ci fa sorridere in un primo tempo tanto è candido e puro e fa riflettere per la stessa ragione e allora ecco da foglie d'erba questi versi gli stessi che lesse Van Gogh allora credo nella carne e nei suoi appetiti vedere udire sentire sono miracoli ed ogni parte ogni lembo di me è un miracolo divino io sono dentro e fuori e santifico tutto ciò che tocco o da cui sono toccato l'odore di queste ascelle è un aroma più dolce che le preghiere questa testa è più che chiese Bibbie e tutti i credi e ancora ostentazione del sole io non ho bisogno di espormi a te cammina tu illumini soltanto superfici io forzo superfici e profondità terra sembra sembra che tu aspetti qualcosa dalle mie mani di vecchia testona cosa vuoi uomo o donna vi direi quanto vi amo ma non posso vi direi quanto è in me e quanto in voi ma non posso vi direi lo struggimento che ho quella pulsazione delle mie notti e dei miei giorni ma non posso e ancora io sono colui che ha un angoscioso desiderio d'amore gravita la terra la materia non attira bramandola tutta la materia così il mio corpo verso tutti quelli che incontro e conosco non riconosciamo il Van Gogh che abbiamo incontrato finora in questi versi certo non voglio dire che Van Gogh abbia illustrato Whitman ma è il loro sentirsi nel mondo il loro sentire la natura a Dio è vorticosamente simile tutto è una processione l'universo è una processione dal movimento regolato perfetto così scrive Whitman e sembra la descrizione della notte stellata che Whitman certamente non aveva potuto vedere di sicuro dopo avere dipinto la notte stellata Van Gogh tentò di ammazzarsi e ebbe una crisi di pazzia che durò più di un mese ma non esiste la pazzia di Van Gogh esistono le pazzie di Van Gogh perché la semplice follia è fatta solo per la gente comune c'è una prima pazzia quella normale che può capitare a chi beve lavora molto mangia poco ha la sefilide che non è felice da quando è nato ha genitori insopportabili e nessun successo nella vita poi c'è la seconda pazzia quella studiata di cui abbiamo già accennato la paura di rimanere solo senza i soldi di Teo di non poter più dipingere fino a farsi venire le crisi di pazzia quando Teo gli annuncia il fidanzamento quando si sposa quando gli dice che aspetta un bambino e quando il bambino nasce è allora che Van Gogh mangia tre tubetti di colori ingoia trementina ruba il petrolio dalle lampade per berlo insomma cosette così si fa venire le crisi mistiche ricomincia a parlare della regione straniera terrorizza le suore del manicomio minaccia riprendere a pistoletate tutti gli abitanti di Arla e dà addirittura questo è l'episodio in fondo più strano dà un calcio a un sorvegliante gentile che lo accompagnava spesso nelle sue passeggiate per dipingere i due stavano per salire una scala e all'improvviso Vincent si gira e gli dà un calcio nella pancia poi si scusa vi prego di perdonarmi avevo la polizia di Arla alle calcagna sembra che voglia passare per pazzo più che esserlo e del resto lo stesso inserviente ricordò in seguito benché fosse strano e silenzioso quando dipingeva dimenticava i suoi guai e non si curava più del resto quanto ai tentativi di suicidio Van Gogh non aveva intenzione di uccidersi davvero non per niente quando gli viene annunciato che nascerà il figlio di Teo ha paura di essere lasciato in manicomio per sempre e comincia a chiedere di uscire con la scusa che la retta costa troppo cosa di cui non si era preoccupato fino allora fa anche dei ricattucci sono veramente contento scrive a Teo del fatto che se qui talvolta ci sono degli scarafaggi nel mangiare a casa tua c'è una moglie e un bambino e tre mesi prima di ammazzarsi sul serio in certi momenti mi prende una tempesta di desiderio di abbracciare qualcosa una donna di genere domestico ma pazienza bisogna prenderlo per quello che è un sintomo di sovraeccitazione isterica piuttosto che un sogno veramente giusto però il desiderio di una vita normale non è uno dei motivi del suicidio di Van Gogh né la prima né la seconda pazzia di cui abbiamo parlato neanche sommandole sono sufficienti ci deve essere una terza forma di pazzia Vincent diventa pazzo quando si accorge che esistere è un troppo e lo scrive anche con rassegnazione poco dopo il ricovero avevo il disgusto persino di muovermi e niente sarebbe stato più piacevole per me che il non svegliarmi più ora questo orrore della vita è già diminuito e la malinconia è meno acuta ma di volontà non ne ho ancora alcuna neppure desiderio di tutto ciò che fa parte della vita ordinata il disgusto che prova Van Gogh di fronte alla volontà disperata di esistere delle cose degli uomini è lo stesso sconvolgimento che prova il protagonista della nausea di Jean-Paul Sartre ne abbiamo già parlato quando scopre che l'esistenza la sua come quella della radice di un albero è di troppo insopportabilmente di troppo e che non ha alcuna giustificazione se si arriva a quell'emozione non si torna indietro infatti a Vincent restano solo 14 mezzi di vita e ha aspettato anche troppo a lungo c'è qualcosa di questa sensazione che può rendere più scomoda e difficile l'esistenza avere l'orore della vita significa avere schifo degli altri di sé delle gioie come dei dolori anche e soprattutto delle speranze vuol dire sentirsi di troppo e tutto è troppo ogni gesto ogni desiderio anche mangiare e fare l'amore e perfino creare diventa di troppo è la certezza che niente valga la pena e questo basta per impazzire nel maggio 1890 Vincent scrive mi sento rovinato dalla noia e dal dolore tutti noi siamo migliori grazie a lui nei secoli ma lui si è bruciato consumato come una candela e allora non gli resta che morire ancora non lo sa però e continua a dipingere con frenesia e disperazione intanto lo curano come epilettico con le cure inadeguate dell'epoca fra l'altro lo costringono per due volte alla settimana a stare in una vasca piena d'acqua per due ore le foto dell'epoca sono impressionanti con le massicce vasche tutte in fila in uno stanzone chi oggi volesse visitare l'ex manicomio che naturalmente è diventato uno spazio Van Gogh le può ancora vedere sono adibite a fioriera quanto all'epilessia può darsi che Van Gogh avesse anche qualche forma di epilessia più o meno grave ma questo non vuol dire niente e non spiega la sua presunta pazzia oltretutto si tratta di una malattia diffusa e furono epilettici Pietro il Grande Napoleone Bonaparte Handel Nietzsche Molière Flaubert Byron Tasso Dostoevsky Dickens e in età senile anche Francesco Petrarca Carroll l'autore di Alice nel Paese delle Maraviglie Isaac Newton e poi il cardinale Chalier Papa Pio IX lo zar Pietro il Grande Alfred Nobel e fra i pittori Michelangelo Merisi detto il Caravaggio quindi non attribuiamo troppa importanza a questa presunta epilessia e comunque quando non ha crisi epilettiche cosiddette Vincent ha il permesso di uscire poco fuori dal manicomio ma anche un po' più lontano si viene accompagnato da un inserviente in questo periodo dipinge molti olivi una quantità impressionante certo la regione ne offriva in abbondanza ma Van Gogh li considera come fratelli così contorti e battuti dai venti piagati e piegati e poi dopo gli olivi ecco i cipressi che sono ancora più suoi inconfondibili scrive che i cipressi mi preoccupano continuamente vorrei farne qualcosa di simile alle tele dei girasoli perché mi stupisce che nessuno li abbia fatti ancora come li vedo e li vede scossi dal vento quasi fiammeggianti di fuoco nero disperatamente tendenti verso l'alto come demoni accaniti contro il cielo anche la descrizione che Van Gogh dà del suo quadro il falciatore conferma l'idea che ci siamo fatti di come vedeva il rapporto fra natura e uomini scrive ho visto in questo falciatore vaga figura che lotta come un demonio sotto il sole per venire a capo del suo lavoro ci ho visto l'immagine della morte nel senso che l'umanità sarebbe il grano che si falcia e quindi volendo l'antitesi di quel seminatore che avevo tracciato prima ma in questa morte nulla di triste tutto succede in piena luce con un sole che inonda tutto in una luce d'oro fino siamo ormai al 1890 e a vincent van gogh restano da vivere pochi mesi l'anno però inizia con una nascita a fine gennaio nasce il figlio di theo e di sua moglie joanna i due decidono di chiamare il bambino proprio come lui vincent willem van gogh vincent si è opposto con tutte le sue forze inutilmente sa che sta per morire e forse ricorda quanto gli pesava da piccolo passare ogni giorno davanti alla tomba del bambino nato un anno prima di lui e che portava il suo stesso nome comunque dipinge in onore del neonato uno stupendo ramo di mandorlo fiorito visto che il quadro è destinato ad essere appeso nella camera del bambino ci mette molto impegno molto tempo e realizza uno dei suoi quadri apparentemente più festosi prima ripinge rami e i fiori bianchi poi stende l'azzurro del fondo in due tonalità diverse con pennellate ora piccole e lievi ora più forti e allungate che vanno in direzioni molteplici e che creano così uno straordinario effetto di cielo luminoso e vivo ma la nascita del nipote non gli fa bene per quella sua paura di essere abbandonato o trascurato dal fratello Vincent aveva avuto una crisi isterica proprio il giorno del fidanzamento di Theo il 24 dicembre 1888 poi altre crisi guarda caso nel giorno del matrimonio e quando seppe che Theo aspettava il bambino un'altra crisi lo prese il giorno stesso che seppe che il bambino era nato però in qualche modo quel matrimonio e quella nascita furono una fortuna per lui o almeno lo furono per il suo successo postumo infatti dopo che anche Theo sarà morto la moglie Giovanna seguì molto molto bene gli affari di famiglia dedicandosi con un impegno eccezionale al riconoscimento della sua arte e poi fu lei da sola a curare la prima edizione delle lettere di Vincent a Theo e poi anche a tradurle in inglese contribuendo così enormemente sia alla diffusione sia alla comprensione della sua pittura dopo di lei a proseguire l'impresa sarà proprio il nipote omonimo di Vincent diventato non pittore ma ingegnere però a quell'epoca non ci sarà più bisogno di attirare l'attenzione della critica e del mercato su Van Gogh si trattava solo di vendere con accortezza cosa che la famiglia fece benissimo assicurandosi la ricchezza per molte e molte generazioni e a proposito di vendite prima di morire Vincent seppe che almeno un suo quadro era stato venduto nel novembre del 1889 dopo molte insistenze Teo era riuscito a convincerlo a partecipare a una mostra una mostra chiamata il Salone dei Venti un gruppo di artisti belgi che avrebbe esposto a Bruxelles davvero non si trattava di una mostra importante ma Vincent per paura di irritare il fratello accettò e scelse personalmente i quadri da esporre il dipinto di un'edera due quadri di girasoli un frutteto in fiore un campo di grano e quello intitolato la vigna rossa fu proprio la vigna rossa a essere il suo primo quadro venduto anche se l'acquirente l'acquistò forse più per affetto che per stima si trattava infatti di Anne Bock sorella di Eugène Bock l'artista che per qualche giorno aveva fatto compagnia a Vincent a Darla però una cosa curiosa si è scoperto molto tempo dopo cioè poco tempo fa che Theo aveva già venduto un autoritratto del fratello a Londra nell'ottobre dell'88 ma non glielo fece mai sapere perché come abbiamo già detto Vincent in quel periodo non voleva che si esponessero o che tantomeno si vendessero i suoi quadri figurarsi poi un autoritratto quindi Theo glielo nascose La vigna rossa è un dipinto di una forza impressionante nell'intera opera di Van Gogh è quello in cui predomina di più il rosso scrive ho visto una vigna rossa tutta rossa come vino rosso in lontananza diventava gialla e poi un cielo verde col sole terre viola dopo la pioggia e risplendenti di giallo quella dove si rifletteva il sole al tramonto un quadro straordinario Handbock la comprò per 400 franchi belgi una cifra veramente modesta se si pensa che il franco belga valeva meno di quello francese e che Theo mandava a Vincent 150 franchi francesi al mese oggi il quadro che ha un valore inestimabile e all'ermitage di San Pietroburgo la mostra peraltro non ebbe successo alcuno e soprattutto Van Gogh scandalizzò parecchi critici Octave Moss il curatore scrisse poi nelle sue memorie Cezanne gloria di quel salon passò quasi inosservato e Van Gogh ebbe l'onore di scatenare il diapason della stampa calugnatrice lo stesso Moss un avvocato amante dell'arte l'anno dopo la morte di Vincent volle realizzare una sua retrospettiva sempre a Bursell la prima mostra di Van Gogh postuma la retrospettiva venne stroncata dalla critica con una ferocia tale che mi fa venire in mente una definizione del regista Channing Pollock che dice un critico è un uomo senza gambe che insegna a correre uno di questi critici senza gambe di cui non voglio neanche fare il nome perché sarebbe troppo onore scrisse all'epoca ci troviamo trasportati in piena fiera in pieno martedì grasso e aggiungeva che un epilettico nevrotico aveva indossato una maschera fanfaronesca un altro critico che non aveva neanche capito che si trattava di una retrospettiva scrisse Vincent Van Gogh deve certo ridere se vede i perdigiorno sganasciarsi davanti alle sue inverosimili tele ma trascuriamo le miserie della critica e leggiamo piuttosto una lettera di Vincent Atteo sul lavoro dell'artista e dell'uomo sai a che cosa penso molto spesso a quello che ti dicevo già tempo fa che se anche io non riuscirò sono convinto che ciò a cui ho lavorato verrà continuato non direttamente ma non si è mai soli a credere nelle cose vere e allora che importa che io sia personalmente un uomo di successo sono talmente convinto che la storia delle persone è come la storia del grano se non ci seminiamo in terra per germinare che cosa importa ci macinano per diventare pane quanto alla critica Van Gogh non voleva neppure che parlasse bene di lui sicuro che anche nel bene i critici non avrebbero capito e scrive nella vita di un pittore il successo è praticamente la cosa peggiore che gli possa capitare nel maggio del 1890 Van Gogh si appresta a tornare al nord perché ormai ha paura della luce della gente del sud anche Sorratello si sente più tranquillo se ce l'ha più vicino anche se assolutamente non a Parigi per carità prima di accompagnare Vincent al nord però come abbiamo parlato di alcuni libri su di lui è doveroso parlare anche dei film che si sono occupati di lui ambientati soprattutto nel periodo del sud nella Francia perché la storia dell'orecchio mozzato e della pazzia è naturalmente la più appetibile per il cinema il primo film è forse il più bello anche se è solo un cortometraggio di 20 minuti fu realizzato in Francia nel 1948 da Alain Resnée l'impegnatissimo regista che poi sarebbe diventato famoso e acclamato con Hiroshima Mon Amour l'anno scorso a Marianne Bad Mononct d'America eccetera Resnée aveva appena 26 anni e con notevole sensibilità segue lo sviluppo artistico e psicoesistenziale di Van Gogh soprattutto attraverso le immagini dei numerosi autoritratti intercalati a altri quadri Resnée analizza le modificazioni progressive del volto di Van Gogh con un'attenzione particolare agli occhi da prima mobili e vivaci e in seguito sempre più fissi e allucinati la crisi psichica del pittore viene sottolineata con un montaggio più intenso di autoritratti di oggetti luminosi sole stelle lampade che determinano un ritmo frenetico e contrasti espressive violenti fra i differenti materiali impiegati il montaggio di questo film fu davvero innovativo e determinante nella bellezza dell'opera per esempio Resnée utilizza differenti angoli di ripresa per la stessa opera inserisce primi piani sempre più rapidi e intensi fino a chiudere su due occhi allucinati la follia di Van Gogh viene riletta come un'attenzione verso l'assoluto e come il superamento dei limiti umani Resnée cerca di spiegare la vita e la follia con l'arte e la sperimentazione artistica con la vita un aspetto davvero singolare di questo film è che venne girato in bianco e nero che è strano per un film su un pittore Resnée lo fece in parte per risparmiare perché allora il colore costava molto ma anche sostiene per illustrare più adeguatamente l'architettura tragica della pittura di Van Gogh e per creare legami fratele estremamente diverse secondo la critica più autorevole il film costituisce un tentativo rigoroso di restituire con i mezzi linguistici del cinema l'intensità artistica di un altro linguaggio e l'attenzione delirante di un'esperienza estenziale vessuta ai limiti estremi di tutt'altro genere è il lungometraggio hollywoodiano Brama di Vivere del 1956 con un improbabile Kirk Douglas nei panni di Vincent lui così americano mentre Gauguin è meglio interpretato da Anthony Quinn anche questo film è di una regista importante Vincent Minelli che era già diventato famoso con il musical Un americano a Parigi ma è un film sostanzialmente banale con un Van Gogh quasi caricatura di se stesso tutt'altro che banale invece è il film realizzato per la televisione nel 1990 da un terzo regista celebre Robert Altman si intitola Vincent e Theo e racconta in parallelo le vite dei due fratelli con toni che vanno dal commovente all'impietante è un film sulla quotidianità e sull'umanità di Van Gogh più che sulla sua grandezza quello di Altman è un film molto bello ma senza tesi Altman vuole semplicemente raccontare la storia di un mistero come ha scritto di questo film Giorgio Cremonini non dice che la vita di Van Gogh è stata misteriosa e nemmeno ci rivela in che cosa consistesse questo mistero ci costringe a viverlo come spettatori così si spiegano i vuoti le reticenze della narrazione è un film molto suggestivo da artista a artista infine c'è il film sul periodo che stiamo per narrare l'ultimo è un film francese ma reperibile anche in Italia intitolato semplicemente Van Gogh racconta i suoi ultimi tre mesi di vita quindi non vi anticipo la storia però il regista Maurice Pialat coglie bene il rancore sordo che Vincent prova verso suo fratello soprattutto in questi ultimi mesi è un film sottovalutato perché incompreso ed è incompreso perché il Van Gogh di questo film è molto sgradevole al di fuori dell'immagine ufficiale e però è molto vero con le sue depressioni le sue paure le sue angosce e i suoi scatti di ira violenta prima di partire per il nord Vincent scrive a Theo si bisognerà farla finita con questo posto non posso fare contemporaneamente le due cose lavorare e faticare per riuscire a vivere con questi strani malati ne sono sfinito stiamo dunque per metterci sulle orme degli ultimi passi di Van Gogh ma non prima di avere detto di altre disgrazie capitate alle sue opere ci è già successo di raccontare di gruppi interi di suoi quadri venduti a origattiere usati per accendere il fuoco distrutti strappati stavolta gli capita che a ritorno dall'ospedale trova la casa talmente intrisa di umidità perché nessuno aveva acceso il fuoco che tele e studi hanno preso talmente tanta umidità da essere rovinati irrimediabilmente ma stavolta la colpa era di Vincent che se ne disperò molto più che dell'ospedale e del manicomio è stata una debolezza di carattere da parte mia infatti mi restano grandi rimorsi difficili da definire l'ultimo oltraggio gli verrà fatto dai sani dopo la sua partenza da Saint-Rémy Van Gogh aveva lasciato alcune tele in una cassa nel manicomio e il figlio di un dottore un ragazzo le scoprì e disse a un amico che le facciamo usiamole come bersaglio rispose allegramente l'altro detto fatto allinearono le tele su una scalinata e le crivellarono di sassate prima di buttarle via la loro punizione fu di essere abbastanza giovani per scoprire da grandi di avere preso a sassate e buttato fra rifiuti una fortuna che avrebbe sistemato per sempre loro e i loro discendenti la notte fra il 16 e il 17 maggio 1890 Vincent tornò a Parigi pieno d'ansia prima di partire aveva dipinto alcune piccole tele decisamente non fra le sue migliori perché aveva oltretutto ambientato il paesaggio alberi edifici del nord al sole del sud oppure aveva dipinto cipressi che al nord quasi non esistono coperti di neve era come se volesse abituarsi all'idea del trasferimento fondere passato presente e futuro e nei quadri come nella sua vita il risultato fu deludente prima di partire scrive ho ritrovato tutta la mia lucidità per il lavoro ho più idee in testa di quante ne potrei realizzare è vero e vedremo come intanto a Parigi Van Gogh trovò una famiglia felice per la quale però rappresenta un pericolo Teo lo aspetta alla stazione e lo porta a casa in un appartamento bello e luminoso a Pigalle è orgoglioso di mostrargli la sua giovane moglie e il bambino che ha voluto chiamare come Vincent un angelo di tre mesi e mezzo spero che possa diventare qualcuno di importante dice Teo come tutti i padri speriamo risponde Vincent assolidendo misteriosamente e guarda sopra la culla i rami di mandorle in fiore che ha dipinto per il bambino dai rametti secchi e nodosi dell'albero spuntano fiori senza speranza a Parigi sta tre giorni ospite del fratello ricorda Joanna Van Gogh era sempre lieto e pieno di vita non parlamo mai di Saint-Rémy uscì per comprare delle olive che era abituata a mangiare tutti i giorni e che anche noi dovemmo assaggiare di primo mattino era già intento a guardare i suoi quadri di cui la nostra casa era piena erano appesi a tutte le pareti i fruttetti in fiore erano nella camera dal letto in sala da pranzo sopra il caminetto i mangiatori di patate nel soggiorno salone è un termine troppo sontuoso per quella stanzetta così intima e raccolta il grande paesaggio d'Arles e la notte stellata sul Rodano e poi dappertutto con gran disperazione della domestica sotto il letto sotto il divano e gli armadi nella camera degli ospiti c'erano mucchi enormi di tele ancora senza cornice che possammo per terra ed esaminammo attentamente doveva essere uno spettacolo ben suggestivo centinaia di Van Gogh tutti insieme per tre giorni Vincent zampetta fra i suoi quadri che dispone a terra e che mette alle pareti la notte stellata accanto ai girasoli gli iris accanto al campo di grano un giorno addirittura mette in fila tutti gli autoritratti e si lascia guardare da tutti quei suoi occhi allucinati vedere troppi quadri di Van Gogh insieme fa male ci si sente minacciati in pericolo si ha paura che tutto quel mondo catturato sulle pareti ti salti addosso e ti divori ma Vincent ci è abituato li tratta con la confidenza di un domatore che petti nel suo leone adesso se mai avesse avuto qualche dubbio sa per certo quale immenso prodigio ha compiuto e può metterlo a confronto con la vera vita di Theo eccoli a tavola Theo con la moglie che cucina per lui gli dà affetto e sesso ogni volta che ne vuole con il bambino che è il suo futuro nel mondo e Vincent con le sue tele Vincent avrebbe fatto il cambio con il fratello c'è da crederlo a leggere alcune sue lettere scrive sarebbe meglio destinare la creatività a produrre figli piuttosto che quadri mi sono persuaso che è senz'altro meglio mettere al mondo dei figli piuttosto che sublimare la creatività nella pittura in realtà mente per compiacere il fratello al quale scrivere lettere il fratello che ha scelto i figli e quante volte Vincent ha cercato di convincerlo a diventare pittore fra la vita del creatore senza famiglia e la vita del padre senza creazione Van Gogh non ha dubbi ma ormai è troppo debole e troppo allucinato di sé troppo stanco per tentare una mediazione è ormai bruciato e anche se volesse non potrebbe più reggere in nessun senso una famiglia dopo tre giorni passati a Parigi Vincent accetta il consiglio di Teo che in realtà è un ordine perché non lo vuole molto fra i piedi adesso che è una famiglia Teo lo spedisce a Dover sul fiume Was è già un anno che Teo gli parlava di quel posto magnificandolo anche perché lì c'è un medico suo amico il dottor Gachet che potrà stargli vicino Vincent si era mostrato docile già in una lettera dal manicomio di Saint-Rémy dove gli scriveva ciò che tu mi racconti di Dover è per me una prospettiva molto piacevole e sia presto o tardi bisognerà realizzarla se verrò al nord pur supponendo che non ci sia posto in casa di quel dottore dottor Gachet è probabile che egli possa trovare dietro la comandazione di papà Pissarro o tua sia un alloggio presso una famiglia o sia semplicemente in una locanda la cosa principale aggiunge Vincent è conoscere il medico per non cadere nell'eventualità di una crisi in mano alla polizia ed essere trasportato a forza in un ricovero insomma ha molta paura per di più Teo ha fatto capire a Vincent che non potrà continuare ad aiutarlo a lungo dice che gli affari non vanno bene lo si capisce dalle lettere che Vincent gli scrive dopo la visita a Parigi eccone una ho temuto non compitamente ma un po' comunque che aveste paura di me perché sono a vostro carico è proprio così infatti e in un'altra lettera parla delle angosce che mi avevano causato le ore un po' difficili e faticose per tutti noi e che ho trascorso con voi non è cosa da poco sentire tutti insieme in pericolo il pane quotidiano insomma aveva dovuto fare la volontà di Teo Overe non è lontana da Parigi oggi basta un'ora di automobile allora un po' di più in treno prima ci sono i grandi svincoli che portano fuori dalla capitale poi il porto di Parigi i paesotti degli intorni e infine la campagna che è di un verde quasi grigio soprattutto d'inverno la strada va parallela al fiume Oase e sia la strada sia il fiume sono affiancate da pioppi il paesino è tutto stretto attorno alla strada nazionale con un'area antica le casse di pietra scura e ha ancora la severità e la modesta bellezza che ci trovò Vincent al centro del paese c'era la piccola osteria dei coniugi Raveau la più economica dove Van Gogh andò ad abitare e dove morì lì paga poco ma per sovrapprezzo Vincent fa un ritratto alla figlia dei proprietari e glielo regala con il senno di poi la ragazza ricorderà da vecchia la sua pittura mi spaventò un poco per la sua violenza e non mi parve somigliante solo molto più tardi mi accorsi guardando delle riproduzioni che egli aveva saputo scorgere nell'adolescente che ero la donna che sarei diventata perché lo vide nelle riproduzioni questo quadro perché la famiglia lo vendette dopo i funerali di Vincent l'oste ricevette in regalo da te un altro quadro raffigurava il municipio decorato a festa per il 14 luglio anniversario della presa della Bastiglia Monsieur Giroux appesse i due quadri nella retrobottega un giorno anni dopo passò da lì un pittore americano che li vide gli piacquero e offrì 40 franchi per comprarli entrambi 40 franchi era il prezzo di 13 notti d'affitto della camera di Vincent Monsieur Giroux convinto di fare un affare glieli dette volentieri poi in famiglia scherzò su quanto era stato ingenuo quello scialone americano il municipio di Auvers che era di fronte alla locanda è ancora lì identico sembra un nemetto russiano con il suo campaniluccio puntuto in cima al tetto 13 giorni prima di spararsi appunto il 14 luglio Van Gogh lo aveva massacrato raffigurandolo con linee sghembe e incerte quel palazzotto rigido e pieno di sé fino a renderlo una struttura fragile e inaffidabile aveva smascherato la Francia di provincia pomposa e nazionalista imperiale e borghese aveva messo a nudo il simbolo dello stato proprio nel giorno della festa della rivoluzione con quei con quei tricolori stinti e impiccati aveva raffigurato l'anima di una nazione orgogliosa e noiosa nelle sue presunzioni di grandezza quel quadro pagato 20 franchi dall'americano oggi può valere 40 milioni di euro e più si trova ancora negli Stati Uniti in una collezione privata di Chicago dal municipio ci sono poche centinaia di metri prima di voltare a sinistra verso il cimitero prima però appena è iniziata la salita si incontra la chiesa del paese Vincent l'ha dipinta da dietro dall'abside dove non c'è porta e i due viottoli che si fiancheggiano si perdono nel niente la raffigura come una chiesa inaccessibile cupa e contorta minacciosa e ottusa come quella gerarchia ecclesiastica che tanti anni prima gli aveva impedito di diventare sacerdote a proposito della chiesa dopo la sua morte il cadavere di Vincent ebbe un destino che ricorda molto crudelmente la sua vita il fedetro venne deposto sul biliardo dell'osteria cioè in uno di quei loghi dove Vincent aveva trascorso tanta della sua tristezza alle pareti vennero messi i suoi ultimi quadri sulla barra dieci girasoli perché tutti sapevano quanto gli piacevano un altro olandese ospite nella stessa Lucanda si chiamava Tommy Hisking ricordò in seguito quando Vincent morì fu terribile più terribile ancora di quando era vivo dalla barra che era fatta male usciva un liquido fetido tutto era terribile in lui credo che abbia sofferto molto su questa terra non l'ho mai visto sorridere il parroco del paese naturalmente non volle celebrare una funzione funebre visto che si trattava di un suicida e rifiutò persino di prestare il carro per il trasporto al cimitero Matteo ottene almeno di farlo seppellire in terra consacrata in quel dipinto raffigurante la chiesa una donna volta le spalle a Vincent e si allontana in fretta donna e chiesa sono minacciate da un cielo bru profondo e cobalto puro che annuncia del diluvio la strada porta o alla città e alla vita o ai campi e al cimitero ma nel quadro è in primo piano la seconda direzione verso il cimitero sembra quasi una direzione obbligata almeno quando verrà seppellito Vincent non sarà solo oltre a terra e ghiacchè c'erano Lucien Pissarro per Tanguy e l'amico pittore Emile Bernard Bernard ricorderà c'era un sole atroce salimmo le strade di Overt parlando di lui della svolta ardita che aveva impresso alla pittura dei grandi progetti che aveva sempre in mente del bene che aveva fatto a ciascuno di noi insomma parlavano bene di lui come si fa sempre a proposito dei morti soprattutto di quelli che da vivi non si è riusciti o non si è voluto aiutare abbastanza quanto alla stampa la morte di Vincent meritò quattro righe e mezzo su un giornale locale domenica 27 luglio un uomo di nome Van Gogh di 37 anni olandese pittore di passaggio a Dover si è tirato un colpo di revolver nei campi e essendo soltanto ferito è rientrato nella sua camera dove è morto l'indomani era un piccolo episodio di cronaca nera ma torniamo all'arrivo di Van Gogh a Dover Vincent aveva tentato con molta ingenuità di convincere Gauguin a tornare a vivere con lui dopo tutto quello che gli aveva combinato anche Theo aveva tentato di convincere Pissarò a ospitarlo ma invano in entrambi i casi nessuno vuole stare vicino a Vincent nessuno tranne lo strano dottor Gachet che era un amico di Pissarò secondo Theo Gachet aveva anche un altro merito oltre a essere dottore pittore dilettante la bisnonna era fiamminga lui stesso parlava fiammingo e quindi avrebbe potuto parlare con Vincent nella sua lingua se non che Vincent parlava da ormai molti anni soltanto francese e benissimo e non amava affatto parlare nella propria lingua natale quindi questo era casomai un disturbo ma parliamo di questo dottor Gachet che è una figura centrale nella fine di Van Gogh Paul Ferdinand Gachet ha 62 anni è un uomo alto magro rosso di pelo il volto sbieco le occhiaie profonde scurissime secondo Theo potrà discretamente controllare Vincent perché ha conosciuto e amato molti pittori Monticelli Cézanne Manet Domier Sisley Pissarro Renoir Monet Guillaume e poi possiede i loro quadri e continua a dipingere con lo pseudonimo di Paul Van Riesel purtroppo aggiungiamo perché dipinge come un rospo lui lo sa e l'invidia lo rode Gachet si consola facendolo psichiatra ma è pazzo anche lui una pazzia speculare a quella di Vincent perché ognuno dei due è scontento della mezza vita che gli è toccato il dottore la vita senza creazione Van Gogh la creazione ma senza una vita degna di questo nome Vincent appena lo incontra scopre cito le sue parole la malattia nervosa di cui mi sembra soffra in forma grave almeno quanto me e poi in luglio quando lo conosce meglio credo che non si possa contare minimamente sul dottor Gachet anzitutto è più malato di me a quanto mi è parso o almeno altrettanto ora se un cieco guiderà un altro cieco non cadranno tutti e due in acqua Gachet si era laureato con una tesi sulla malinconia ed era egli stesso il più malinconico degli uomini fu lui che dette involontariamente certo il colpo di grazia a Vincent per lui la malinconia è diffusa in tutta la natura scrive che vi sono animali vegetali pietre addirittura che sono melanconiche il ragno il gufo il rospo i rettili sono melanconici e aggiungiamo figuriamoci gli uomini si farebbe prima elencare i grandi personaggi della storia che secondo Gachet furono melanconici piuttosto che dire quelli che non lo furono insomma in definitiva Gachet non cura in nessun modo Vincent se non incoraggiandolo a andare nei campi a lavorare ai suoi quadri ovvero spingendolo sempre di più verso quella disperazione esistenziale e cosmica che lo avrebbe portato al suicidio Vincent fa a Gachet più di un ritratto e negli occhi del medico c'è la stessa luce demente che Gauguin aveva messo in quelli di Van Gogh Gachet è un vero pericolo per Vincent ma Teo non se ne accorge o se se ne accorge non se ne cura come aveva previsto Vincent ora Teo è tutto preso dalla famiglia e continua a scrivergli che i soldi non gli bastano a sfamare tutte quelle bocche Vincent gli risponde appena arrivato a Auvers ecco per conto mio sento che questa sorte l'accetto e che non cambierà più e la prospettiva si incubisce non vedo affatto un futuro felice gli rimangono 70 giorni da vivere Vincent dipinge moltissimo in quel paesaggio meno solare della Provenza sente la fine vicina all'inizio sembra affascinato soprattutto dalle nuvole che raffigura al solito come animate mosse da un'intima forza misteriosa che non è affatto quella del vento lavora tutto il giorno si è detto va a letto alle nove di sera e si alza alle cinque dipingere e scrive è quel che posso fare di meno peggio tutto il resto è molto secondario nei 70 giorni scarsi che visse a Auvers dipinse 70 quadri e almeno 30 disegni cominciava una tela nuova subito dopo aver dato l'ultima pennellata alla precedente come se il tempo gli mancasse e sentiva che il tempo gli mancava il figlio di Garchet allora un bambino ricordò in seguito di come rimase impressionato dal modo di dipingere di Vincent prima di stendere sulla tela alcuni tocchi di colore ogni volta gettava indietro la testa per contemplare con gli occhi socchiusi il cielo poiché ero anch'io figlio di un pittore e non avevo mai visto dipingere così pensai purché duri se non si piglia un torcicollo costui non capisco più niente curiosa questa famiglia con il bambino che da grande paragona sullo stesso piano la pittura di suo padre quella di Van Gogh il 3 giugno Vincent scrive a Teo la salute va bene spero anche di continuare così perché mi sento molto più sicuro del mio pennello di prima che andassi a darla e Monsignor Garchet dice che gli sembra improbabile una ricaduta e che va proprio bene l'acuto dottor Garchet aggiungiamo noi di uno dei due ritratti che gli fece Vincent scrive ho fatto il ritratto del signor Garchet con una espressione di malinconia per forza direi che spesso a chi guarderà il quadro potrà sembrare una smorfia eppure è così che bisognerebbe dipingere perché solo in questo modo ci si può rendere conto come in confronto ai ritratti calmi degli antichi i nostri attuali abbiano l'espressione della passione e come dell'attesa e come di un grido triste ma dolce chiaro e intelligente così bisognerebbe fare l'espressione dei ritratti ciò sembrerà ancora un po' strano alla gente e ci sono delle teste moderne che si guarderanno ancora per molto tempo che si rimpiangeranno forse dopo cento anni per la verità non nessuno credo che rimpianga la testa del dottor Gachet ma torniamo al nostro Vincent che riceve l'unica visita di Teo con moglie e figlio l'8 giugno di quel 1890 Vincent andò a prendere la stazione felice portando indorno per il bambino di neanche sei mesi un nido che aveva prelevato da un albero nell'unica visita che Teo Van Gogh e la sua famiglia fesero a Vincent pranzarono all'aperto nel giardino del dottor Gachet Vincent insistette molto per mostrare al suo piccolo omonimo il nipotino tutte le bestie che c'erano in giro cani gatti occhi galline conigli tacchini pavoni capre poi si lamentò credo che non ne abbia capito un granché sfido aveva sei mesi il bambino poi naturalmente tutti fecero una gara in ricordare quanto Vincent amasse i bambini e fosse affettuoso con loro ma basta guardare un quadro che fece a due neonate per capire come la pensasse davvero una allo sguardo e l'espressione addirittura crudeli gli occhi beffardi e cattivi l'altra sembra instupidita a Teo però scrive spesso spesso al piccolo credo che sia certamente meglio tirare su dei figli piuttosto che consumare tanta energia nervosa per fare dei quadri ma cosa volete farci ora io sono perlomeno mi sento troppo vecchio per ritornare sui miei passi o per aver voglia di altro questa voglia mi è passata benché il dolore morale sia rimasto Teo lo invita a Parigi soltanto per un giorno il 5 luglio per distrarlo invita anche Toulouse Lothraeca ma Vincent ha fretta di tornare ad Overt quella vita di famiglia in realtà non gli appartiene vuole andare incontro al proprio destino e il suo destino è nel piccolo cimitero quadrato di Overt con il suo borricciolo basso in discesa verso il fiume se si svolta a sinistra e si fanno ancora cento passi si trova il punto dove Vincent dipinse il campo di grano con volo di corvi oggi celeberrimo e ritenuto ma erroneamente l'ultima opera di Van Gogh mentre invece precede di venti giorni la sua morte poco prima di suicidarsi aveva scritto io sono completamente preso dall'immensa pianura con i campi di grano contro le colline senza confini come un mare di un giallo di un verde tenero e il suo campo di grano con volo di corvi ha proprio questi colori il campo è un mare in tempesta sotto un cielo minaccioso anche qui ci sono tre viottoli che portano al grano e al cielo ma l'aggressione dei corvi nel quadro non permette di andare avanti blocca come se chiudesse il sentiero centrale naturalmente poi molti critici vi hanno visto l'autorapresentazione della vita di Van Gogh certamente è vero che il volo dei corvi i veri protagonisti del quadro sembra pronunciare un dramma volano ali spiegate tenerissimi disordinati sembra di sentirli urlare mentre cercano una preda a Theo riguardo questo quadro Vincent scrive sono campi estesi di grano sotto cieli agitati e non avevo bisogno di uscire dalla mia condizione per esprimere tristezza e solitudine estrema romanticamente molti credono che Van Gogh si sia ammazzato proprio lì perché la versione ufficiale dice che si è sparato nei campi il perbenismo dei suoi contemporanei e dei suoi biografi successivi gli ha tolto la fama dell'ultimo oltraggio che Vincent volle fare alla società nessuno infatti ha voluto prendere in considerazione l'unica testimonianza precisa sul luogo dello sparo quella del maestro elementare Charles-François Dobigny che gli voleva bene quella domenica di luglio Vincent uscì da casa si diresse verso la frazione di Chaponval e prese Ribescher e poi entrò nel terreno di una piccola fattoria che ora non c'è più camminò un poco poi si stesse nella buca dell'etame e si sparò con la pistola che si era fatta prestare dal proprietario della locanda per scacciare i corvi mi disturbano mentre dipingo aveva detto la buca dell'etame pensate non c'è posto più assurdamente logico di una buca dell'etame per un uomo che considera così poco la propria vita da volersene liberare nel cimitero di Auvers le tombe sono quasi tutte grigie quelle antiche e quelle moderne più o meno solenni però più sono solenni e più la morte appare invincibile e si fa beffe di quel tentativo di ricordo sulle pietre più antiche quasi non si legge il nome non hanno un fiore e nessuno saprebbe dire che il sorriso aveva chi è finito là accompagnato da chissà quanti pianti c'è una tomba particolarmente piena di sé che attira l'attenzione è un tempietto con colonne tetto alberi piante tutta di marmo e c'è scritto grande Emil Brogio o Brogio chissà artist painter 1857 1920 doveva essere un bel tipo questo Brogio un pittore ignoto che si è fatto fare un monumento proprio qui quando già Van Gogh c'era sepolto da trent'anni sotto la nuda terra ed era però considerato da tutti uno dei maggiori pittori della sua epoca se non il maggiore questo Emil Brogio aveva quattro anni meno di Vincent forse lo vedeva ripingere per le strade di Auvers e rideva dei suoi quadri poi Van Gogh è diventato Van Gogh Brogio è rimasto Brogio ma se gli deve essere presa l'invidia e si è fatto fare una tomba più bella di lui o forse ha voluto consolarsi in morte di quello che non aveva avuto da vivo o permettersi anche dal morto il lusso che aveva goduto da vivo chissà i cimiteri non ci dicono mai abbastanza di chi vi è sepolto ecco per esempio le due semplicissime lapidi di Teo e Vincent addossate al muro nella parte più alta del campo è una bella posizione solleggiata che guarda il fiume sulle pietre ci sono solo i nomi e le date nient'altro la terra è coperta da una pianta di edera che unisce in un unico tappeto le due tombe ma che ci falli Teo? Vincent non aveva mai detto di volerlo accanto e Teo non sopportava di avere accanto Vincent da vivo Teo morì appena sei mesi dopo Vincent il 25 gennaio 1891 ha appena 33 anni ma non di crepacuore come si è tentato di far credere era malato forse di sifilide quando morì Vincent se ne stava tranquillo in un punto qualsiasi del cimitero sotto una tomba senza niente e ci rimase per parecchio per più di 20 anni finché nel 1914 la vedova di Teo ormai ricchissima grazie a Vincent fece spostare dall'Olanda il cadavere di Teo estirpò dalla terra la barra di Vincent e li accoppiò proprio in quel punto l'ingiustizia mi sembra palese ci sono altri grandi morti che amano Van Gogh senza averlo mai conosciuto e che meriterebbero di più di stargli accanto fra i tanti intellettuali che abbiamo citato in questo racconto ecco l'ultimo lo scrittore francese Pierre Dries della Rochelle come viene chiamato comunemente era nato tre anni dopo la morte di Van Gogh e morì suicida anche lui nel 1945 era uno spirito tormentato che passò dal comunismo giovanile addirittura all'appoggio del nazismo e il suo libro più famoso Fuoco Fatuo racconta appunto la storia di un suicidio Un anno prima di uccidersi Dries aveva iniziato un romanzo sulla vita di Van Gogh che si intitola Le memorie di Dirk Rasp è un libro molto bello che scava in profondità il rapporto di un pittore tormentato con il mondo le donne e le esigenze della sua creatività che vince su tutto però a metà del libro Dries si uccise si dice che lo fece perché aveva paura di essere imprigionato per il suo passato fascista era in marzo del 45 la guerra stava per finire e certo lo avrebbero processato ma si capisce secondo me da molti passi del libro che si uccise perché suggestionato dalla vita di Van Gogh nella quale si identificava volle rendere Vincent simile a sé e se stesso simile a Vincent cito un passaggio di questo libro perfezione assoluta è uccidersi appena si capisce che non si potrà fare niente di meglio di quel che si è già fatto per Drier tutto è perfetto in Van Gogh per esempio il problema dei vestiti Drier dice che è tipico dei poveri volersi vestire come ricchi volerli più possibile imitare e da qui deriva la loro bruttezza che non è altro che una forma di ridicolo e da qui deriva anche la loro sofferenza provate a vestire da povero un povero non capisce non vuole si offente Vincent invece anche in questo era perfetto secondo Drier Vincent era perfetto anche nella bruttezza e riuscì a prendere a pretesto la propria bruttezza per farne il nucleo di una fatalità sempre più implacabile perfezione anche questa oppure prendiamo il problema delle donne anche Drier aveva sempre amato e frequentato le prostitute perché cito le prostitute sono leggere e non fanno perdere tempo all'arte le altre vogliono essere felici terrenamente felici per le prostitute il sesso è fonte di denaro non di felicità per questo non ci fanno paura perfettamente corrispondente al ritratto di Van Gogh ma Drier ma Drier anche con le prostitute non riuscì mai ad avere un rapporto così puro così semplice come ce l'aveva Vincent a volte le amava a volte le disprezzava a volte si incuriosiva di loro o le compativa ma mai riuscì davvero a usarle semplicemente un altro intellettuale che in quel cimitero sarebbe un compagno più adatto a Van Gogh perché lo amava tantissimo era Antoine Artaud lo abbiamo già citato tanto e ricordiamo che Artaud odiava gli psichiatri che lo hanno imprigionato lungamente in manicomio e Artaud attribuisce anche a Vincent pensieri che certamente aveva avuto Vincent vittima di uno dei primi psichiatri il dottor Gachet per Artaud una società malata ha inventato la psichiatria per difendersi dalle indagini delle menti superiori di cui non sopporta la facoltà di divinazione e secondo Artaud il dottor Gachet ha condotto al suicidio Vincent per conto della società l'hanno ucciso perché rivelava all'umanità di vivere sopra un'immensa bestia immonda questa terra fatta di carne ostile di collera di viscere sventrate rovinava la poesia della natura non sarebbero più riusciti a camminare in un prato se lo lasciavano fare così hanno detto che era pazzo gli hanno fatto credere di essere pazzo per Artaud la sola risposta dell'uomo veramente sano è la follia che è il primo passo verso la salute contro la repressione l'integrazione la negazione di sé se la società soffoca le più profonde espressioni della vita non resta che la follia per liberarsi è ancora di Artaud questo pensiero bellissimo come spiegare a uno scienziato che c'è qualcosa di alterato per sempre nel calcolo differenziale nella teoria dei quanti e nelle oscene e così ingenuamente liturgiche ordalie delle precessioni degli equinozi a causa di quel piumino rosa gambero che Van Gogh dipinge così dolcemente sul letto della sua camera come spiegare agli uomini semplici che non potranno più capire un cielo una pianura un fiore un viso d'uomo senza rifarsi a Van Gogh dovrai spiegare loro che Vincent non era pazzo non come loro lo intendono Artaud con tutto il suo odio per gli psichiatri dette la colpa di tutto la colpa immediata del suicidio di Van Gogh all'invidia di Gachet ma Gachet poveretto era così sciocco da non avere capito niente di Van Gogh la prova è che non spese un solo franco per comprare uno dei 70 quadri che gli vennero dipinti sotto gli occhi che tutti i giorni gli venivano mostrati si tenne ben attaccato al suo denaro alla sua mezza vita e morì di noia a 81 anni pensate che non si offrì neanche di comprare uno dei due ritratti che Vincent gli fece uno è stato venduto pochi anni fa a un'asta a New York per 82 milioni e mezzo di dollari non tento neanche di fare il conto esatto di quanto sono in euro visto che l'euro cresce ogni giorno ma saranno almeno 70 milioni di euro è la cifra più alta mai pagata per un pittore moderno anche perché i Van Gogh in vendita naturalmente sono pochissimi oggi bene quel quadro Gachet non lo chiese neanche in dono non offrì un centesimo per averlo Gachet non capisce niente neanche quando Vincent sta per ucciderlo accade che un giorno Van Gogh nota fra le tele di Gachet un magnifico nudo di cui è man non ancora incorniciato Vincent protesta per questa mancanza di riguardo e gli ordina di mettere subito una cornice al quadro Gachet non ci fa caso lascia perdere e quando Vincent torna dopo qualche giorno la cornice ancora non c'è il quadro è sempre lì abbandonato allora Vincent infila la mano nella tasca dove tiene la pistola che ha avuto in prestito con un'aria minacciosissima possiamo immaginarlo ma all'ultimo momento ci ripensa estrae vuota la mano e se ne va gli psicanalisti a proposito di questo episodio dicono che funzionò il medesimo meccanismo mentale già scattato per il taglio dell'orecchio ovvero tentata aggressione a Gauguin con il rasoio senso di colpa e autopunizione con lo stesso rasoio e taglio dell'orecchio quindi tentata aggressione a Gachet senso di colpa autopunizione con la stessa pistola io non lo credo perché non c'era nessun senso di colpa in Van Gogh piuttosto un desiderio irresistibile di distruzione e di morte ma ogni volta capì che distruggere e uccidere altri non era sufficiente bisognava uccidere se stesso gli psicanalisti dicono anche che Van Gogh si uccise perché si sentiva sostituito dal bambino nell'affetto di Theo e temeva che non avrebbe più ricevuto denaro ma è una spiegazione che non regge se così fosse si sarebbe ucciso messi prima Van Gogh si uccise perché non ce la faceva più non ce la faceva più soprattutto da quando si è accorto a Dover che lo aspetta ancora un compito immenso è l'ultimo e il più grande degli impressionisti è il primo e il più grande dei Faux ha inventato l'espressionismo ed è addirittura sul punto di rivelare al mondo l'astrattismo e l'informalismo lo scrisse se osassi lasciarmi andare rischierei ancora di più a uscire dalla realtà a fare con il colore come una musica di toni ma la verità mi è così cara e il cercare di fare il vero anche insomma credo di preferire ancora di essere calzolaio che non musicista di colori è una lettera del 12 febbraio 1890 ma in realtà non è una questione di evoluzione artistica a Overt Vincent ha paura è un uomo solo e debole e non ce la fa più a sopportare quella sua oscena intimità con l'universo il 27 luglio è domenica Vincent si sveglia alle 5 come al solito ma al contrario del solito non va nei campi a dipingere sta su una sedia in quella stanza minuscola senza finestre che prende aria da un piccolo lucernario fuma la pipa mangia olive verdi come al solito sta immobile per ore e nessuno saprà mai cosa pensa a un certo punto va al tavolino e inizia una lettera a Teo l'ultima è una lettera un po' sconclusionata che però comincia come decine di altre mio caro fratello grazie della tua cara lettera e del biglietto di 50 franchi che conteneva che tu mi rassicuri sulla tranquillità della tua vita familiare non valeva la pena credo di aver visto il lato buono e il suo rovescio e del resto sono d'accordo che tirar su un marmocchio in un appartamento al quarto piano è una grossa schiavitù sia per te che per Joe poiché va tutto bene che è ciò che conta perché dovrei insistere su cose di minima importanza in fede mia prima che ci sia la possibilità di chiacchierare di affari a mente più serena passerà molto tempo ecco l'unica cosa che in questo momento ti posso dire e questo da parte mia l'ho constatato con un certo spavento e non l'ho ancora superato è una frase senza senso proprio come ve la leggo ma per ora non c'è altro gli altri pittori che che ne pensino si ritengono istintivamente lontani dalle discussioni sul commercio attuale e poi è vero noi possiamo far parlare solo i nostri quadri eppure mio caro fratello c'è questo che ti ho sempre detto e che ti ripeto ancora una volta con tutta la serietà che può venire da un pensiero costantemente teso a cercare di fare il meglio possibile te lo ripeto ancora che ti ho sempre considerato qualcosa di più che un semplice mercante e che tu per mezzo mio hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri che pur nel fallimento totale conservano la loro serenità perché siamo a questo punto e questo è tutto o perlomeno la cosa principale che io posso dirti in un momento di crisi relativa in un momento in cui le cose fra i mercanti di quadri di artisti morti e di artisti vivi sono molto tese pur nella sua confusione Van Gogh alludeva evidentemente ai rapporti fra il mercante Theo e il pittore Vincent ecco la conclusione dell'ultima lettera di Vincent Van Gogh al fratello Theo ebbene nel mio lavoro ci rischio la vita e la mia ragione vi si è consumata a metà nel mio lavoro ci rischio la vita e la mia ragione vi si è consumata a metà non termina la lettera se la mette in tasca in un'altra tasca mette la pistola poi scende per la colazione forse è il suo ultimo tentativo di salvarsi tanti anni prima aveva scritto da Londra ho fatto colazione con un pezzo di pane secco e un bicchiere di birra è quanto Dickens consiglia a coloro che vogliono suicidarsi come un ottimo rimedio per distoglierli almeno temporaneamente dal loro proposito è meglio farsi buon sangue che suicidarsi ma questi trucchetti non gli bastano più nel mio lavoro ci rischio la vita nonostante questa frase sono stati scritti e si scriveranno centinaia di libri per capire come mai Van Gogh si è ucciso dopo mangiato si alza da tavola e esce per la prima volta senza cavalletto tela e colori ma la pistola è un pennello con quel colpo Vincent non si uccide si termina fa un caldo terribile ma mentre si avvia verso la campagna incontra paesani e contadini vestiti di tutto punto che scendono in piazza per la domenica lui arriva fuori dal paese con il suo solito passo veloce ingobbito puzza risodore i capelli corti e rudi sono sporchi indossa pantaloni scuri macchiati di terra e grosse scarpe da contadino ha una camicia bianca senza colletto e nonostante il caldo fortissimo una giubba da operaio blu quella che indossa da anni come mai oggi non si è messo il cappello aprendo la bocca nella camminata rapida mostra una dentatura gialla di nicotina nera di cavie e metallica di acciaio il sole è alto vincent fa ancora qualche centinaia di metri entra in una buca dell'etame accende la pipa fuma con calma l'intera carica la vuota la rimette in tasca prende da un'altra tasca la pistola e si spara un piccolo sparo indeciso e debole si era tagliato solo un po' d'orecchio e si spara solo un po' non alla testa né al cuore si spara proprio sotto le costole a sinistra all'altezza dell'ombelico puntando la canna verso l'alto la pallottola buca la carne attraversa la cavità pleurica e si conficca vicino ai grandi vasi della colonna vertebrale e del diaframma non era una ferita grave oggi lo avrebbero salvato forse lo avrebbero salvato anche allora se avesse avuto cure mediche adeguate Vincent rimane nelle tame per chissà quanto tempo aspettando di vedere se muore o se qualcuno viene a prendersi cura di lui ma non si spara un secondo colpo anzi butta la pistola che non verrà più ritrovata quando fa buio torna disciplinatamente in albergo barcollando sembra ubriaco ma è dai tempi del manicomio che ha smesso di bere mantenendo con forza il proposito di non farlo più ma cosa pensava Vincent della morte o meglio di quello che c'è dopo la morte aveva speranza che la sua esistenza in qualche modo proseguisse a parte naturalmente la vita che avrebbe avuto la sua opera come ricordiamo Vincent non crede in Dio e però ha qualche pensiero sull'esistenza ultraterrena due anni prima Dahl aveva scritto una lettera molto significativa in proposito ve lo leggo la scienza il ragionamento scientifico mi sembra essere uno strumento che andrà molto lontano ecco perché si supponeva un tempo che la terra fosse piatta era vero lo è ancora oggi da Parigi ad Asnier per esempio il che non impedisce che la scienza dimostri che la terra è soprattutto rotonda il che ora nessuno si sogna di contestare attualmente nonostante tutto ciò crediamo ancora che la vita sia piatta e che vada dalla nascita alla morte solo che anch'essa la vita è probabilmente rotonda e molto più vasta in estensione e in capacità dell'emisfero che noi attualmente conosciamo nelle future generazioni è probabile che faremo luce su questo argomento così interessante e allora la scienza stessa potrà speriamo arrivare a delle conclusioni più o meno parallele alle dichiarazioni di Cristo relative all'altra metà dell'esistenza insomma Vincent credeva a una vita dopo la vita probabilmente questo gli fu di consolazione ma quando si uccide quando si uccide la vita gli si presenta sotto l'aspetto dei corvi che volano sul campo su quel campo nel quale si identifica nel quale ha versato tutte le sue energie e allora voglio leggere un'ultima pagina di Artot su quel quadro con i corvi una linea macabra di corvi neri su un paesaggio di terra convulsa un mare scatenato di onde di terra vinaccia una formidabile schiuma di onde di melma rosse come la vinaccia sulla quale una linea di corvi pende come una vecchia tenda che ricade una linea di corvi che si sfalda su un mare di vinaccia convulso una formidabile schiuma di un vino che avesse intasato la terra perché questo mare è una melma di materia massicciamente sporca e carminiata vincent non ce la fa più a reggere tutto questo vincent si tiene il ventre zoppica la testa gli pende dalla parte dell'orecchio mozzato ai padroni dell'albergo preoccupati dice che non ha niente che avete o nulla mi sono ferito risponde van gogh e sale lentamente i 17 gradini che portano alla piccola manzarda dove abita sale sul letto a fatica la faccia rivolta al muro la luce fiocca entra dalla filestrella sul soffitto da sotto però lo sentono lamentarsi e monsieur Giroux il proprietario sale per vedere cosa succede gli chiede ancora che cosa e finalmente vincent dice ecco e mostra un piccolo foro sanguinante sulla camicia ma che avete fatto mi sono sparato speriamo di non essermi mancato viene subito chiamato il medico del paese il dottor mazzerì che lo esamina alla luce di una candela non si può estrarre il proiettile non resta che aspettare e vedere se si riprende arriva anche Gachet Van Gogh chiede di fumare e da questo momento non abbandonerà più la pipa è un ottimo rimedio contro la malinconia dice per fare piacere a Gachet che come ci ricordiamo ha una fissazione sulla malinconia Gachet gli dice che probabilmente si salverà è da rifare allora risponde Vincent arriva la polizia e stavolta Van Gogh ha pronta la frase che non gli era venuta quando si era tagliato l'orecchio e la polizia di Arles l'aveva tanto tormentato con interrogatori per quel gesto stravagante ecco la frase che dice quel che ho fatto non riguarda che me sono libero di fare del mio corpo ciò che voglio e rifiuta di dire qualsiasi altra parola alla polizia a quel punto anche Gachet va a dormire e lascia lì un figlio passa la notte torna il giorno fa un caldo torrido sotto il tetto della mansarda i dolori dell'infezione sono tremendi ma nessuno gli dà niente contro il dolore Vincent dice ma non c'è nessuno capace di aprirmi la pancia è circondato di nuovo dai proprietari della locanda da Gachet e dai loro figli a chi gli chiede e spiega gentilmente mi rompevo troppo le scatole e allora mi sono ucciso ma nessuna lingua può tradurre bene il verbo che usò in francese je m'ammerdé per questo si sparò nella buca dell'etame nessuno gli apre la pancia nessuno chiama altri medici e nessuno pensa di trasportarlo a Parigi è un povero pazzo che si è sparato era inevitabile prima o poi Gachet intanto ha mandato d'urgenza con i mezzi che c'erano allora un biglietto a Theo che arriva finalmente un giorno dopo la prima cosa che gli dice Vincent come per scusarsi è ancora mancato Theo lo abbraccia piange chiede perché Vincent risponde non piangere l'ho fatto per il bene di tutti fa sempre più caldo Vincent Van Gogh puzza di sangue sudore e merda le mosche ronzano ovunque e cercano di avvicinarsi alla ferita Theo lo rassicura gli dice che guarirà ma Vincent vede più lontano è inutile la tristezza durerà tutta la vita la tristezza dura tutte le ore che gli restano in quella compagnia noiosa a luna e trenta di notte il 29 luglio sviene e finalmente muore due anni prima Vincent aveva scritto al fratello noi artisti paghiamo un prezzo incredibilmente alto di salute di giovinezza di libertà delle quali non dobbiamo godere nulla proprio come il ronzino che tira una carrozza di gente che godrà loro si la primavera alle otto della sera Vincent van Gogh di Giordano Bruno Guedri regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle otto della sera chiocciolarai.it per riascoltarci per il podcasting www.radiodue.rai.it Radio 2 Grazie a tutti